Domenica 9 marzo Avanti allora, è un momento penoso, quasi insormontabile. Devo affidare il mio animo represso a uno stupido foglio di carta a righe. I pensieri sono spesso così chiari e limpidi nella mia testa, i sentimenti così profondi, ma non riesco ancora a metterli per iscritto. Deve essere più che altro la vergogna. Mi sento molto impacciata, non ho il coraggio di lasciarmi andare, ma sarei pur necessario se voglio indirizzare la mia vita verso un fine ragionevole e soddisfacente. È come nel rapporto sessuale. Alla fine il grido liberatore rimane sempre chiuso in petto per timidezza. Ma da un punto di vista erotico sono piuttosto raffinata, direi quasi abbastanza esperta, perché mi si consideri una buona amante. L'amore sembra perfetto allora, e invece rimane una spielerai che gira intorno alle cose essenziali, mentre qualcosa resta bloccato nel profondo di me stessa. E così è in generale. Da un punto di vista intellettuale sono tanto fortunata ad essere in grado di esprimere ogni cosa con formule chiare. Quando si tratta di problemi della vita, posso spesso apparire come una persona superiore. Eppure nel profondo di me stessa io sono come prigioniera di un gomitolo aggrovigliato e con tutta la mia chiarezza di pensiero a volte non sono altro che un povero diavolo, impaurito. Vorrei fissare quel momento di stamattina, per quanto mi sia già quasi sfuggito. Per un istante, a forza di pensare, ero riuscita a impadronirmi di esse. I suoi occhi limpidi e puri, la grossa bocca sensuale, la statura massiccia quasi taurina, i movimenti liberi e leggeri come piuma. Il conflitto tra corpo e anima, che in quest'uomo di 54 anni è ancora vivissimo. Sembra quasi che io stessa sia schiacciata sotto il peso di quel conflitto. Sono come seppellita sotto quella grossa personalità e non riesco a liberarmene. E intanto i miei problemi, che mi sembrano abbastanza simili, si agitano e si dibattono. Si intende che è tutto molto diverso e difficile da esprimere. Forse non sono ancora abbastanza spietata con me stessa. E d'altra parte non è facile penetrare con le parole fino nel fondo delle cose. Prima impressione, dopo pochi minuti, una faccia non sensuale, non olandese, un tipo in qualche modo familiare. Mi faceva pensare ad Abrasch, non del tutto simpatico. Seconda impressione, occhi grigi intelligenti, incredibilmente intelligenti, vecchissimi, che riuscivano per un po' ma non a lungo a distogliere l'attenzione dalla grossa bocca. Molto impressionata dal suo lavoro. L'analisi dei miei conflitti profondi attraverso la lettura del mio secondo volto, le mani. A un certo punto colpita, in modo molto spiacevole. Non avevo fatto attenzione. Pensavo stesse parlando dei miei genitori. No, si tratta di lei. Dotata filosoficamente e intuitivamente. Poi seguivano altre delizie simili. Tutto questo è lei. E lo diceva col tono. Di che mette un biscottino in mano a un bimbetto. Non sei contento adesso? Bene, lei possiede tutte queste belle qualità. Non è contenta adesso? Allora un breve istante di repulsione. In qualche modo umiliata. Forse anche semplicemente punta sul vivo nel mio senso estetico. In ogni caso, lo trovavo piuttosto indisponente. Ma più tardi, c'erano di nuovo quei meravigliosi occhi così umani, che venendo da grigie profondità erano posati su di me, indagatori. Mi avrei baciati volentieri. E già che ci sono, ricordo ancora un altro momento in cui, quello stesso lunedì mattina, e sono passate ormai settimane, mi ero seccata. Era la sua allieva, la signorina Olma. Un anno fa, coperta di eczema dalla testa ai piedi, era venuta da lui. Poi era diventata sua paziente, ora è guarita. E in un modo o nell'altro lo adora, anche se non so ancora bene come. A un certo punto la mia ambizione si era fatta sentire, nel senso che io insistevo nel risolvere i problemi miei. E la signorina Olma aveva risposto significativamente, non si è soli al mondo. E questo mi pareva gentile e convincente. Dopodiché aveva raccontato di quell'eczema che l'aveva ricoperta tutta, anche in faccia. Ed esse si è girato verso di lei, con un gesto che non riesco più a ricordare con precisione, ma mi era parso molto antipatico. E che carnagione ha, adesso, hm? Sembrava che stesse parlando di una mucca alla fiera. Non so, l'avevo trovato disgustoso, sensuale e un po' cinico, ma allo stesso tempo era anche diverso. E alla fine della nostra seduta, ora domandiamoci, come possiamo aiutare questa persona? Ma può anche essere che dicesse, questa persona va aiutata. A quel punto, io ero già stata conquistata, dalle capacità che aveva dimostrato nei miei confronti, e mi sentivo bisognosa d'aiuto. Poi c'era stata la sua conferenza. C'era andata unicamente per poterlo osservare da una certa distanza, prima di affidarmi a lui con l'anima e tutto quanto. Buona impressione, conferenza di primordine. Un uomo incantevole. E un sorriso incantevole, malgrado tutti quei denti finti. Colpita da una sorta di libertà anteriore che emanava da lui, dalla sua scioltezza e facilità, dalla grazia del tutto speciale di quel corpo pesante. Il suo viso era ancora diverso. Del resto cambia sempre. Una volta tornata a casa, non riesco a ricordarmelo. Faccio combaciare gli aspetti che conosco come se fossero i frammenti di un puzzle, ma non ottengo l'insieme compiuto. Rimane vago, rimane vago per tutte quelle contraddizioni. In rari istanti rivedo nitidamente quel viso, poi torna a scomporsi in tanti pezzetti contradditori. E un vero tormento. A quella conferenza c'erano molte donne e ragazzine graziose. Era commovente l'affetto quasi tangibile che alcune ragazze ariane dimostravano per lui, per questo ebreo emigrato da Berlino che era venuto da lontano per mettere ordine nel loro animo confuso. Nel corridoio c'era una ragazza, ma grulina, dall'aria fragile e dal falcino non proprio florido. Essi aveva scambiato qualche parola con lei nell'intervallo e quella ragazza gli aveva sorriso con una tale dedizione e intensità e così dal profondo della sua anima che mi aveva fatto quasi male e mi aveva preso come una vaga scontentezza il dubbio che una cosa del genere non fosse del tutto lecita. Il pensiero che quell'uomo rubasse il sorriso di quella ragazza, che tutti i sentimenti che lei gli rivolgeva fossero sottratti ad un altro, a un uomo che lei avrebbe avuto più tardi. In fondo era una cosa bassa e disonesta e lui è un uomo pericoloso. Visita seguente. Posso spendere 20 fiorini. Bene, lei può venire per due mesi e anche dopo non la pianterò in asso. Ed eccomi là con la mia costipazione spirituale e lui doveva mettere ordine nel mio caos interiore, venire a capo delle forze contradditorie che operano in me. Mi ha presa come per mano e mi ha detto ecco, devi vivere così. Per tutta la mia vita ho desiderato che qualcuno mi prendesse per mano e si occupasse di me. Magari sembra una persona coraggiosa che ha fatto tutto da sé e invece mi abbandonerai così volentieri alle cure di un altro. E ora questo sconosciuto, questo signor S dal viso complicato ha compiuto miracoli in una settimana. Ginnastica, esercizi di respirazione, parole illuminanti e liberatrici sulle mie depressioni, sui miei rapporti con gli altri, eccetera, eccetera. All'improvviso ho cominciato a vivere in modo più libero e scorrevole. Quel senso di costipazione è sparito. Nella mia anima c'è un po' più di ordine e un po' più di pace. Adesso è ancora l'influenza della sua personalità magica a produrre questo effetto, ma in futuro si formerà una base nella mia psiche. Sarà un processo cosciente. Ma ora, attenzione, corpo e anima sono una cosa sola. Deve essere stata questa la ragione per cui S aveva voluto valutare le mie forze fisiche facendo la lotta con me. Evidentemente avevo ancora molte energie e è successo un fatto strano. Ha buttato a terra quest'uomo grande e grosso. Tutta la tensione e la forza che avevo accumulato si sono scatenate ed ecco la terra, fisicamente e anche psichicamente, come mi ha raccontato più tardi. Nessuno ci era mai riuscito. Non capiva come avessi fatto. Sanquinava dal labbro e aveva avuto il permesso di lavaglielo con acqua di colonia. Era un'operazione stranamente confidenziale. ma lui era così libero, innocente, aperto, naturale nei suoi movimenti anche quando eravamo arrotolati insieme per terra. Anche quando, vinta, alla fine mi ero trovata sotto di lui tutta rigida fra le sue braccia. Anche allora S era rimasto oggettivo e puro sebbene io avesse ceduto per un momento alla seduzione fisica che emanava da lui. Però quella lotta andava ancora bene era soprattutto una novità e insieme una liberazione. Dopo invece aveva eccitato troppo la mia fantasia. Il mondo rotola melodiosamente dalla mano di Dio. Ho avuto in mente queste parole di Verwey per tutto il giorno. Anch'io vorrei rotolare melodiosamente dalla mano di Dio. E ora buonanotte. lunedì mattina le nove Cara mia o tu ti metti a lavorare oppure la vedrai e non tirarmi fuori che qui hai un po' di mal di testa lì un po' di nausea e che adesso non stai bene. Sarebbe del tutto fuori luogo. Devi lavorare e basta e niente fantasie e altissimi pensieri e profonde intuizioni. Svolgere un tema di traduzioni e trovare le semplici parole giuste è molto più importante. mi batterò fino in fondo voglio levarmi quei sogni e quelle fantasticherie voglio spazzare bene il mio animo per far posto ai miei studi piccoli e grandi. In fondo io non ho mai lavorato bene. È come col sesso se un uomo mi fa una certa impressione sono capace di abbandonarmi per giorni e notti alle mie fantasie erotiche e non mi sono mai resa conto di quante energie io abbia consumato per questo ma se poi si arriva ad un contatto reale è una grande illusione la realtà non può concidere con la mia fantasia sfrenata così era stato con S quella volta avevo già le mie idee di come sarebbe stato il nostro incontro e mi ero recata da lui in uno stato d'ebbrezza una tuta da ginnastica sotto il mio vestito di lana invece S era stato molto oggettivo e distante io mi ero subito irrigidita a mia volta e anche la ginnastica non avevo funzionato per niente ero lì nella mia tuta tutti e due ci sentivamo imbarazzati come Adamo ed Eva dopo aver mangiato la mela S aveva tirato le tende e chiusa a chiave la porta la sua scioltezza era sparita e per parte mia avrei voluto scappar via e mettermi a piangere tant'era odiosa quella situazione era disgustoso quando ci siamo arrotolati per terra io che mi stringevo lui con sensualità insieme con repulsione per tutto quanto a un certo punto neanche i suoi movimenti erano più del tutto innocenti certo che sarebbe stato diverso se io non avessi avuto quelle fantasie è stata una collisione improvvisa e fortissima tra il mio sfrenato fantasticare e la realtà deludente ridotta a un uomo timido e sudato che alla fine si cacciava la camicia stropicciata nei calzoni 15 marzo le 9 e mezzo di mattina ieri pomeriggio abbiamo scorso insieme le note che mi aveva dato quando siamo arrivati alla frase basta che esista una sola persona degna di essere chiamata tale per poter credere negli uomini nell'umanità mi è venuto spontaneo di buttargli le braccia al collo è un problema attuale il grande odio per i tedeschi che ci avvelena l'animo espressioni come che anneghino tutti canaglie che muoiono col gas fanno ormai parte della nostra conversazione quotidiana a volte fanno sì che uno non se la senta più di vivere di questi tempi ed ecco che improvvisamente qualche settimana fa è spuntato il pensiero liberatore simile a un esitante e giovanissimo stelo in un deserto d'erbacce e anche non rimanesse che un solo tedesco decente quest'unico tedesco meriterebbe essere difeso contro quella barba di barbari e grazie a lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio odio su un popolo intero questo non significa che uno sia indulgente nei confronti di determinate tendenze si deve ben prendere posizione sdegnarsi per certe cose in certi momenti provare a capire ma quell'odio indifferenziato è la cosa peggiore che ci sia è una malattia dell'anima odiare non è nel mio carattere se in questo periodo io arrivassi veramente a odiare sarei ferita nella mia anima e dovrei cercare di guarire il più presto possibile una volta me lo spiegavo in modo un po' superficiale quando mi sentivo lacerata tra odio e altri sentimenti credevo che fossero i miei istinti primitivi di ebrea minacciata dalla distruzione ad essere in conflitto con le concezioni razionali socialiste che avevo acquisito e che mi avevano insegnato a guardare a un popolo non come a un insieme ma come a una maggioranza buona ingannata da una minoranza cattiva dunque è un istinto primitivo contrapposto a un'abitudine razionale si tratta di un problema più profondo il socialismo permette all'odio per tutto ciò che non è socialista di entrare dalla porta di dietro l'ho detto male ma so che cosa voglio dire ultimamente ho sentito che era mio compito mantenere l'armonia in questa famiglia contradditoria una donna tedesca cristiana di origini contadine che è per me come una buona seconda madre una studentessa ebrea di Amsterdam poi Bernard un vecchio socialdemocratico equilibrato e piccolo borghese una persona pulita e abbastanza intelligente ma limitata appunto dalle sue origini piccolo borghesi e il giovane studente di economia leale buon cristiano che ha la gentilezza e la comprensione ma anche la combattività e le maniere tipiche dei cristiani come li veniamo a conoscere in questo periodo era ed è un piccolo mondo affacendato che rischiava di essere distrutto dall'esterno dalla politica ma mi sembra che valga la pena di tenere in piedi questa piccola comunità per testimoniare che la vita non può essere rinchiusa in uno schema determinato però tutto questo costa un prezzo di dolore di forti conflitti interiori di reciproche offese di tanto in tanto di nervosismo e di rimorso eccetera eccetera a volte se sono improvvisamente presa dall'odio dopo aver letto il giornale o dopo aver avuto notizie di fatti che capitano mi metto a inveire contro i tedeschi fuori di me so che lo faccio apposta per ferire Kate per sfogare in qualche modo il mio odio anche se poi lo scarico su una persona sola una persona di cui so che ama la sua patria d'origine come più che naturale e comprensibile del resto ma in quel momento io non riesco ad accettare il fatto che lei non provi altrettanto odio voglio che tutto il mio prossimo sia in sintonia con me eppure so che lei trova la nuova mentalità altrettanto pericolosa che si sente altrettanto oppressa per gli eccessi compiuti dal suo popolo è naturale che Kate si senta legata a quel popolo nel profondo dell'anima capisco bene che sia così ma in quel momento non lo sopporto per me tutti quanti i tedeschi dovrebbero essere e saranno sterminati e allora sono capace di dire con tanta cattiveria è un popolo di canaglie allo stesso tempo mi vergogno a morte e poi mi sento profondamente infelice e non riesco a trovare pace e ho la sensazione che tutto sia sbagliato e allora è proprio commovente come diciamo ogni tanto a Kate in modo così gentile e incoraggiante sì certo che ci sono ancora dei bravi tedeschi in fondo anche quei soldati non possono farci niente anche fra loro ci sono dei tipi decenti ma è solo teoria che se non altro serve a mascherare ancora un po' di disgusto con qualche parola gentile e sentissimo davvero così non avremo neppure bisogno di dirlo espressamente ci sentiremmo animati da un medesimo sentimento la contadina tedesca come gli studenti ebrai e allora potremmo parlare del bel tempo come della minestra di verdura invece di tormentarci con discorsi politici che servono solo a sfogare il nostro odio in quei discorsi infatti non si riflette quasi più sulle questioni politiche non si tenta quasi più di individuare le grandi linee e di capire che cosa c'è dietro si rimane a un livello molto basso ne fa gran piacere conversare col prossimo di questi tempi perciò essere come un oasi in un deserto e ieri così all'improvviso ho dovuto buttargli le braccia al collo ci sarebbero ancora tante cose da dire ma adesso devo pensare al mio lavoro prima però esco a prendere un po' d'aria domenica le 11 l'ordine gerarchico all'interno della mia vita è un po' cambiato una volta preferivo cominciare a stomaco vuoto con Dostoyevsky o con Hegel e a tempo perso quando ero nervosa mi capitava anche di rammendare una calza se proprio non si poteva fare altrimenti ora comincio con la calza nel senso più letterale della parola e poi pian piano passando attraverso le altre incombenze quotidiane salgo verso la cima dove ritrovo i poeti e i pensatori dovrò ancora sbarazzarmi faticosamente di queste espressioni patetiche se vorrò mai fare una figura decente però credo che si tratti soprattutto di pigrizia nel cercare le parole giuste le 12 e mezzo dopo la passeggiata che è diventata una bella tradizione martedì mattina studiando l'ermontoff scrivevo che dietro la sua testa spuntava sempre quella di esse che avrei dovuto rivolgermi a quel caro viso parlandogli e accarezzarlo così che non riuscivo a lavorare è passato molto tempo da allora è già tutto un po' diverso il suo volto c'è ancora mentre lavoro ma non mi distrae più è diventato come un paesaggio amato e familiare che sta sullo sfondo i suoi tratti sono sfumati non vedo più un volto preciso si è dissolto in un'atmosfera spirito o altro che sia e con ciò ho toccato un punto importante una volta se mi piaceva un fiore avrei voluto prendermelo sul cuore o addirittura mangiarmelo la cosa era più difficile quando si trattava di un paesaggio intero ma il sentimento era identico ero troppo sensuale vorrei quasi dire troppo possessiva provavo un desiderio troppo fisico per le cose che mi piacevano e volevo avere è per questo che sentivo sempre quel doloroso insaziabile desiderio quella nostalgia per un qualcosa che mi appariva irraggiungibile nostalgia che chiamavo allora impulso creativo credo che fossero queste forti emozioni a farmi pensare di essere nata per fare l'artista ora ad un tratto non è più così anche se non so dire per quale processo interiore me ne sono appena resa conto stamattina ripensando a una piccola passeggiata intorno all'ish club qualche sera fa era il crepuscolo tenere sfumature nel cielo misteriose sagome delle case e alberi vivi col trasparente intreccio dei loro rami in una parola era un incanto mi ricordo benissimo di come sentivo una volta trovavo tutto talmente bello che mi faceva male al cuore allora la bellezza mi faceva soffrire e non sapevo che farmene di quel dolore allora sentivo il bisogno di scrivere o di far poesie ma le parole non mi volevano mai venire e mi sentivo terribilmente infelice in fondo io mi ubriacavo di un paesaggio simile e poi mi ritrovavo del tutto esaurita mi costava un'enorme quantità di energie ora chiamerei questo comportamento onanismo ma quella sera solo pochi giorni fa ho reagito diversamente ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio malgrado tutto ho goduto altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito e misterioso nel crepuscolo ma in modo per così dire oggettivo non volevo più possederlo sono tornata a casa rinvigorita al mio lavoro e quel paesaggio è rimasto presente sullo sfondo come un abito che rivesta la mia anima tanto per dirla con paroloni ma non mi impacciava più non era più onanismo e così è con esse come dal resto con tutti anche la crisi di quel pomeriggio quando ero rimasta seduta a fissarlo tutta rigida e incapace di aprire bocca era probabilmente dovuta a un atteggiamento possessivo mi aveva raccontato varie cose della sua vita personale della moglie da cui è separato ma con cui è rimasto in corrispondenza dell'amica con cui può sposarsi ma che si trova a Londra è sola e soffre e poi ancora di un'altra amica che aveva avuto una volta una bellissima cantante con cui pure è rimasto in corrispondenza più tardi mentre facevamo di nuovo la lotta io avevo sentito la suggestione del suo grosso corpo attraente e poi quando mi ero seduta di nuovo di fronte a lui ed ero ammutolita forse avevo avuto la stessa reazione di quando attraverso un paesaggio che mi tocca l'anima lo volevo possedere volevo che esse fosse anche mio per quanto io non lo desideri come uomo non mi ha ancora veramente colpita sessualmente parlando anche se sento sempre quella tensione in sottofondo e se mi ha toccata nel profondo del mio essere e questo è ancora più importante e così lo volevo avere in un modo o nell'altro provavo odio o gelosia per tutte le donne di cui mi aveva raccontato e forse mi chiedevo sia pure inconsciamente se sarebbe rimasto qualcosa per me e me lo sentivo sfuggire erano sentimenti piuttosto meschini non certo elevati ma me ne rendo conto soltanto ora in quel momento io mi sentivo infelicissima e sola cosa che adesso capisco benissimo avrei voluto andare via e mettermi a scrivere credo di capire anche questo è un altro modo di possedere di attirare le cose a sé con parole e immagini l'impulso che mi spingeva a scrivere deve essere stato soprattutto il desiderio di nascondermi agli altri con tutti i tesori che avevo accumulato di annotare ogni cosa e di goderla tenendomela per me e adesso improvvisamente questo atteggiamento che per ora chiamo possessivo è cessato mille catene sono state spezzate respiro di nuovo liberamente mi sento in forze e mi guardo intorno con occhi raggianti e ora che non voglio più possedere nulla e che sono libera ora possiedo tutto e la mia ricchezza interiore è immensa essa è completamente mio adesso anche se domani dovesse partire per la Cina me lo sento intorno e vivo nella sua sfera se lo rivedrò mercoledì mi farà piacere ma non sto più a contare nervosamente i giorni come facevo la settimana passata e non chiedo più di Han cento volte al giorno mi vuoi ancora bene mi vuoi ancora tanto bene sono proprio il tuo tesoro anche questo era un modo di aggrapparsi un aggrapparsi fisico a ciò che fisico non è ora vivo e respiro con la mia anima sempre che mi sia concesso usare questo termine screditato e ora capisco anche le parole di S dopo la mia prima visita da lui quel che c'è qui e indicava la testa deve finire qui e indicava il cuore allora io non capivo bene come questo processo potesse attuarsi nel suo lavoro ma in ogni caso è successo anche se non saprei dire come ha pure assegnato il posto giusto alle cose che già facevano parte di me come in un puzzle tutti i pezzetti erano sparsi alla rinfusa e lui li ha ricomposti in un insieme ricco di significato non so come ci sia riuscito ma questa è una cosa che riguarda lui è per così dire il suo mestiere e non per nulla si parla di lui come di una personalità magica mercoledì mi sorprendo ad aver voglia di musica pare che io non sia sprovvista di senso musicale e la musica mi tocca sempre molto se mi capita di ascoltarla ma non ho mai avuto la pazienza di mettermici la mia attenzione andava sempre alla letteratura e al teatro cioè ai campi in cui io posso continuare a pensare ed ecco che ora in questa fase della mia vita la musica comincia a far valere i suoi diritti e io sono di nuovo in grado di abbandonarmi a qualcosa e di dimenticare me stessa sento soprattutto il desiderio dei classici puri e sereni non di questi tormentati moderni di sera le nove mio Dio dammi vicino e dammi forza perché la battaglia si farà dura oggi pomeriggio la sua bocca e il suo corpo erano così vicini non riesco più a dimenticarli non voglio avere una relazione con lui però stiamo andando in quella direzione ma non voglio la sua futura moglie è a Londra e l'aspetta e per parte mia ho ben chiari i miei legami ora che sto pian piano diventando più raccolta mi rendo conto di essere una persona terribilmente seria che non scherza con l'amore voglio avere un uomo per tutta la vita e voglio costruire qualcosa con lui in fondo tutte le avventure e le relazioni che ho avuto mi hanno resa terribilmente infelice mi hanno straziata d'altra parte la mia resistenza non era mai stata abbastanza forte e cosciente la curiosità aveva sempre avuto il sopravvento ma ora che le mie forze interiori hanno potuto organizzarsi esse hanno anche cominciato a lottare contro il mio desiderio di avventura e contro la mia curiosità erotica che si interessa a molti uomini in fondo è solo una spielerai un uomo lo si può capire benissimo con l'intuizione non c'è bisogno di avere una relazione con lui ma santo cielo sto diventando proprio difficile oggi pomeriggio la sua bocca era così familiare così dolce e vicina che ho dovuto sfiorarla con le mie labbra abbiamo cominciato a fare la lotta con distacco e alla fine riposavamo l'uno nelle braccia dell'altro non mi ha abaciata anche se a un certo punto mi ha dato un bel morso sulla guancia ma la cosa indimenticabile per me è stata quando tornato completamente se stesso mi ha chiesto con apprensione e con timidezza quasi dolorosa e la bocca non è dispiaciuta la bocca è quello il suo punto debole la lotta contro la propria sensualità localizzata in quella bocca pesante e meravigliosamente espressiva e il timore di spaventare gli altri con quella bocca un tipo commovente ma la mia pace è perduta e ha aggiunto ma la mia bocca deve ancora diventare più piccola e ha accennato al suo labbro inferiore che sporge singolarmente dall'angolo destro e fa come una grossa curva un trattino di labbro che è andato per conto suo ha mai visto una stranezza simile è molto rara non ricordo più le parole precise di nuovo ho sfiorato con le mie labbra quel capriccioso pezzetto di bocca ma non l'ho ancora veramente baciato non provo ancora una vera passione per lui però mi è infinitamente caro e non vorrei che questo sentimento così buono e umano venisse intorbidato da una relazione venerdì 21 marzo le otto e mezzo di mattina per la verità non voglio scrivere niente mi sento così leggera e raggiante e contenta che ogni parola peserebbe come piombo in confronto però stamattina mi sono proprio guadagnata questa gioia interiore ho dovuto lottare contro l'irrecretezza del mio cuore che batteva all'impazzata mi sono lavata con acqua gelida dalla testa ai piedi e sono rimasta sdraiata sul pavimento del bagno fin tanto che non mi sono sentita completamente calma sono diventata una persona pronta a combattere come si dice e provo un certo piacere sportivo una certa eccitazione all'idea di questa lotta debo anche vincere quella paura indefinita che mi porto dentro la vita è difficile davvero è una lotta di minuto in minuto non esagerare tesoro ma è una lotta invitante una volta io mi immaginavo un futuro caotico perché mi rifiutavo di vivere l'istante più prossimo ero come un bambino molto viziato volevo che tutto mi fosse regalato a volte avevo la certezza peraltro molto vaga che in futuro sarei potuta diventare qualcuno e avrei realizzato qualcosa di straordinario altre volte mi ripigliava quella paura confusa che erai andata in malora lo stesso cominciò a capire perché mi rifiutavo di adempiere ai compiti che avevo sotto gli occhi mi rifiutavo di salire verso quel futuro di gradino in gradino e ora ora che ogni minuto è pieno pieno sino all'orlo di vita e di esperienza di lotta e vittorie e cadute ma subito dopo di nuovo lotta e talvolta pace ora non penso più a quel futuro in altre parole mi è indifferente se riuscirò a produrre qualcosa di straordinario oppure no perché sono certa che ne verrà fuori qualcosa una volta vivevo sempre come in una fase preparatoria avevo la sensazione che ogni cosa che facevo non fosse ancora quella vera ma una preparazione a qualcosa di diverso di grande di vero appunto ora questo sentimento è cessato io vivo vivo pienamente e la vita vale la pena viverla oggi oggi in questo momento e se sapessi di dover morire domani direi mi dispiace molto ma così come è stato è stato un bene in teoria ho già predicato queste cose ricordo che era una sera d'estate e che eravamo seduti fuori da Rinders con Franz ma nelle mie parole di allora c'era soprattutto stanchezza qualcosa come vedi se domani finisse tutto non me ne farei un gran problema tanto sappiamo come stanno le cose la vita la conosciamo abbiamo già vissuto tutto sia pure in spirito non siamo più così spasmodicamente attaccati alla vita mi sembra che il tono dei miei discorsi fosse all'incirca questo eravamo proprio molto vecchi saggi e stanchi ma ora è diverso e adesso lavoro sabato le otto di sera devo badare a tenermi in contatto con questo quaderno voglia dire con me stessa altrimenti potrebbe andar male potrei smarrirmi a ogni momento anche adesso mi sento un po' così ma potrebbe essere stanchezza domenica 23 marzo le 4 è tutto sbagliato un'altra volta io voglio qualcosa e non so che cosa di nuovo mi sento presa da una grandissima irrequietezza e ansia di ricerca tutto è in tensione nella mia testa penso con una certa invidia alle ultime due domeniche le giornate si stendevano dinanzi a me come grandi aperte pianure che potevo attraversare liberamente erano prospettive ampie e sgombre e ora mi ritrovo in mezzo agli arbusti tutto è cominciato ieri sera quando l'irrequietezza ha preso a salirmi da ogni parte come i vapori da una palude volevo fare un po' di filosofia ma no meglio quel saggio su guerra e pace oppure no Alfred Adler è più adatto al mio umore e poi ho finito per leggere quella storia d'amore in due ma stavo semplicemente lottando contro una naturale spossatezza a cui mi sono saggiamente arresa alla fine e stamattina sembrava che andasse bene per un po' ma mentre pedalavo per l'Apollo Lan è ricominciata quella scontentezza quel cercare il requiato e sentire il vuoto dentro le cose sentire che la vita non trova il suo compimento ma è un rimescolio senza costrutto ma in questo momento sono nella palude e neppure il pensiero che anche questo passa dopo tutto riesce a darmi un po' di pace lunedì mattina e nove e mezzo un po' più tardi una semplice notazione tra due frasi di un tema è strano ma in qualche modo esse rimane un estraneo per me a volte quando sfiora il mio viso con la sua grande e calda mano o le mie ciglia con la punta delle dita in quel suo gesto irrepetibile mi viene poi da ribellarmi chi ti dice che puoi chi ti dà il diritto di toccarmi ora credo di capire la prima volta che avevamo fatto la lotta era stata una cosa simpatica sportiva un po' inaspettata per me ma c'ero entrata molto in fretta e avevo pensato si vede che fa parte della terapia e di fatti era così come esse aveva constatato con distacco a lotta finita corpo e anima sono una cosa sola certo che ero stata toccata nei miei istinti erotici ma vedendo esse così oggettivo mi ero prontamente ripresa più tardi quando eravamo di nuovo seduti uno di fronte all'altro lui aveva detto senta un po' spero che questo non la turbi troppo in fin dei conti io la ferro dappertutto e ad esempio di ciò mi sfiorava un momento il petto le braccia e le spalle con le mani io avevo pensato all'incirca sei un bel tipo devi sapere maledettamente bene quanto io sia eccitabile eroticamente visto che me l'hai raccontato tu stesso in ogni caso sei onesto a parlarne apertamente e per me io vado a posto di nuovo e se aveva aggiunto che non dovevo innamorarmi di lui che lo diceva sempre all'inizio di una terapia in fondo era un comportamento responsabile anche se non mi aveva fatto del tutto piacere ma la seconda volta era stato molto diverso anche a essa era diventato erotico allora e quando a un certo punto si era trovato steso sopra di me e aveva mandato dei piccoli gemiti e gli erano venute le più antiche convulsioni del mondo allora io aveva avuto dei pensieri proprio bassi come i miasmi che esalano da una palude avevo pensato all'incirca bel modo di curare i pazienti così tu hai pure il tuo piacere e per giunta ti pagano anche se poco ma il modo in cui le sue mani mi avevano afferrata durante quella lotta i gesti con cui mi aveva morsicato l'orecchio o preso il viso con la sua grossa mano tutto questo mi aveva fatto impazzire avevo in tutti quei gesti sentito il tocco di un amante esperto e affascinante allo stesso tempo non mi era affatto piaciuto che approfittasse della situazione però alla fine quel senso di avversione era sparito e più tardi si era creata fra noi una familiarità un contatto personale come non si sono ripetuti mai più mentre eravamo ancora coricati per terra lui aveva detto non voglio avere una relazione con lei e anche devo confessarle sinceramente che lei mi piace molto poi aveva aggiunto qualcosa sui temperamenti simili e un po' più tardi adesso mi dia un bacetto amichevole ma in quel momento non ero certo pronta e avevo timidamente girato la testa lui invece era di nuovo se stesso l'avevo osservato con naturalezza quasi riflettendo fra sé in fondo è così logico sa io sono stato un ragazzo abbastanza trasognato e poi seguiva un pezzo della sua vita lui parlava e io ascoltavo con abbandono ogni tanto mi prendeva molto teneramente il viso con la mano e così me ne sono tornata a casa con l'animo pieno dei sentimenti più contradditori ribellione per il suo basso comportamento tenerezza amicizia buona e umana e un gran fantasticare erotico sollecitato dai suoi gesti raffinati per un paio di giorni non avevo potuto fare nient'altro che pensare a lui pensare non è la parola giusta era piuttosto una soggezione fisica il suo corpo grosso e agile mi minacciava da tutte le parti era sopra di me sotto di me era dappertutto e minacciava di schiacciarmi non potevo più lavorare e pensavo con orrore dio mio che cosa ho cominciato sono andata da lui per farmi curare psicologicamente per trovare un po' di chiarezza in me stessa e ora mi capita questo ed è peggio che mai avevo vissuto pensando al nostro prossimo incontro a casa sua e mi ero messa in testa delle grandi idee erotiche e questa era stata la famosa volta in cui portavo i pantaloni da ginnastica sotto la gonna di lana quando le mie sfrenate fantasie erano andate a sbattere violentemente contro il suo realismo oggettivo adesso capisco esse nel frattempo si era ripreso e aveva recuperato la sua obiettività anche lui aveva combattuto la sua battaglia mi aveva chiesto ha pensato a me in questa settimana io ero rimasta nel vago e avevo chinato la testa mentre lui aveva soggiunto molto schiettamente a dire il vero io ho pensato moltissimo a lei nei primi giorni di questa settimana bene poi seguo un'altra lotta ma di questo ho già scritto abbastanza era una cosa disgustosa e io ebbi quella crisi e se non sa ancora perché mi sia comportata in modo così rigido e strano crede che fosse la mia eccitazione erotica anche i suoi conflitti erano venuti allo scoperto quella volta infatti disse anche lei è un compito per me e mi raccontava che era fedele alla sua amica già da due anni malgrado il suo forte temperamento ma io trovavo un compito una cosa così neutrale e oggettiva io volevo essere io per lui ero la bambina viziata che voleva avere quel uomo anche se il mio cuore non era d'accordo nella mia fantasia avevo già deciso che esse sarebbe stato il mio uomo e che lo volevo conoscere come amante punto e basta non vivevo molto in alto in quel momento ma di questo ho già scritto e ora mi sento pari a lui sento che la mia lotta bilancia la sua che anche in me gli istinti impuri e quelli più nobili si danno battaglia ma per il fatto di essersi scoperto tutto a un tratto come uomo di avere gettato deliberatamente la maschera di psicologo e di essere diventato persona esse ha perso un po' della sua autorità mi ha resa più ricca ma in qualche modo mi ha inferto un piccolo colpo una piccola ferita che non è ancora del tutto guarita e che me lo fa sentire ancora sempre estraneo chi sei tu e chi ti dice che puoi mischiarti nei fatti miei Rilke ha scritto una splendida poesia su questo stato d'animo spero di ritrovarla una volta o l'altra dopo aver cercato un po' ho trovato la poesia di Rilke a cui stavo pensando me l'aveva letta a Brascia diversi anni fa era una sera d'estate sullo zuideliche Vandelweg per qualche oscura ragione pensavo che quella poesia si adattasse a me chissà forse perché continuavo a sentirlo estraneo malgrado l'intimità che c'era allora fra noi ora comincio a vedere questa mia ambivalenza grazie anche al mio attrito con esse e alla chiarificazione che ne hai seguita qui interessano le ultime due righe und hörte fremde einem fremden sagen ich bin bei dir martedì 25 marzo le 9 di sera siccome sono ancora tanto giovane e ho la volontà indistruttibile di non lasciarmi mettere sotto e siccome ho la sensazione di poter contribuire anch'io a colmare le lacune recenti e me ne sento la forza per tutti questi motivi io mi rendo appena conto di quanto poveri siamo diventati noi giovani quanto siamo rimasti soli o è ancora una forma di stordimento bonger è morto terbrac du perro marshman pos us di berg e molti altri sono in campo di concentramento eccetera eccetera anche bonger è indimenticabile per me trano come tutto questo mi torni alla mente di colpo dopo la morte di van wijk mancavano poche ore alla capitolazione ed ecco la figura pesante goffa chiaramente riconoscibile di bonger che se ne andava lungo l'isch club occhiali azzurri su quella testa pesante e originale guardava le nuvole che da lontano sovrastavano la città provenienti dal porto delle petroliere dato alle fiamme non dimenticherò mai quella scena quella figura goffa con la testa di traverso che guardava le nuvole di fumo in lontananza in uno slancio spontaneo ero corsa fuori senza mantello l'avevo raggiunto e gli avevo detto buongiorno professor bonger ho pensato molto a lei in questi ultimi giorni l'accompagno a un pezzetto e lui mi aveva guardata di traverso coi suoi occhiali azzurri e non aveva la minima idea di chi potessi essere magrado due esami e un anno di lezioni ma in quei giorni c'era una familiarità così grande tra le persone che avevo continuato a camminare di accanto non ricordo con precisione il nostro dialogo era il pomeriggio in cui tutti cercavano di fuggire in Inghilterra e avevo chiesto crede che abbia senso fuggire e lui la gioventù deve rimanere qui e io crede che la democrazia finirà per vincere e lui vincerà di certo ma alcune generazioni ne faranno le spese e quel feroce bonger era indifeso come un bambino era quasi dolce io avevo sentito il bisogno irresistibile di mettergli un braccio intorno alla vita e di guidarlo come un bambino e così con il mio braccio intorno a lui avevamo camminato lungo il club sembrava franto che era pieno di benevolenza tutta la sua passione e la sua virulenza si erano spente il cuore mi si gonfia quando penso a com'era quel giorno il burbero delle nostre lezioni e arrivato allo Jan Willem Brown and Spline lo avevo salutato mi ero piantata davanti a lui e gli avevo preso una mano fra le mie lui aveva acchinato un po' il capo con tanta gentilezza mi aveva guardata attraverso gli occhiali azzurri che gli nascondevano gli occhi e mi aveva detto quasi con comica solennità mi ha fatto piacere e la prima cosa che avevo sentito la sera dopo arrivando al corso di Becker era stata bongere morto io avevo replicato non è possibile gli ho parlato ieri sera alle sette e Becker allora lei è stata una delle ultime persone che gli hanno parlato alle otto si era sparato alla testa e dunque una delle sue ultime parole era stata per una studentessa sconosciuta che lui aveva guardato con benevolenza attraverso un paio di occhiali azzurri mi ha fatto piacere bongere bongere non è l'unico è tutto un mondo che va in pezzi ma il mondo continuerà ad andare avanti e per ora andrò avanti anch'io restiamo certo un po' impoveriti ma io mi sento ancora così ricca che questo vuoto non mi è entrato veramente dentro però dobbiamo tenerci in contatto col mondo attuale e dobbiamo trovarci un posto in questa realtà non si può scrivere solo con le verità eterne così rischieremmo di fare la politica degli struzzi vivere pianamente verso l'esterno come verso l'interno non sacrificare nulla della realtà esterna a beneficio di quella interna e viceversa considera tutto ciò come un bel compito per te stessa e ora leggo ancora una stupida novelletta della rivista Libelle e poi a dormire domani si lavora di nuovo alla scienza alla casa e a me stessa non si può trascurare nulla e non si può neppure prendersi troppo sul serio buonanotte venerdì 8 maggio le tre di pomeriggio a letto debbo occuparmi di me stessa niente da fare non ho avuto bisogno di questo quaderno per un paio di mesi la vita dentro di me era così limpida e serena e intensa ero in contatto col mondo esterno come con quello interno la mia vita si arricchiva la mia personalità si ampliava a Leiden c'era il contatto con gli studenti Will ahimè Jan c'era lo studio c'era la Bibbia Jung e poi di nuovo S e sempre ancora S ma ora c'è un ristagno un'irrequietezza un po' torbida in fondo non è affatto irrequietezza mi sento troppo giù per questo forse è solo la stanchezza fisica quella che tutti sentono in questa fredda primavera a impedire che le cose circostanti trovino risonanza in me ma so bene che è il mio rapporto singolare e non esplicito con esse a darmi questi problemi devo tener d'occhio ogni passo che faccio le otto di sera si cerca sempre una formula liberatoria un pensiero chiarificatore poco fa durante un giretto in bicicletta nel freddo ho pensato improvvisamente forse rendo tutto troppo complicato è interessante e mi rifiuto di guardare ai fatti nudi e semplici cioè non sono affatto innamorata di lui e non gli voglio neppure bene come persona mi interessa parecchio a volte mi affascina mi insegna infinite cose da quando lo conosco sto maturando come non avrei mai creduto fosse possibile alla mia età non c'è veramente altro ma ora salta fuori questo maledetto erotismo di cui è pieno zeppo anche lui come lo sono anch'io e con ciò i nostri corpi sono inevitabilmente attratti l'uno verso l'altro sebbene nessuno dei due lo voglia e ce lo siamo già detti chiaramente una volta è stata per esempio quella domenica sera credo che fosse il 21 aprile era la prima sera che trascorreva da lui parlavamo cioè lui parlava della Bibbia poi lesse qualcosa di Tommaso da Kempis mentre io gli ero seduta sulle ginocchia tutto questo andava ancora bene non c'era quasi erotismo ma tanto calore umano e amichevole però più tardi all'improvviso il suo corpo si era trovato sul mio io ero restata a lungo fra le sue braccia e proprio allora mi ero sentita triste e sola e ancora più sola quando lui aveva baciato le mie cosce e bianche era bello diceva lui io invece era tornata a casa col cuore di piombo attristata e sola in seguito avevo elaborato delle teorie interessantissime sulla mia solitudine ma non potrebbe essere più semplicemente che nel profondo di me stessa io non sia in grado di abbandonarmi al contatto fisico con lui tanto non gli voglio bene e so che il suo ideale è di rimanere fedele a un'unica donna si dà il caso che questa donna si trovi a Londra ma è il principio che conta se io fossi una donna veramente adulta e grande troncherei ogni rapporto fisico con lui visto che questo mi rende solo molto infelice ma non mi risolvo a rinunciare alle esperienze che potrei ancora avere con lui probabilmente ho ancora paura di ferire il suo orgoglio virile deve pure averlo da qualche parte ma la nostra amicizia si porrebbe su un piano molto più alto io credo e alla fin fine lui mi sarebbe riconoscente se lo aiutassi a rimanere fedele a quell'unica donna io però sono una persona molto arida e meschina di tanto in tanto voglio tornare fra le sue braccia e poi me ne vengo fuori tutta triste di nuovo probabilmente è anche una forma di vanità infantile che ragiona all'incirca così tutte quelle ragazze e quelle donne sono pazze di esse ma io che lo conosco da meno tempo sono l'unica ad essere così intima con lui se questo sentimento fosse vero sarebbe una gran meschinità sto proprio rischiando di rovinare questa amicizia con l'erotismo sabato 14 giugno 7 di sera di nuovo arresti terrore campi di concentramento sequestri di padri sorelle e fratelli ci si interroga sul senso della vita ci si domanda se essa abbia ancora un senso ma per questo bisogna vedersela esclusivamente con se stessi e con Dio forse ogni vita ha il proprio senso forse ci vuole una vita intera per riuscire a trovarlo comunque io ho smarrito qualsiasi rapporto con la vita e con le cose mi sembra che tutto avvenga per caso e che ci si debba staccare interiormente da ognuno e da ogni cosa tutto sembra così minaccioso e sinistro e ci si sente anche così impotenti sabato mattina le 12 non siamo nient'altro che botti vuote in cui si sciacqua la storia del mondo o tutto è casuale o niente lo è se io credessi nella prima affermazione non potrei vivere ma non sono ancora convinta della seconda ieri per un momento ho pensato che non avrei potuto continuare a vivere che avevo bisogno d'aiuto la vita e il dolore avevano perso il loro significato avevo la sensazione di sfasciarmi sotto un peso enorme ma anche questa volta ho combattuto una battaglia che poi all'improvviso mi ha permesso di andare avanti con maggior forza ho provato a guardare in faccia il dolore dell'umanità coraggiosamente e onestamente ho affrontato questo dolore o piuttosto ho fatto qualcosa in me stessa molti interrogativi disperati hanno trovato risposta l'assurdità completa ha ceduto il posto a un po' di ordine e di coerenza ora posso andare avanti di nuovo è stata un'altra breve ma violenta battaglia e sono uscita con un pezzetto di maturità in più ho scritto che mi sono confrontata col dolore dell'umanità questi paroloni mi fanno ancora paura ma non è del tutto esatto mi sento piuttosto come un piccolo campo di battaglia su cui si combattono i problemi o almeno alcuni problemi del nostro tempo l'unica cosa che si può fare è offrirsi umilmente come campo di battaglia quei problemi devono pur trovare ospitalità da qualche parte trovare un luogo in cui possano combattere e placarsi e noi poveri piccoli uomini noi dobbiamo aprir loro il nostro spazio interiore senza sfuggire forse su questo punto io sono davvero molto ospitale a volte sono come un campo di battaglia insanguinato e poi lo pago con un gran sfinimento e con un forte mal di capo ma ora sono semplicemente me stessa Etty Killesum una laboriosa studentessa in una camera ospitale con dei libri e con un vaso di margherite scorro di nuovo nel mio stretto alveo e il contatto con umanità storia universale e dolore si è interrotto un'altra volta così deve essere del resto altrimenti una persona impazzirebbe non ci si può sempre perdere nei grandi problemi non si può essere sempre come un campo di battaglia dobbiamo poter recuperare i nostri stretti confini e continuare dentro di essi scrupolosamente coscienziosamente la nostra vita limitata mentre quei momenti di contatto quasi impersonale con tutta l'umanità ci rendono ogni volta più maturi e profondi forse in futuro saprò esprimermi meglio o farò dire queste cose a un personaggio di una novella o di un romanzo ma sarà solo fra molto tempo martedì mattina 17 giugno se uno si è rovinato lo stomaco dovrebbe cominciare una dieta ragionevole invece di prendersela con le lecornie che secondo lui hanno causato la sua indisposizione invece di comportarsi come un bambino dovrebbe preoccuparsi della propria sregolatezza l'ho imparata oggi su me stessa e ne sono molto contenta anche la continua tristezza che mi rodeva in questi ultimi giorni comincia a passare mercoledì mattina 18 giugno le nove e mezzo devo recuperare un'antica saggezza chi riposa in se stesso non tiene conto del tempo una vera maturazione non può tener conto del tempo la sorgente di ogni cosa ha da essere la vita stessa mai un'altra persona molti invece soprattutto donne attingono le proprie forze da altri e l'uomo la sorgente non la vita mi sembra un atteggiamento quanto mai distorto e innaturale 4 luglio sono agitata di una bizzarra diabolica irrequietezza che potrebbe anche essere produttiva se sapessi che farmene è un'irrequietezza creativa non fisica neppure una dozzina di appassionate notti d'amore potrebbe placarla è quasi un'irrequietezza sacra mio dio prendimi nella tua grande mano e fammi tuo strumento fa che io possa scrivere è stato tutto per colpa di quella leonico e suoi capelli rossi e di quel filosofico iop esse con la sua analisi ha aperto il loro cuore e tuttavia mi sono resa conto che non si può spiegare l'essere umano con nessuna formula psicologica solo l'artista è in grado di rendere ciò che resta dirrazionale nell'uomo non so come andrà a finire con questo mio scrivere tutto è ancora caotico non ho abbastanza fiducia in me stessa o piuttosto non sento veramente la necessità di dire qualcosa aspetterò ancora fin quando tutto verrà fuori spontaneamente e troverà una forma prima però devo trovare io stessa una forma la mia forma ad aventer le mie giornate erano come grandi pianure illuminate dal sole ogni giornata ogni giornata era un tutto ininterrotto mi sentivo in contatto con dio e con tutti gli uomini probabilmente perché non vedevo quasi nessuno c'erano campi di grano che non dimenticherò mai e dove mi sarei quasi inginocchiata c'era l'issel coi parasoli colorati il tetto coperto di canne i pazienti cavalli e poi il sole che assorbiva da tutti i pori qui invece le giornate sono fatte di mille pezzetti la grande pianura è sparita e così pure dio e se andrà avanti di questo passo io rimetterò tutto in questione e questo non è profonda filosofia ma un segno che non sta bene e poi c'è quella strana irrequietezza che non so ancora come sistemare ma chissà se essa non possa dare buon frutto nel mio lavoro quando saprò incanalarla non ci siamo proprio mia cara devi strappare ancora molto terreno alle onde arrabbiate devi mettere ordine nel caos mi viene in mente un'osservazione recente di esse lei non è affatto così caotica lei ha solo il ricordo di quando trovava che essere caotici fosse più geniale che essere più disciplinati trovo che lei si concentra sempre molto bene lunedì 4 agosto 1941 le due e mezzo di pomeriggio esse dice che l'amore per tutti gli uomini è superiore all'amore per un uomo solo perché l'amore per il singolo è una forma di amore di sé esse è un uomo maturo di 55 anni che ha raggiunto questo stadio di amore per tutti gli uomini dopo aver amato molte persone singole nel corso della sua lunga vita io sono una donnetta di 27 anni anch'io mi porto dentro questo grande amore per tutta l'umanità eppure mi domando se non continuerò a cercarmi il mio unico uomo e mi domando fino a che punto questo sia un limite della donna fino a che punto cioè si tratti di una tradizione di secoli da cui la donna si debba affrancare oppure di una qualità talmente essenziale che una donna farebbe violenza a se stessa se desse il proprio amore a tutta l'umanità invece che ad un unico uomo e non sono ancora in grado di concepire una sintesi forse la mancanza di donne importanti nel campo della scienza e dell'arte si spiega così col fatto che la donna si cerca sempre un uomo solo a cui trasmettere poi tutta la propria conoscenza calore amore capacità creativa la donna cerca l'uomo e non l'umanità non è proprio così semplice questa questione femminile a volte quando vedo per strada una donna bella ben curata assolutamente femminile e magari un po' stupida sono capace di perdere la testa allora il mio cervello le mie lotte e sofferenze mi diventano un peso mi sento come qualcosa di brutto e di non femminile e vorrei essere solo bella e stupida una specie di giocattolo desiderato da un uomo è tipico che io voglio essere sempre desiderata dall'uomo che la nostra femminilità sia sempre la suprema conferma del nostro essere mentre è cosa quanto mai primitiva i sentimenti di amicizia stima amore per noi donne in quanto persone sono tutte belle cose ma in fin dei conti non vogliamo forse che l'uomo come tale si desideri come donne non riesco quasi ad esprimermi è una questione infinitamente complicata ma è essenziale che ne venga a capo forse la vera la sostanziale emancipazione femminile deve ancora cominciare non siamo ancora diventate vere persone siamo donnicciole siamo legate e costrette da tradizioni secolari dobbiamo ancora nascere come persone la donna ha questo grande compito davanti a sé a volte mi sento proprio come una pattumiera sono così turbida piena di vanità esisolutezza senso di inferiorità ma invece anche onestà e un desiderio appassionato quasi elementare di chiarezza e di armonia tra esterno e interno a volte vorrei essere nella cella di un convento con la saggezza di secoli sublimata negli scaffali lungo i muri e con la vista che spazia su campi di grano devono proprio essere campi di grano e devono anche ondeggiare al vento di vorrei sprofondarmi nei secoli e in me stessa alla lunga troverei pace e chiarezza ma questo non è poi tanto difficile è qui ora in questo luogo e in questo mondo che devo trovare chiarezza e pace ed equilibrio devo buttarmi e ributtarmi nella realtà devo confrontarmi con tutto ciò che incontro nel mio cammino devo accogliere e nutrire il mondo esterno col mio mondo interno e viceversa ma è tutto terribilmente difficile e proprio per questo mi sento così oppressa quel pomeriggio nella brughiera lui con la sua bella testa che guardava lontano io che gli chiesi a cosa sta pensando adesso e lui ai demoni che tormentano l'umanità gli avevo appena raccontato di come Klaas avesse quasi ammazzato sua figlia perché non gli aveva portato il veleno era seduto sotto quell'albero coi rami che gli si allargavano sopra io gli avevo posato la testa in grembo e poi improvvisamente gli avevo detto o meglio mi era scappato di dirgli adesso vorrei tanto ricevere un bacio non demoniaco e lui allora deve venire a prenderselo mi ero alzata bruscamente e avrei voluto fare come se non avessi detto niente ma eccoci invece sdraiati nella brughiera bocca a bocca poi lui aveva chiesto e lei chiama questo non demoniaco deventer venerdì mattina alle 10 e un quarto la prima cosa che ha detto la mamma quando sono scesa era mi sento proprio male è strano se papà manda il più piccolo sospiro quasi mi si spezza il cuore e se la mamma dice con grande patos mi sento proprio male di nuovo non ho chiuso occhio eccetera eccetera non mi commuove affatto una volta quando mi alzavo tardi ero completamente scoraggiata e pensavo bene ormai questo giorno è perso e non faccio più niente anche adesso provo un senso di disagio come se ci fosse qualcosa che non potrò recuperare mai più potrei scrivere un trattato di psicologia su questo tema ma mi sono proposta di non scrivere più su argomenti difficili lo farò più tardi e saranno diventati più facili non ho nessuna idea di cosa farò oggi in questa casa non riesco a lavorare non ho un angolino mio e non riesco a funzionare credo che cercherò di riposare il più possibile noiosa pettegola non pianucolare in questo modo su continua pure così leggo dentro di me quando la mamma mi parla è una persona che ti può cavare il sangue da sotto le unghie cerco di essere obiettiva con lei e di volerle anche un po' di bene ma poi nel mio cuore le dico di nuovo come sei pazza e ridicola questo mio atteggiamento è del tutto sbagliato qui io non vivo ma mi lascio vivere e rimando la mia vera vita a dopo che sarò partita mi manca ogni energia per lavorare con intelligenza è come se in questa casa ogni forza ti venisse risucchiata ora sono le undici e non ho fatto nient'altro che ciondolare su questa fresca panca alla finestra davanti a me la colazione è ancora da sparecchiare e la mamma con le sue esclamazioni patetiche a proposito di tessere per il burro della sua salute eccetera eccetera eppure non è una donna qualunque il tragico è questo e qui si va sempre a sbattere contro problemi risolti e repentini cambiamenti di umore è una situazione caotica e triste che si rispecchia nell'andamento disordinato della casa e la mamma crede di essere una massaia eccellente invece distrugge chiunque col suo eterno sfaccendare domestico la mia testa diventa sempre più pesante ma tiriamo avanti in questa casa la vita si rovina per delle sciocchezze si è distrutti dalle inezie e non si arriva alle cose che contano se io rimessi qui a lungo cadrei in una sorta di malinconia cronica e non si può far nulla aiutare o intervenire è un insieme così squilibrato la sera in cui avevo raccontato con gran passione di esse e del suo lavoro avevano reagito in modo delizioso con entusiasmo fantasia senso dell'umorismo ero andata a dormire tutta contenta pensando fra me che erano proprio persone simpatiche ma il giorno dopo c'erano solo battute stupide e scetticismo ma il giorno dopo c'erano state solo battute stupide e scetticismo allora è come se non avessero più fiducia nell'entusiasmo della sera precedente e così si tira avanti bene Etty e tu tirati su naturalmente il mal di pancia non mi aiuta a sentirmi meglio credo che oggi pomeriggio andrò un po' a dormire e poi in biblioteca a studiarmi ancora quel dottor Pfister devo pure essere riconoscente per tutto il tempo che ho a disposizione adoperolo bene in nome di Dio stupida che sei e ora basta con questo chiacchiericcio di sera le undici comincio a credere che stia diventando un'amicizia importante un'amicizia nel senso più profondo del termine mi sento profondamente seria e non è una sincerità che si libera sopra la realtà e che più tardi potrà sembrarmi esagerata e innaturale perlomeno non credo quando ho ricevuto la sua lettera oggi pomeriggio alle sei ero appena arrivata da Gorsel radice di pioggia e non ho sentito nessun contatto con le sue parole ero stanca morta fisicamente e spiritualmente non sapevo bene che farmene poi mi sono raggomitolata sul mio letto e ho studiato con attenzione la ben nota calligrafia e allora mi sono resa conto di quanto grande sarà il peso di esse sullo sviluppo ulteriore del mio spirito purché io continui a confrontarmi seriamente e onestamente con lui e con me stessa e con i numerosi problemi che per me nasceranno sempre dal nostro rapporto carico di significato devo avere il coraggio di vivere la vita con la carica di significato che essa pretende senza per questo considerarmi pesante o sentimentale o innaturale e non devo considerare esse come un fine ma come un mezzo per continuare a crescere e a maturare non devo cercare di possederlo è vero che la donna cerca la concretezza del corpo e non la strattezza dello spirito per la donna il centro di gravità è l'uomo singolo per l'uomo è il mondo chissà se la donna è in grado di spostare questo centro senza violare se stessa senza far violenza alla propria natura questo e molti altri interrogativi sono stati sollevati dalla sua lettera che era molto stimolante per me stare dalla parte di un altro essere umano l'amicizia deve anche essere giusta mercoledì un'oggettività flemmatica e gelida è naturalmente impossibile col mio carattere ma non vado più in pezzi per questo Dan è caduto dall'aeroplano uno dei tanti giovani pieni di vita e ricchi di promesse che muoiono giorno e notte non so che cosa pensare con tutto il dolore che ho intorno comincio a vergognarmi di prendere sul serio i miei umori eppure devi continuare a prenderti sul serio devi rimanere il centro e in qualche modo devi venire a capo dei fatti di questo mondo in nessuna situazione puoi chiudere gli occhi devi confrontarti con questi tempi orribili e cercare una risposta alle numerose questioni di vita e di morte che essi ti pongono e allora forse troverai una risposta ad alcune di esse non solo per te ma anche per gli altri sta di fatto che devo vivere e che devo affrontare ogni cosa a volte mi sento come un palo ritto in un mare infuriato tra le onde che lo battono da ogni parte ma io rimango ben ferma e gli anni mi passano sopra voglio continuare a vivere pienamente voglio diventare il cronista di tanti fatti di questo tempo al piano di sotto lamenti e urla papà grida vattene allora e sbatte le porte anche questo va digerito ed un tratto piango dunque non sono ancora così oggettiva la vita è proprio impossibile in questa casa ma coraggio andiamo avanti sì un cronista dicevo io noto che alla mia sofferenza personale si accompagna sempre una curiosità oggettiva un interesse appassionato per tutto ciò che riguarda questo mondo i suoi uomini i moti della mia anima a volte credo che sia questo il mio compito chiarire nella mia testa e col tempo descrivere tutto ciò che accade intorno a me povera testa e povero cuore quante cose vi toccherà digerire ricca testa e ricco cuore avete però una bella vita già non piango più ho la testa che gira in modo terribile qui è un inferno per rappresentarlo dovrei sapere scrivere già molto bene in ogni caso io vengo da questo caos ed è mio compito portarmi più in alto esse lo chiama costruire un nobile materiale quel tesoro a volte siamo così distratti e sconvolti da ciò che capita che poi fatichiamo a ritrovare noi stessi eppure si deve non si può affondare per una sorta di senso di colpa in ciò che ci circonda è in te che le cose devono venire in chiaro non sei tu che devi perderti nelle cose una poesia di Rilke è altrettanto reale e importante di un ragazzo che cade dall'aeroplano ricordatelo bene sono tutte cose che fanno parte di questo mondo e non si può ignolarne una per favorirne un'altra va a dormire le numerose contraddizioni della vita devono essere accettate tu invece vorresti fonderle in un unico insieme e in qualche modo semplificarle dentro di te così ti semplificheresti pure la vita ma il fatto è che la vita è composta di contraddizioni che queste vanno accettate tutte come sue parti integranti e che non si può accentuarne una a spese di un'altra lascia che il tutto giri e forse diventerà ancora un unico insieme come ti ho detto dovresti andare a dormire invece di scrivere cose che non sei ancora in grado di formulare di sera le undici ecco un momento di pace di buonaccia non ho più bisogno di pensare a nulla può anche dipendere dalle quattro aspirine naturalmente ho un dialogo fra me e papà lungo il single io compiango ogni donna che ha a che fare con Mischa papà ormai quel ragazzo è in circolazione che cosa ci puoi fare 23 agosto 1941 sabato sera bisogna che resisti di nuovo esattamente ai miei umori sta diventando troppo brutto un semplice stupido raffreddore non può colorare di nero tutto il mio modo di vedere la vita è esagerato com'è successo andava così bene giovedì sera sul treno da Arnhem a qui dietro ai finestrini dello scompartimento la notte cresceva quieta ampia e maestosa il trenino era affollato di operai animati e pieni di vita ero seduta nel mio angolino in penombra con l'occhio destro guardavo la natura quieta e col sinistro le teste espressive e i gesti pittoreschi delle persone tutto mi andava bene la vita come gli uomini poi c'era stato tutto quel lungo tratto a piedi dalla Amstel Station per la città quasi buia e come incantata un tratto aveva avuto la sensazione di non essere la sola ma in due come se fossi composta di due persone che si stringessero affettuosamente e che stessero bene così al caldo un forte contatto con me stessa e perciò un buon caldo dentro un senso di autosufficienza chiacchieravo chiacchieravo animatamente fra me e me e trotterellavo con gran piacere per tutti quei diali lungo l'Amstel completamente immersa in me stessa constatavo con un certo piacere che mi facevo proprio buona compagnia e che andavo proprio d'accordo con me stessa e il giorno dopo sentivo allo stesso modo e ieri pomeriggio mentre ero alla ricerca di quel formaggio per conto di esse e attraversavo quella bella parte di Amsterdam Sud mi sentivo come un vecchio ebreo che avanza avvolto in una nuvola c'è di sicuro nella mitologia un ebreo che avanza avvolto in una nuvola era la nuvola dei miei pensieri e sentimenti ad avvolgermi ad accompagnarmi ci stavo ben calda e protetta e sicura e ora ho un gran raffreddore di testa e non sento altro che svoliatezza e malessere e antipatia l'antipatia che provo in questi casi per persone a cui normalmente voglio bene è incomprensibile è un atteggiamento negativo distruttivo e critico eccetera eccetera strano però che tutto questo possa essere causato da un semplice naso chiuso l'antipatia per il prossimo non è da me quando mi sento così poco bene dovrei subito fermare la macchina dei miei pensieri che invece si mette a correre e a buttare per aria tutto quel che può in ogni caso è saggio andarmene a letto mi sento proprio un po' malata forse è un bene che le tue azioni siano ora diverse dai tuoi pensieri stasera doveva ritornare Hans e questa prospettiva mi seccava moltissimo non appena mi prende quell'antipatia lui ne fa subito le spese senza dubbio perché vive nelle mie immediate vicinanze così vedevo male il suo ritorno ruminavo sul fatto che era un gran seccatore che era noioso e lento invece è tornato bello fresco e vigoroso dal suo campeggio e barca a vela e mi sono accorta che parlo molto volentieri e animatamente con lui che la sua faccia abbronzata con quei fedeli e ancora un po' vaghi occhi azzurri mi piace e mi interessa che sono pronta ad alzarmi e a preparargli un po' di minestra che poi chiacchiero animatamente con lui e che in fondo mi piace come in fondo mi piacciono tutte quante le creature di Dio non credo che ci fosse qualcosa di forzato nel mio comportamento credo piuttosto che fosse la mia irritazione interiore a essere innaturale non è il mio genere infatti e allora devo controllarmi un pochino e che significa che stasera quando non sono più in grado di lavorare o di leggere è meglio che vada a dormire ieri sera ho detto ad esse che tutti quei libri erano pericolosi per me per lo meno certe volte che a forza di leggere diventavo così pigra e passiva e che allora non volevo fare nient'altro che leggere ancora e la sua risposta ricordo una parola precisa decenerati a volte faccio così fatica a costruire l'interaiatura della mia giornata alzarmi lavarmi far ginnastica mettermi delle calze senza buchi apprecchiare la tavola in breve orientarmi nella vita quotidiana che non mi rimane quasi più energia per altre cose se allora mi alzo per tempo come un qualunque cittadino sono fiera di non aver operato chissà quale miracolo eppure fin tanto che la disciplina interiore non è a posto quella esteriore rimane importantissima per me se io dormo un'ora di più alla settimana questo non significa che io abbia dormito bene ma che non so affrontare la vita e che faccio sciopero dentro di me c'è una merodia che a volte vorrebbe tanto essere tradotta in parole sue per la mia repressione mancanza di fiducia pigrizia o non so che altro rimane soffocata e nascosta a volte mi svuota completamente e poi mi colma di nuovo di una musica dolce e malinconica a volte vorrei rifugiarmi con tutto quel che ho dentro in un paio di parole ma non esistono ancora parole che mi vogliano ospitare è proprio così e io sto cercando un tetto che mi ripari ma dovrò costruirmi una casa pietra su pietra e così ognuno cerca una casa un rifugio per sé e io mi cerco sempre un paio di parole a volte mi sembra che ogni parola che vi è indetta e ogni gesto che vi è infatto accrescano il grande equivoco allora vorrei sprofondarmi in un gran silenzio e vorrei anche imporre questo silenzio agli altri sì a volte qualunque parola cresce i malintesi su questa terra troppo loquace fa ciò che la tua mano per caso si trova a fare e non pensare al poi quindi adesso si fa un letto si portano le tazze in cucina e poi si vedrà Tide riceve i girassoli di oggi la mia ragazzina deve imparare un po' di pronuncia russa è quello schizzoide che supera le mie capacità di comprensione deve essere studiato a fondo fa ciò che la tua mano e il tuo spirito si trovano a fare tuffati in ogni ora e non metterti subito a ruminare coi tuoi pensieri le tue parole e le tue preoccupazioni sulle ore successive devi riprendere in mano la tua educazione 21 ottobre dopo pranzo la nascita di un'autentica autonomia interiore è un lungo e doloroso processo è la presa di coscienza che per te non esiste alcun aiuto o appoggio o rifugio presso gli altri mai che gli altri sono altrettanto insicuri deboli e difesi che tu dovrai essere sempre la persona più forte non credo che tu sia il tipo da trovare queste cose in un altro è sempre e da capo rimandata a te stessa non c'è nient'altro il resto è finzione ma doverlo riconoscere ogni volta soprattutto come donna hai pur sempre un gran desiderio di perderti in un altro ma anche questa è una favola seppur bella due vite non possono combaciare perlomeno non per me può succederlo in alcuni momenti ma quei momenti giustificano una vita in comune possono tenerla insieme però è un sentimento forte anche quello da loro felice sola Dio mio è dura perché il mondo è un ospitale ho un cuore molto appassionato ma mai per una persona sola per tutte le persone è un cuore molto ricco io credo una volta pensavo sempre che lo avrai dato tutto a una persona sola ma è impossibile e quando a 27 anni si arriva a verità così dura si si sente a volte disperati soli e impauriti ma anche indipendenti e orgogliosi sono affidata a me stessa e dovrò cavarmela da sola l'unica norma che hai sei tu stessa lo ripeto sempre e l'unica responsabilità che puoi assumerti nella vita è la tua ma devi assumertela pienamente e ora si telefona a esse venerdì mattina le 8 signore dammi meno pensieri e più acqua fredda e ginnastica alla mattina presto la vita non può essere colta in poche formule in fondo è quel che stai cercando di fare tutto il tempo e che ti porta a pensare troppo stai cercando di rinchiudere la vita in poche formule ma non è possibile la vita è infinitamente ricca di sfumature non può essere imprigionata né semplificata ma semplice potresti essere tu giovedì mattina stupida che sei smettila con quel cervello puoi espanderti tutta in una parola in parole colorate ed estese ma quelle parole non potranno contenerti il mondo e il cielo di dio sono così vasti non sono vasti abbastanza questo vuole ritornare al buio al grembo materno al collettivo e d'altra parte diventare autonoma trovare la mia forma strapparla al caos sono tirata ora da un estremo all'altro 24 ottobre stamattina Levi non dobbiamo contagiarci reciprocamente con i nostri cattivi umori questa sera una nuova ordinanza che colpisce gli ebrei mi sono concessa mezz'ora di depressione e di ansia per queste notizie una volta mi sarei consolata mettendomi a leggere un romanzo e lasciando perdere il mio lavoro ora devo elaborare l'analisi di Mischa è troppo importante che abbia reagito così bene al telefono non bisogna essere troppo ottimisti ma merita di essere aiutato finché lo si può raggiungere sia pure passando per un minuscolo forellino bisogna approfittarne forse questo l'aiuterà nella sua vita non bisogna sempre pretendere dei grandi risultati ma bisogna credere in quelli piccoli sono già due giorni che lavoro senza lasciarmi andare ai miei umori brava ragazza sono così attaccata a questa vita cosa vuoi dire con questa vita la vita comoda che fai adesso si vedrà con gli anni se sei veramente attaccata alla vita nuda e semplice in qualunque forma essa si presenti ci sono forze sufficienti in te c'è anche questo che uno trascorre la vita ridendo o piangendo è sempre una vita ma c'è anche la dinamicità occidentale che ogni tanto si fa sentire con forza sei sanissima stai crescendo in direzione di te stessa stai diventando autonoma e ora al lavoro dopo una conversazione con Jab di tanto in tanto ci gettiamo vicendevolmente dei frammenti su noi stessi ma non credo che ci capiamo giovedì mattina paura di vivere su tutta la linea cedimento completo mancanza di fiducia in me stessa repulsione paura 21 novembre è curioso che mentre mi sono sentita pieno di istinto creativo ultimamente scriverei pagine e pagine della novella la ragazza che non voleva inginocchiarsi o qualcosa di simile e vorrei anche scrivere su quella minuta signora Levi che mi interessa non poco e su tante tantissime cose ecco che invece tutto un tratto io devo annotare questo come se mi avesse mossicata una vipera io balzo dal divano foderato di azzurro incalzata da una domanda la domanda mentre sono pieno di problemi di etica di verità e persino di dio ecco che spunta fuori un problema di cibo forse qualcosa per un'analisi dopo tutto una volta ogni tanto però già meno spesso che un tempo io mi rovino lo stomaco semplicemente perché mangio troppo e cioè per mancanza di controllo so che devo fare attenzione e invece mi prende una sorta di avidità contro cui non c'è ragionamento che tenga so che dovrò pagare caro quel po' di piacere per un semplice boccone di troppo che ho mangiato eppure non riesco a trattenermi ed un tratto mi viene da pensare che io abbia un problema col cibo e questo problema potrebbe magari essere messo in chiaro dopo tutto è un fatto simbolico probabilmente ho la stessa avidità nella mia vita spirituale questo voler incamerare un'enorme quantità di cose che ogni tanto culmina in una pesante indigestione potrebbe essere una spiegazione e forse esiste una relazione tra la mia avidità e la mia cara mamma la mamma parla sempre di cibo per lei non esiste altro su mangi qualcosa non hai mangiato abbastanza come sei diventata magra mi ricordo ancora come l'avevo vista mangiare a una festa di casalinghe anni fa io ero seduta sulla balconata di quella piccola sala del teatro di Deventer la mamma era seduta in basso a una tavolata con molte altre casalinghe aveva un vestito azzurro guarnito di pizzi e mangiava completamente assorbita dal cibo mangiava con avidità e con abbandono a vederla così d'un tratto da quella balconata aveva qualcosa di toccante mi disgustava insieme mi faceva una pena enorme non riuscivo a spiegarmelo era come se temesse che le sarebbe venuto a mancare qualcosa nella vita era uno spettacolo terribilmente triste e bestialmente disgustoso così lo vedevo io in realtà lei era una casalinga dal vestito azzurro guarnito di pizzi che mangiava la minestra ma se potessi capire tutto quel che mi sentivo dentro e come la osservavo allora io capirai molte cose di mia madre con quella paura che nella vita ti sfugga qualcosa finisci per perdere tutto per mancare la realtà sabato mattina desidero e insieme temo quel momento nella mia vita in cui mi troverò sola con me stessa e con un pezzetto di carta e non farò altro che scrivere non lo so ancora non so perché mercoledì per esempio ero al concerto con S quando vedo molte persone insieme vorrei scrivere un romanzo nell'intervallo avrei voluto avere un pezzetto di carta per annotare qualcosa anche se non sapevo che cosa dipanare i miei pensieri invece S mi ha dettato delle note su un suo paziente soggetto interessantissimo bizzarro anche ma io dovevo di nuovo tirarmi da parte questo render conto di se stessi questo sentir continuamente il bisogno di scrivere e non osare ancora di uscire allo scoperto credo che anche in generale io tenda a rimuovere troppe cose da me stessa a volte ho la sensazione di essere una personalità piuttosto forte ma agli altri mostro sempre una gentilezza un interessamento e una benevolenza che vanno spesso a scapito di me stessa allora ho questa teoria una persona deve avere abbastanza senso sociale da non infastidire gli altri con i propri umori ma non si tratta affatto di umori reprimendo me stessa io ridivento asociale nel senso che poi non ci sono per nessuno per giorni interi da qualche parte in me ci sono una malinconia una tenerezza e anche un po' di saggezza che cercano una forma a volte mi passano dentro dialoghi immagini e figure atmosfere questo improvviso affiorare di qualcosa che dovrà diventare la mia verità questo amore per gli altri che non dovrà essere conquistato non nella politica o in un partito ma in me stessa c'è ancora una falsa timidezza che mi impedisce di confessarlo la ragazza che non sapeva inginocchiarsi e che pure lo aveva imparato sul ruvido tappeto di cocco di una disordinata camera da bagno ma sono faccende intime quasi più intime di quelle del sesso vorrei poter rappresentare in tutte le sue sfumature questo processo interiore la storia della ragazza che aveva imparato a inginocchiarsi stanotte ho risposto con un sogno il mio recente complesso del cibo c'era un frammento molto chiaro perlomeno uno crede che sia così nel momento in cui provi a descriverlo quello ti sfugge parecchie persone intorno a un tavolo tra cui io e S a capotavola S chiedeva perché non vai mai a trovare gli altri io perché quel mangiare è una tal noia allora lui ha fatto quella sua famosa faccia avrà bisogno di una vita intera per saperla rendere ce l'ha quando è irritato e trovo che l'espressione più forte che possa avere il suo viso e ci ho letto qualcosa come dunque è così che sei il cibo è così importante per te ho avuto questa sensazione adesso mi ha vista dentro adesso sa esattamente quanto io sia materialista non ho reso bene questo sogno non è un sogno che si possa capire però quella coscienza improvvisa adesso mi ha vista dentro adesso sa come sono fatta è stata molto forte e così pure lo spavento che ne ho provato ancora mi è rimasto qualcosa della trasfigurata vastità di stanotte pace è un nuovo spazio per tutto quanto un po' innamorata e ancor più affezionata ad Anna non più in conflitto con esse neppure col suo lavoro andrò per la mia strada questa piccola deviazione non è grave perché affrettarsi la sua vita maturava lentamente verso il proprio compimento a volte sento così se solo fosse vero questa vasta giornata è tutta mia scivolerò in essa molto dolcemente senza nervosismo e senza fretta riconoscenza un'improvvisa profonda e consapevole riconoscenza per questa stanza chiara e spaziosa con largo divano la scrivania coi libri uomo tranquillo che è vecchio e giovanissimo al tempo stesso e sullo sfondo l'amico dalla bocca grossa e buona che non ha segreti per me e a volte può diventare segretissimo ma soprattutto c'è ancora quella chiarezza e pace e fiducia in me stessa come se trovandomi in un fitto bosco un tratto io giunga a un luogo aperto in cui possa coricarmi sulla schiena e riposare e guardare il cielo so bene che fra un'ora potrà essere diverso soprattutto in questa situazione precaria con la parte inferiore del mio corpo in fermento martedì mattina le nove e mezzo qualcosa mi sta succedendo e non so se si tratti di un semplice stato d'animo o di un fatto importante mi sembra direggermi di nuovo su me stessa sono un po' più autonoma e indipendente ieri sera pedalavo per la fredda e buia la rissa in strada se solo potessi ripetere tutto quel che ho borbottato allora mio dio prendimi per mano ti seguirò da brava non farò troppa resistenza non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita cercherò di accettare tutto e nel modo migliore ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace non penserò più nella mia ingenuità che un simile momento debba durare in eterno saprò anche accettare l'irrequietezza e la lotta il calore e la sicurezza mi piacciono ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo purché tu mi tenga per mano andrò dappertutto allora e cercherò di non aver paura ed ovunque mi troverò io cercherò di raggiare un po' di quell'amore di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro ma non devo neppure vantarmi di questo amore non so se lo possiedo non voglio essere niente di così speciale voglio solo cercare di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente a volte credo di desiderare l'isolamento di un chiostro ma dovrò realizzarmi tra gli uomini e in questo mondo e lo farò magrado la stanchezza e il senso di ribellione che ogni tanto mi prendono prometto di vivere questa vita sino in fondo e andare avanti certe volte mi viene da pensare che la mia vita sia appena all'inizio e che le difficoltà debbono ancora cominciare altre volte mi sembra di aver già lottato abbastanza studierò e cercherò di capire ma credo che dovrò pur lasciarmi confondere da quel che mi capita e che apparentemente mi svia mi lascerò sempre confondere per arrivare forse a una sempre maggior sicurezza fin quando non potrò più sbarrirmi e si sarà stabilito un profondo equilibrio un equilibrio in cui tutte le direzioni saranno sempre possibili non so se potrò essere un'amica per gli altri e se non potrò esserlo perché non è nel mio carattere bisogna che affronti anche questo in ogni caso non devi mai illuderti devi avere misura e tu sola puoi essere misura a te stessa è come se ogni giorno io sia scaraventata in un gran crogiolo e ogni giorno io riesca ad uscirne certe volte mi capita di pensare la mia vita è completamente sbagliata c'è un errore ma questo capita solo quando ci si fa una determinata idea della vita rispetto a cui può apparire sbagliato come realmente viviamo è proprio come se la mia posizione nei confronti di esse sia improvvisamente mutata come se ad un tratto io mi sia staccata da lui pur credendomi già libera come se io abbia capito nel profondo di me stessa che la mia vita sarà del tutto indipendente dalla sua ricordo quando diverse settimane fa si parlava del fatto che tutti gli ebrai sarebbero stati spediti in un campo di concentramento in Polonia e che esse mi aveva detto allora ci sposeremo così potremo rimanere insieme e faremo ancora un po' di bene e per quanto io avessi capito esattamente il senso di quelle parole per qualche giorno mi ero sentita piena di calore e di attaccamento per lui ora questo sentimento è scomparso non so cosa sia è come se io mi fossi completamente staccata da lui e ora andassi avanti per la mia strada si vede che le mie forze erano ancora investite in quell'uomo e risera mentre pedalavo nel freddo mi sono resa improvvisamente conto di quanta intensità quanto impegno di tutta la mia persona io abbia messo nell'assorbire esse il suo lavoro e la sua vita in quest'ultimo mezzo anno ora è successo esse è diventato parte integrante di me e così proseguo ma da sola di fuori non cambia nulla naturalmente continuo a essere la sua segretaria e a interessarmi per il suo lavoro ma dentro sono più libera venerdì mattina nove meno un quarto ieri sera sentivo quasi di dover chiedergli scusa per tutti i pensieri brutti e ribelli che avevo avuto nei suoi confronti in questi ultimi giorni ho capito pian piano che nei giorni in cui proviamo avversione per il prossimo in fondo proviamo avversione per noi stessi amo il prossimo tuo come te stesso so che dipende sempre da me mai da lui abbiamo un ritmo di vita molto diverso si deve permettere a ognuno di essere come è quando vogliamo plasmare un altro secondo le nostre idee andiamo sempre a sbattere contro un muro e siamo sempre delusi non dall'altra persona ma dalle nostre pretese insoddisfatte è un atteggiamento molto poco democratico ma umano forse con la psicologia si può arrivare alla vera libertà non ci si può mai ricordare abbastanza che dobbiamo renderci veramente liberi dagli altri ma che insieme dobbiamo lasciarli liberi evitando di farsene un'idea predeterminata nella nostra fantasia alla fantasia rimangono comunque dei campi abbastanza vasti anche se non si applica alle persone care ieri pomeriggio pedalavo verso casa sua in questo stato d'animo non ho voglia non dirò una parola di troppo mi sento così giù e improvvisamente all'angolo tra Apollo Lan e Michelangelo Strat ho sentito il bisogno di annotare qualcosa sul mio taccuino e così me ne stavo a scrivere al freddo sul fatto che ci sono tanti cadaveri sparsi nella letteratura e su quanto ciò sia singolare tanti morti senza ragione tra l'altro insomma diventa una cosa assurda come succede spesso se si pensa ai grandissimi pensieri che nascono nel nostro cervello nel bel bettio confuso scritto su poche righine blu all'angolo di due strade al freddo che ne è poi il risultato e così arrivai da esse nelle sue camerette familiari che lo fanno apparire quasi gigantesco c'era guerra lei ed io abbiamo parlottato un po' senza che esse ci potesse sentire con le sue orecchie deboli di nuovo stavo proprio bene e poi magrado mi sentissi così fiacca ho cominciato a buttare tutto qua e là per la stanza disordinatamente sopravvito cappello guanti borsa taccuino provocando lo sconcerto insieme il divertimento di esse e di guerra che chiedevano cosa avessi questa volta io ho risposto non ho voglia voglio sabotare questa seduta ed era un miracolo che i vagi di fiori non volassero giù in pezzi dal ripiano della finestra e il mio sfogo ha fatto visibilmente bene a guerra forse aveva desiderato spesso di fare altrettanto ma davanti a esse le era mancato il coraggio bene bene diceva e forse la mia sbaglia di ribellione ne ha reso evidente quella che lei stessa avrà talvolta provato la ribellione che di tanto in tanto si prova nei confronti di personalità molto più forti di noi una persona non può mai pensare in anticipo neppure cinque minuti prima tra poco sarò così e così e dirò questo e quello mi ero proposta di dirgli mi ero proposta di dirgli tante cose questioni di principio e di chiudere i conti con la chirologia eccetera eccetera tutto così intenso e importante e subito prima di andare da lui il mio umore era tale che non volevo più dir nulla partita ghera mi sono trovata coinvolta di punto in bianco in una specie di rotta fulminea con lui l'ho gettato poco dopo sul divano dove quasi l'ammazzavo e poi avremmo dovuto metterci a lavorare duramente e invece ecco esse seduto nella grande poltrona d'angolo dalla bella fodera fatta da Adri io come al solito ai suoi piedi tutte e due immersi in un'appassionata discussione sulla questione ebraica ascoltandolo mi sembrava di bere da una fontana rinvigorente e la sua vita non più deformata dalla mia irritazione mi appariva di nuovo con chiarezza nel suo fruttuoso svilupparsi giorno dopo giorno a volte ultimamente mi capita di vedere una singola frase della Bibbia in una luce nuova ricca di significato e di vita io creo il mondo a sua somiglianza amate il prossimo vostro come voi stessi eccetera mi toccherà finalmente affrontare i rapporti tra me e mio padre con coraggio e amore Misha mi ha annunciato il suo arrivo per sabato sera prima reazione orribile minacciata nella mia libertà importuno che fare di lui invece di che piacere che quel bravo uomo possa starsene lontano per qualche giorno dalla sua moglie sempre agitata ma da quella morta città di provincia cosa posso fare con le mie poche forze e mezzi per rendergli questo soggiorno il più piacevole possibile io delinquente sciocca egoista ah sì proprio così sempre prima pensare a te stessa al tuo tempo prezioso che è poi usato per pompare ancora un po' di sapienza libresca nella tua testa già abbastanza confusa e a che mi serve tutto ciò se non ho l'amore una splendida teoria per sentirsi nobile e in pace ma nella pratica ti spaventi davanti al più piccolo gesto di amore no non è un piccolo gesto di amore è una questione fondamentale importante e difficile nel proprio cuore voler bene ai propri genitori cioè perdonarli per tutte le difficoltà che ti hanno creato semplicemente con la loro esistenza difficoltà nell'attaccamento come nella repulsione e nel peso della loro vita complicata che si aggiunge alla tua mi sembra descrivere delle grandi sciocchezze poco male e ora devo fare il letto a Pahan e preparare la piccola lezione per l'allieva levi eccetera ma questo in ogni caso è il programma per la fine settimana nel mio cuore voler bene a mio padre e perdonargli se mi sottrae alla mia comoda tranquillità il voglio in fondo molto bene ma è o piuttosto era un amore complicato ricercato spasmodico e così mescolato alla compassione che quasi mi aveva spezzato il cuore era una compassione masochista un amore che aveva portato a grandi esplosioni di compassione e dolore ma non a un semplice gesto a grande cordialità e darsi da fare ma in modo così intenso che ogni giorno della sua permanenza qui mi era costato un intero tubetto di aspirine tutto questo però succedeva tempo fa ultimamente era già assai più normale tuttavia sempre ancora il senso di essere incalzata e per questo probabilmente ero risentita con lui quando veniva a trovarmi ora devo perdonargielo nel mio cuore e pensare e veramente sentire che bello che possa tirarsi via da là per un pochino ecco questa era una buona preghiera mattutina domenica mattina 10 e mezzo non c'è ancora abbastanza spazio in me stessa per far posto alle molte contraddizioni mie e di questa vita nel momento in cui riconosco l'una sono talmente infedele all'altra venerdì sera dialogo tra esse ed elle Cristo e gli ebrei due filosofie di vita ambe due nettamente delineate brillantemente documentate compiute e armoniose difese con passione e aggressività tuttavia trovo sempre che in ogni filosofia che si vuol difendere si insima l'inganno e che si finisce sempre per usar la violenza a spese della verità eppure io devo e voglio cercare il mio pezzo di terreno cintato prima dolorosamente conquistato poi appassionatamente difeso d'altra parte la sensazione di fare così un torto alla vita paura però di sprofondare altrimenti nell'indeterminatezza e nel caos comunque sia tornavo a casa dopo quella discussione sentendomi tutta animata e frizzante però sempre la reazione non è veramente un'assurdità perché le persone si danno così ridicolmente da fare non si stanno forse ingannando nello sfondo si intravede sempre quest'incertezza poi è arrivato mio padre pieno di amore un amore studiato il giorno prima dopo quella vergognosa preghiera mattutina ero sentita liberata e felice e leggera quando è arrivato il mio piccolo papà col suo ombrello scambiato e una nuova cravatta a scacchi e molti pacchetti di panini imburrati quasi indifeso mi ha preso di nuovo l'imbarazzo la paralisi delle forze una grandissima infelicità aveva un atteggiamento negativo nei suoi confronti anche per effetto di quella discussione della sera prima e l'amore non aiutava non c'era del resto del tutto paralizzato molto strano il nuovo caos e smarrimento alcune ore di crisi e ricaduta come nei periodi peggiori così potrei rendermi conto un'altra volta di quanto certi periodi passati fossero stati difficili a letto nel pomeriggio la vita di tutti i giorni sentita di nuovo come una gran storia di dolori eccetera eccetera argomento troppo esteso per scriverne allora mi sono resa conto di un rapporto che c'è tra noi due mio padre ha un'età avanzata ha sfumato tutte le sue insicurezze dubbi probabilmente anche complessi di inferiorità puramente fisici difficoltà irrisolte nel suo matrimonio eccetera eccetera ha sfumato tutto ciò grazie a un atteggiamento filosofico del tutto schietto amabile pieno di umorismo e molto acuto ma con tutta la sua acutezza molto vago sotto questa filosofia che giustifica tutto che guarda solo all'aneddotico senza approfondire le cose mentre sa che esistono le profondità forse perché lo sa quanto incommensurabilmente profonde siano le cose e perciò rinuncia in partenza a trovare chiarezza sotto la superficie di questa filosofia rassegnata che dice oh sì e chi lo può sapere si apre il caos è lo stesso caos che minaccia anche me quello da cui devo uscire e in ciò devo vedere il compito della mia vita è il caos in cui il cado ogni volta e in fondo le più piccole espressioni di mio padre di rassegnazione umorismo dubbio mi toccano in qualcosa che ho in comune con lui ma da cui devo staccarmi per evolvermi ancora quanto alla precisa discussione dell'altra sera dietro alle mie reazioni c'è sempre il dubbio non è del tutto assurdo e questo leggero sottofondo si è fatto più forte con l'improvvisa intrusione di mio padre nel mio mondo e allora naturalmente quella resistenza nei suoi confronti i miei blocchi e il sentirmi senza forze in fondo questo non ha niente a che fare con mio padre cioè non con la sua persona così cara commovente amabile ma si tratta di un processo interno mio il legame fra le generazioni dal caos dal non aver preso posizione nei confronti delle cose da ciò devo ora formare me stessa dunque ora sì prender posizione nota bene confrontarmi con le cose anche se ogni volta sarò presa dal dubbio non è assurdo tutto questo sì sì bambini miei così è la vita eccetera eccetera una volta chiarito questo rapporto ritornavano forza e amore e lo spavento di quelle poche ore era superato per quella di mattina le otto in bagno sveglia nel cuor della notte e sono improvvisamente ricordata di quel sogno pieno di significato per qualche minuto ho cercato di rievocarlo con tutte le mie forze quasi con avidità avevo la sensazione che anche quel sogno fosse una parte della mia personalità a cui avevo diritto e che non potevo lasciarmi sfuggire che dovessi conoscerlo se volevo sentirmi finalmente una persona completa e armoniosa alle 5 mi sentivo di nuovo gonfia avevo nausea e un po' di vertigine o erano solo fantasie per 5 minuti ho vissuto l'angoscia di tutte quelle ragazze che si accorgono con terrore di aspettare un figlio non desiderato credo di essere affatto sprovvista di istinto materno e me lo spiego così trovo che la vita è sostanzialmente un gran calvario e che tutti gli esseri umani sono infelici quindi non voglio prendermi la responsabilità di aumentare il numero di quegli sventurati più tardi ho acquistato qualche merito eterno nei confronti dell'umanità non ho mai scritto un cattivo libro e non ho il rimorso di aver aggiunto un altro infelice a quelli che già vivono su questa terra di nuovo mi ginocchio sul rubido tappeto di cocco con le mani che coprono il viso e prego signore fammi vivere di un unico grande sentimento fa che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno e insieme riconduci tutte queste piccole azioni a un unico centro a un profondo sentimento di disponibilità e di amore allora quel che farò o il luogo in cui mi troverò non aveva più molta importanza ma non sono ancora affatto a questo punto oggi inghiottirò venti pillole di chinino non mi sento proprio tanto bene a sud del mio diaframma venerdì mattina le nove camminando nella nebbia ieri mattina di nuovo questo stato d'animo in fondo ho già toccato i limiti è già successo tutto ho già vissuto tutto perché continuo a vivere ormai conosco tutto e non potrò più fare altri passi avanti i confini diventano troppo stretti e una volta che siano stati oltrepassati non mi rimarrà che il manicomio oppure la morte però non avevo ancora pensato a questa soluzione estrema la miglior medicina è allora un po' di aridissima grammatica o il sonno è l'unica cosa che mi fa sentir realizzata in questa vita è perdermi in un pezzo di prosa o in una poesia che io mi sia conquistata con fatica parola per parola un uomo non è la cosa più importante per me forse perché ho sempre avuto tanti uomini intorno a volte mi sento proprio come se fossi sazia di amore in senso positivo voglio dire la vita è stata davvero molto buona con me sempre e anche ora a volte è come se io fossi già passata attraverso lo stadio dell'io e del tu è facile dire queste cose dopo una notte simile e ora mettiamo nell'acqua i miei cari piedini persino questo traffico con un bambino non nato è una cosa impossibile per me ma si farà vedrai di pomeriggio le 5 e meno un quarto è importante che non mi lasci dominare da quel che mi sta succedendo in un modo o nell'altro deve rimanere un fatto subordinato al resto voglio dire non ci si dovrebbe mai lasciar paralizzare da una cosa sola per grave che essa sia la gran corrente della vita deve continuare a scorrere mi prendo ogni volta per mano e mi dico adesso hai da preparare quella lezione per domani e stasera devi cominciare l'idiota di Dostoevsky ma non come un capriccio devi studiartelo pazientemente da cima a fondo come se fossi un salariato nel frattempo farò i miei salti giù dalla scala e compirò quelle altre cerimonie con l'acqua ho anche la sensazione che dentro di me si compia un mistero di cui nessuno sa nulla dopo tutto sto partecipando a un avvenimento elementare e questa situazione indubbiamente un po' penosa constato in me una forte volontà di non lasciarmi metter sotto farò in modo che tutto vada a posto e andrà a posto continua a lavorare tranquilla non sprecare le tue forze con essa una passeggiatina frizzante oggi alle due aveva di nuovo qualcosa di raggiante qualcosa di un ragazzo irradia vero amore in tutte le direzioni anche verso di me e io lo rifletto a mia volta crisantemi bianchi così inuziali nel mio cuore gli sono fedele sono anche fedele ad Anna sono fedele a tutti per strada cammino accanto a un uomo con in mano dei fiori bianchi che paiono un mazzolino da sposa e lo guardo in viso con occhi raggianti e solo dodici ore fa ero fra le braccia di un altro uomo e gli volevo bene e gli voglio bene è mancanza di gusto è decadente per me è tutto perfettamente in ordine forse perché ciò che è fisico non mi importa non mi importa più molto si tratta di un altro amore che si estende più lontano o mi sto illudendo sono troppo vaga anche nei miei rapporti con gli altri non credo come mai quest'ossessione improvvisa che sia tutto sbagliato sabato mattina le nove e mezzo innanzitutto mi fregherò sotto il mento per farmi coraggio per questa giornata al mio risveglio stamattina presto per un momento quell'oppressione di piombo quell'irrequietezza nerissima senza ombra di montatura in fin dei conti non è una piccolezza mi sembra di salvare la vita a un essere umano no è ridicolo dire che io salvi la vita di una persona mentre cerco di eliminarla con tutte le mie forze voglio risparmiarle il dolore di percorrere questa valle di lacrime rimarrai nella condizione protetta di chi non è ancora nato e si riconoscente essere in divenire provo quasi tenerezza per te ti attaccherò con acqua calda e con orribili strumenti ti combatterò con pazienza e costanza fin tanto che non ti sarai di nuovo dissolto nel nulla e allora sentirò di aver compiuto un'azione buona e responsabile non ti posso certo trasmettere forze sufficienti troppi germi di malattie ereditarie si aggirano per la mia famiglia ho assistito poco tempo fa alla scena di Miscia che in uno stato di totale confusione era stato portato a forza in una casa di cura ho giurato allora che dal mio grembo non nascerà mai un essere altrettanto infelice purché non duri troppo a lungo altrimenti mi verrà un'angoscia terribile è passata solo una settimana e già sono stanca e stufa di tutti quei provvedimenti ma ti sbarrerò l'ingresso a questa vita e non dovrai lamentartene venerdì mattina alle nove ci si lamenta di come fa buio al mattino per me invece è spesso l'ora migliore del giorno quando l'alba si affaccia grigia e silenziosa alle mie pallide finestre in quel grigiore silenzio c'è allora una macchia luminosa e violenta la piccola lampada velata che rischiara il grande piano scuro della mia scrivania la settimana scorsa è stata proprio la mia ora migliore ero immersa nell'idiota traducevo solennemente qualche riga in un quaderno aggiungevo una breve annotazione mia e di colpo erano le dieci allora ho pensato sì così devi studiare così assorta così va bene stamattina una profonda tranquillità proprio come una tempesta che si è calmata mi accorgo che questo stato d'animo si ripete ogni volta dopo giorni di vita interiore terribilmente intensa ricerca di chiarezza togli epatite per sentimenti e pensieri che non sono affatto pronti per nascere enormi pretese da parte mia e la ricerca di una piccola forma propria che diventa di un'importanza capitale eccetera 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 ecco che poi tutto questo affanno improvvisamente mi cade addosso il mio cervello è piacevolmente stanco c'è boraccia di nuovo sento quasi una sorta di dolcezza anche verso me stessa e su di me calo un velo attraverso cui la vita filtra più mite e spesso più ridente sento allora di essere tutt'uno con la vita inoltre che non sono io individualmente a volere o a dovere fare questo o quello ma che la vita è grande e buona e attraente e eterna e se tu dai tanta importanza a te stesse ti agiti e fai chiasso allora ti sfugge quella grande potente e eterna corrente che è appunto la vita è proprio in questi momenti e quanto ne sono riconoscente che ogni aspirazione personale mi abbandona la mia ansia per esempio di conoscere il sapere si acquieta e un piccolo pezzo di eternità scende su di me con un largo colpo d'ala so bene che questo stato d'animo non dura a lungo magari è già passato dopo mezz'ora ma nel frattempo ho potuto di nuovo attingervi forza e che poi questo senso di gran respiro e dolcezza sia dovuto alle sei aspirine prese ieri a causa di un forte mal di testa o alla musica suonata da miscia oppure al caldo corpo di han nel quale mi sono completamente seppellita stanotte chi lo può dire e che importa l'orologio ticchetta dietro le mie spalle i rumori in casa e in strada sono come una risacca lontana una lampada rotonda bianca nella casa di rimpetto si intravede nel divore di questa mattina piovosa mi sento alla mia scrivania con la sua grande superficie scura come su un'isola deserta la bruna ragazza marocchina guarda fuori nella mattina grigia con i suoi seri occhi scuri che sono animaleschi e limpidi al tempo stesso e che importa se studio una pagina di libro in più o in meno purché tu viva dando ascolto al ritmo che ti porti dentro a ciò che sale dal fondo di te stessa gran parte del tuo comportamento è una forma di imitazione oppure risponde a doveri inventati o a preconcetti errati su come una persona debba essere l'unica sicurezza su come tu ti debba comportare ti può venire dalle sorgenti che zampillano nel profondo di te stessa e io lo dico ora con tutta umiltà e riconoscenza e sincerità anche se so bene che tornerò ad essere suscettibile e ribelle dio mio ti ringrazio perché mi hai creata così come sono ti ringrazio perché talvolta posso essere così colma di vastità quella vastità che non è poi nient'altro che il mio essere ricolma di te ti prometto che tutta la mia vita sarà un tendere verso quella bella armonia e anche verso quell'umiltà e vero amore di cui sento la capacità in me stessa nei momenti migliori e ora presto a sparecchiare la tavola della colazione e a preparare ancora un momento la colazione per le vie e devo anche mettere un po' di colore sulla bocca domenica mattina ieri sera subito prima di andare a letto mi sono trovata improvvisamente in ginocchio nel mezzo di questa grande stanza tra le sedie di acciaio della sfoia chiara un gesto spontaneo spinta a terra da qualcosa che era più forte di me tempo fa mi ero detta mi esercito nell'inginocchiarmi esitavo ancora troppo davanti a questo gesto che è così intimo come i gesti dell'amore di cui pure non si può parlare se non si è poeti qualche volta ho la sensazione di avere Dio dentro di me aveva detto un paziente a esse per esempio quando ascolto la matthäus passion esse aveva risposto all'incirca che in quei momenti lui era in contatto diretto con le forze creative e cosmiche che operano in ogni persona e che questo principio creativo era in definitiva una parte di Dio si doveva avere solo il coraggio di dirlo queste parole mi accompagnano già da settimane si deve avere anche il coraggio di dirlo avere il coraggio di pronunciare il nome di Dio una volta essa mi ha detto che ci aveva messo molto tempo come se ci avesse trovato sempre qualcosa di ridicolo e prego anche alla sera prego per delle persone e io gli avevo chiesto con la mia solita faccia tosta e con la pretesa di voler sapere tutto quanto che cosa dice quando prega lui era rimasto tutto imbarazzato e poi quest'uomo che sa sempre rispondere in modo chiaro e trasparente alle mie domande più sottili e più intime mi aveva risposto timidamente questo non glielo dico per adesso no più tardi ogni tanto mi chiedo come mai questa guerra con tutte le sue implicazioni mi tocchi così poco forse perché è la mia seconda guerra mondiale la prima l'ho vissuta violentemente e intensamente attraverso la letteratura del dopo guerra ribellione avversione passione discussioni giustizia sociale lotta di classe eccetera eccetera tutto questo l'abbiamo già vissuto una volta ricominciare una seconda volta non va diventa un cliché naturalmente ogni paese prega di nuovo per la sua giusta vittoria e sono ricomparsi tutti gli slogan ma ora che viviamo questa situazione per la seconda volta sarebbe troppo ridicolo insulso se ci lasciassimo prendere dall'agitazione o dalla passione ieri sera nel bel mezzo di una conversazione ho detto ad Hans che ha 21 anni questo dipende dal fatto che la politica non è la cosa più importante per te e lui non c'è bisogno di parlarne tutto il giorno è comunque la cosa più importante tra i suoi 21 anni e i miei 27 ci passa già una generazione intera ora sono le nove e mezza di mattina Hans russa là dietro con un suono piano e familiare nella stanza in penombra la mattina domenicale grigia e silenziosa sta crescendo e facendosi giorno chiaro il giorno continuerà a crescere diventando sera e io cresco con essi in questi ultimi tre giorni è come se io fossi passata attraverso un processo di maturazione di anni e ora brava e disciplinata di nuovo alla traduzione della grammatica russa le due di pomeriggio catalogando i libri della biblioteca di esse ci trovo das Stundenbuch di Rilke può sembrare paradossale ma esse guarisce le persone insegnando loro ad accettare il dolore mercoledì sera Ruth riceve regali dagli appassionati di teatro in una piccola città di provincia tedesca e Hertha si riceve dalle prostitute a un chiosco di libri di un parco londinese la bionda stella dell'operetta ha 22 anni e la bruna ragazza melanconica ne ha 25 la seconda è la futura matrigna della prima la vera madre è fidanzata con un uomo di 25 anni e lei ne ha già 50 il suo ex marito il padre e futuro sposo abita in due piccole camere ad Amsterdam legge la Bibbia e si deve radere tutti i giorni e i seni delle molte donne che lo circondano sono come altrettanti frutti di un ricco frutteto verso cui lui non ha che da allungare avidamente la mano e la segretaria russa cerca di farsi un'idea di tutto questo insieme nasce un'amicizia che mette sempre più radici nel suo cuore incostante la segretaria continua ancora a dargli del lei ma questo serve forse a ristabilire la giusta distanza che consente a sua volta di mantenere una visione di insieme il desiderio insensato e appassionato di perdermi per lui si è già calmato da tempo è diventato ragionevole perdermi per una persona e sparire dalla mia vita forse mi è rimasto il desiderio di perdermi per Dio o per una poesia il gran cranio dell'umanità il suo potente cervello e il suo gran cuore tutti i pensieri per quanto contradditori nascono da quell'unico grande cervello il cervello dell'umanità di tutta l'umanità lo sento come un unico grande insieme e forse è di lì che mi viene di tanto in tanto quel profondo sentimento di armonia e di pace malgrado le numerose contraddizioni bisogna conoscere tutti i pensieri e sentirci passare dentro tutte le emozioni per sapere che cosa sia stato ideato in quell'immenso cranio e che cosa sia passato per quel gran cuore e così la tua vita è un passare da un parto all'altro forse dovrò spesso cercare il mio parto la mia liberazione di un cattivo pezzo di prosa così come un uomo spinto dal bisogno trova la sua liberazione in quella che detto energicamente si chiama puttana perché a volte si grida per partorire in ogni modo lunedì poveriggio le cinque conosco i suoi gesti intimi con le donne e ora vorrei ancora conoscere i gesti che ha per dio prega tutte le sere si inginocchia si inginocchia in mezzo alla cameretta nasconde la testa pesante dietro le sue grandi belle mani e si inginocchia prima di essersi tolto la dentiera o dopo quella volta ad Arnhem le farò vedere come sto senza denti ho un'aria così vecchia e così dotta ragazza che non poteva inginocchiarsi nell'alba grigia di oggi in un moto di irrequietezza mi sono trovata improvvisamente per terra inginocchio tra il letto disfatto di Arnhem e la sua macchina da scrivere tutta rannicchiata e con la testa che toccava il pavimento forse un gesto per estorcere pace e a Arnhem che entrava in quel momento e sembrava un po' stupito di quella scena ho detto che cercavo un bottone ma non era vero Tidemann quella robusta donna di 35 anni dai capelli rossi aveva detto una sera con voce chiara e sonora vedi in questo sono come un bambino se ho delle difficoltà mi inginocchio nel mezzo della mia camera e chiedo a Dio cosa debbo fare bacia come una ragazzina essa me l'ha mostrata una volta ma i suoi gesti verso Dio sono maturi e sicuri molte persone sono troppo ristrette troppo chiuse nelle loro idee e così educando i figli li legano a loro volta da noi era proprio il contrario mi sembra che i miei genitori siano stati sempre più sopraffatti dall'infinita complicazione di questa vita e che non siano mai stati in grado di fare una scelta hanno lasciato troppa libertà di movimento ai loro figli non potevano offrirsi nessun punto d'appoggio dato che non ne avevano mai trovato uno per sé e non potevano contribuire alla nostra formazione perché non si erano mai trovati una forma capisco sempre meglio il nostro compito è quello di permettere ai loro poveri talenti dispersi senza forma e riposo di crescere di maturare e di trovare la loro forma in noi per reazione alla loro mancanza di forma assenza di vera generosità disordine insicurezza cattiva amministrazione per così dire e forse talvolta anche se non ultimamente aspirazione spasmodica verso unità inquadramento sistema ma l'unica vera unità è quella che contiene tutte le contraddizioni e i momenti irrazionali altrimenti finisce per essere di nuovo un legame spasmodico che fa violenza alla vita 31 dicembre 1941 partì di mattina le 10 ad Eventer mi svegliavo con questo stato d'animo mi sentivo così bene con gli angoli e i lati tutti al loro posto nella mattina gelata ancora due parole più che altro per il piacere di essere ospite di me stessa presso questa lampada fedele alcune cose terra terra mi accorgo che alzarmi presto mi fa un gran bene e trovo sempre che l'acqua fredda è una cosa quasi eroica sono fondamentalmente una persona molto sana la cosa principale è l'equilibrio spirituale il resto funziona allora da sé la colazione rallegrata da una coscia di pollo cara maminka che traduce tutto il suo amore in cosce di pollo e uova sode il treno per Deventer quando vedo tanti visi intorno a me voglio scrivere un romanzo a Belardo ed Eloisa il paesaggio ampio quieto e anche un po' triste guardavo fuori dalla finestra ed era come se viaggiassi attraverso il paesaggio della mia anima paesaggio dell'anima spesso il paesaggio esterno è per me lo specchio di quello interno giovedì pomeriggio un pochino lungo l'issel paesaggio ampio sereno e pieno di luce anche lì la sensazione di camminare per la mia anima che modo stomachevole di dire le cose sta zitta la mamma di colpo quell'ondata di amore e di compassione che cancellava tutte le piccole irritazioni cinque minuti dopo ero naturalmente irritata di nuovo ma più tardi quel giorno quella sera mi è venuto di pensare forse quando sarai molto vecchia io passerò un po' di tempo con te ti spiegherò cosa hai dentro e ti libererò dalla tua irrequietezza perché pian piano comincio a capire come sei combinata la mamma che a un certo punto diceva sì in fondo sono religiosa tante piet avevo usato quasi le stesse parole qualche giorno fa era davanti al camino in fondo sono religiosa è quell'in fondo che conta nel suo atteggiamento le persone si abitano ad ometterlo a non avere il coraggio di dir di sì ai loro sentimenti più profondi che voleva dire con in fondo sono riconoscente sono riconoscente non so dire ancora quanto perché lo posso conoscere nella fase migliore della sua vita ma riconoscente non è la parola le otto di sera lo specialista dei polmoni lo ha più o meno deriso per il suo gran torace ma ogni domanda se avesse tosse o catarro o dio sa cosa essa rispondeva invariabilmente purtroppo non posso servirla e la prima cosa che ha detto tornando nella sala d'aspetto era devo partire subito per Davos ho protestato dicendo che in quel caso tutto l'arem sarebbe partito con lui certamente la Svizzera mi ringrazierà per strada dovevo prenderlo in giro in continuazione e lui minacciandomi aspetta fino a venerdì quando ci saranno le radiografie con gran fatica siamo riusciti a comprare tre limoni a un carretto pagandoli dieci centesimi ciascuno invece che sette e avevamo tanta voglia di pasticcini con la panna montata così ce ne siamo andati di nuovo in giro per le strade come una bizzarra coppia di innamorati io appeso il suo braccio in atteggiamento un po' voluto e col cappello da cosacco di traverso sulla testa lui col suo berretto d'alpino posato sopra quell'antico paesaggio grigio ora sono quasi le otto e mezzo di sera l'ultima sera di un anno che è stato per me il più ricco e fruttuoso e insieme il più felice di tutti e se dovessi spiegare in una parola perché quest'anno è stato così buono a partire dal 3 febbraio quando avevo suonato timidamente al 27 della Cobertestrat e un tipo da far paura mi aveva esaminato le mani tenendo un'antenna sulla testa allora dovrei dire per la mia grande presa di coscienza e che significa anche poter disporre delle mie forze più profonde e pensare che una volta appartenevo anch'io a quella categoria di persone che di tanto in tanto pensano di se stesse sì in fondo io sono una persona religiosa o qualcos'altro di positivo e ora mi capita di dovermi inginocchiare di colpo davanti al mio letto persino in una fredda notte d'inverno ascoltarsi dentro non lasciarsi più guidare da quello che si avvicina da fuori ma da quello che si innalza dentro è solo un inizio me ne rendo conto ma non è più un inizio vacillante agiate le basi ora sono le otto e mezzo c'è un cammino a gas acceso tulipani gialli e rossi ed ecco che spunta fuori una pasticca di cioccolato della zia Hess ci sono anche tre pigne che vengono dalla brughiera di Larraine accanto alla ragazza marocchina e a Puskin mi sento così normale e così bene senza quei pensieri terribilmente profondi e tormentosi e quei sentimenti pesanti proprio normalissima però piena di vita è molto profonda una profondità che sento pure come normale devo ancora ricordare l'insalata di salmone che è pronta per stasera e ora metto sull'acqua per il tè la zia Hess sta facendo un golfino all'uncinetto e Pahan si trastulla con una macchina fotografica e perché no poi che sia tra questi muri o tra altri quattro che importa tanto quel che conta è altrove e stasera spero anche di andare un po' avanti con Jung 7 gennaio 1942 mercoledì sera le 8 oggi pomeriggio lungo il canale bianco di neve dopo quella scena inaspettata al consiglio ebraico sono molto meno sicuro della mia assoluta bravura e dell'insieme delle mie qualità umane e più tardi ognuno attaccato a un cordone del tram numero 24 era un bene che lei ci fosse lei mi stimola sempre perché partecipa a tutto e io sono un tipo che ha proprio bisogno di un podio in un modo o nell'altro io pretendo di dire sempre qualcosa che sia molto spiritoso acuto e speciale o altrimenti non so dire assolutamente nulla e così finisco per non annotare mai tanti piccoli incidenti comici perché ho paura di essere insulsa di fronte a me stessa adesso però voglio provare ad annotare l'episodio di oggi pomeriggio solo i fatti puri e semplici anche se proprio i semplici fatti non esistono mai con esse perché l'atmosfera che emana da lui finisce sempre per influenzare le situazioni dunque dovevamo trovarci alle 4 e mezzo al consiglio ebraico eravamo ben poco entusiasti al pensiero di interrogazioni e domande riguardanti la proprietà numero di emigrazione gestapo ed altre amenità simili un giovane dietro un tavolino vigio sensibile dolce intelligente la segretaria russa saltella senza troppa eleganza dietro a esse come se la sua presenza fosse necessaria apparentemente per quel suo orecchio in realtà solo per poterci essere anche lei e anche questa volta ne valeva la pena dopo 4 chiacchiere tra esse e quest'individuo dolce e veramente molto simpatico spunta fuori un omino che tutto entusiasta si avvicina a esse buongiorno signor esse esse guarda questo tipo che aveva una meravigliosa testa sarcastica da mefistofele su un corpo piccolino non lo riconosce e gli dice sperando in bene oh lei deve essere stato mio allievo questo succede in tutta Europa immagino se io cammino per la strada con esse ogni tanti metri c'è qualcuno che gli viene incontro con la mano tesa esse dice prontamente oh lei deve essere stato mio paziente quest'uomo la cui faccia diabolica dai tratti marcati e sarcastisi contrastava singolarmente con quella sensibile e dolce del giovane non aveva frequentato un corso di esse ma lo conosceva attraverso i net e aveva gran voglia di essere suo paziente il tipo mordace dice a quello mite sta attento al signor esse quello sa tutto di te quello sa tutto di te dalle tue mani e il giovane mite pose immediatamente sul tavolo la sua mano destra aperta esse che ha un po' di tempo ha consente è difficile descrivere il seguito anche perché quando esse dice questo è un tavolo e un altro dice questo è un tavolo i due tavoli risultano molto diversi le cose che dice lui anche le più semplici sembrano più impressionanti significative vorrei quasi dire più cariche che se le dicesse un altro e non perché esse si dia un'aria di importanza ma perché le cose in lui sgolgano da sorgenti più profonde più vive e anche più profondamente umane e nel suo lavoro esse cerca l'elemento umano e non quello sensazionale anche se finisce sempre per svegliare delle sensazioni proprio perché scandaglia l'uomo in profondità dunque il piccolo ufficio spoglio del consiglio ebraico e giovane sensibile che teneva le mani sollevate il mefisto tutto attento è esse che dopo un paio di osservazioni riusciva a creare un contatto umano molto forte col primo e nota bene che eravamo venuti per essere interrogati sulle nostre proprietà non ricordo esattamente tutte le osservazioni di esse ma una era questa lei fa bene il suo lavoro perché va contro la sua vera natura ed è sfuggita tanto introverso no è troppo difficile da rendere la brava allieva collaborava valorosamente osservando tra l'altro anche qualcosa di femminile e di sensibile che venivano fuori capacità che non potevano manifestarsi per sfiducia in se stesso e anche quando lei si è messo davanti a una cosa da fare la farà bene ma se avesse da scegliere tra cose diverse sarà insicuro eccetera eccetera in pochi minuti il giovane era per così dire messo a terra tutto sconcertato ma signoresse quel che lei mi dice in due minuti corrisponde esattamente al risultato di un test che avevo fatto dopodiché ha preso un appuntamento con esse e gli ha dato mille consigli per compilare quei moduli mi accorgo che non sono affatto tagliata per rendere il lato umoristico di quella situazione inaspettata più tardi sul canale bianco di neve ce la ridevamo come due scolaretti chassosi ripensando allo strano esito di quel caso burocratico un appuntamento per un consulto e un impiegato che per un improvviso moto di simpatia vorrebbe violare la legge in tuo favore se gli fosse possibile 11 gennaio le 11 e mezzo di sera sono contenta che domattina mi aspettino tutti quei piatti da lavare nella cucina in disordine è una specie di penitenza credo di poter capire i monaci che nelle loro ruvide vesti si inginocchiano su freddi pavimenti di pietra bisogna che rifletta seriamente su queste cose stasera sono proprio un po' triste ma sono stata io a volere quegli abbracci lui quel tesoro si era appena proposto di vivere in castità per parecchie settimane pensando alla gestapo dove dovrà presentarsi tra non molto quasi per poter irradiare nient'altro che bontà e purezza per attirare su di sé i buoni spiriti del cosmo perché poi uno non dovrebbe crederci ed ecco che una sfrenata ragazza kirghisa viene a confondergli quei sogni gli ho chiesto se stasera ripensandoci dal suo letto ne avrebbe provato dispiacere no ha risposto io non vi impiango mai nulla era bello e mi sono reso conto che esiste ancora un luogo terrestre dentro di me invece per me un improvviso ravvicinamento fisico nasce sempre da una vicinanza spirituale ed è buono proprio per questo e che cosa ne cavo poi soltanto tristezza è la coscienza che con gli abbracci non riesco ad esprimere quel che provo per un altro e la sensazione che un uomo mi sfugge proprio quando è fra le mie braccia io provo più piacere e desiderio nel guardare la sua bocca che nel sentirla sulla mia nei rarissimi momenti questo mi procura persino una sorta di felicità per dirla con un parolone e stanotte mi addormenterò accanto ad Ann per pura tristezza com'è tutto caotico ora lo so esse prega dopo essersi tolto i denti del resto è logico si deve prima aver chiuso i conti con tutte le faccende terroene pare che io sia in un periodo di grande fioritura il radio luce in tutte le direzioni dice esse e lui ne gode insieme con me un anno fa ero proprio un'amoribonda con le mie sieste di due ore e il mezzo chilo di aspirine al mese era una situazione da far paura ormai è letteratura antica mi sembrano così lontani i problemi che avevo allora ho dovuto percorrere un cammino faticoso per ritrovare quel gesto intimo verso Dio la sera alla finestra per non dire ti ringrazio signore nel mio mondo interiore regnano tranquillità e pace è stato proprio un cammino faticoso ora sembra tutto così semplice così ovvio questa frase mi ha perseguitata per settimane bisogna osar dire che si crede osar pronunciare il nome di Dio in questo momento un po' fiacca e stanca e triste e non del tutto contenta di me stessa non sento così ma so che questo sentimento esiste stasera non dirò certo niente a Dio anche se sento il desiderio di quelle pietre fredde di riflettere di prendere le cose sul serio le cose del corpo il mio temperamento va ancora troppo per la sua strada non è in armonia con l'anima credo però di possedere questo desiderio di armonia anche se dubito sempre più che lo stesso uomo possa andarmi bene corpo e anima certo però che la mia tristezza è diversa da quella di un tempo non cado più così in basso e nella mia tristezza è già insida una possibilità di ripresa una volta quando ero triste pensavo che avrei continuato ad esserlo per tutta la vita ora so che anche quei momenti fanno parte del mio ritmo vitale e che è un bene che sia così ho di nuovo fiducia una grandissima fiducia anche in me stessa credo nella serietà del mio impegno e so che col tempo riuscirò ad amministrare bene la mia vita certe volte quando sono sola penso a lui con un amore tanto profondo e riconoscente mi sei così vicino che vorrei dividere le tue notti con te questi sono per me i momenti forti della mia relazione con lui può darsi benissimo che una notte simile si rivelerebbe un disastro c'è qualcosa che non va e ora buonanotte perché mi accorgo che sto dicendo delle grandi sciocchezze al sonno che ho ecco i piatti da lavare domattina però il suo corpo non lo voglio proprio anche se certe volte sono pazzamente innamorata di lui dipende dal fatto che gli voglio bene in modo così profondo quasi cosmico un modo che col corpo non si riesce neppure ad esprimere Tide e Dio siamo le due persone più vicine ad esse e siamo due opposti dobbiamo volersi molto bene anche noi oggi pomeriggio quando lei ci ha accompagnati alla porta e ha dato un bacio a tutti e due c'era per un momento una meravigliosa intimità fra noi tre e ora andrai finalmente a letto 19 febbraio 1942 giovedì pomeriggio le due se dovessi dire che cosa mi ha fatto più impressione oggi direi che sono state le grosse mani pieni di geloni di Jean Ball di nuovo qualcuno è stato torturato a morte quel dolce ragazzo della libreria cultura ricordo che suonava il mandolino aveva una ragazza simpatica che era poi diventata sua moglie ma c'era anche un bambino quelle bestie diceva Jean Ball nel corridoio affollato dell'università lo hanno fatto a pezzi e Jean Romain e Till Roy e diversi altri tra i professori più vecchi e più fragili ora sono prigionieri in una baracca piena di correnti in quello stesso parco di Velouve dove in una pensione accogliente avevano trascorso le loro vacanze estive non hanno neppure il permesso di indossare il pigiama non possono avere nulla con sé raccontava Leida Shot nel buffet vogliono abbrutirli completamente vogliono fargli venire il sentimento di inferiorità moralmente sono forti abbastanza ai nostri uomini ma la salute dei più è davvero molto fragile Pos si trova in un convento ad Aren e scrive un libro così vi han detto sarà un grande sconforto stamattina a lezione ma una luce c'era una breve inaspettata conversazione con Jean Ball mentre attraversavamo il freddo e stretto Langeburg Steg e poi aspettando il tram Jean chiedeva con amarezza cosa spinge l'uomo a distruggere gli altri e io gli uomini dici ma ricordati che sei un uomo anche tu inaspettatamente quel testardo brusco Jean era pronto a darmi ragione il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi continuavo a predicare e non vedo nessun'altra soluzione veramente non ne vedo nessun'altra che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume non credo più che ci possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi è l'unica lezione di questa guerra dobbiamo cercare in noi stessi non altrove e Jean era pronto ad essere d'accordo con me aperto e perplesso e non più attaccato alle durissime teorie sociali di un tempo diceva sono anche così a buon prezzo i sentimenti vendicativi rivolti verso l'esterno vivere solo in funzione di quell'unico momento di vendetta questo non ci interessa proprio stavamo lì al freddo ad aspettare il tram di Jean con le sue grandi mani viola per i geloni e col mal di denti e non erano teorie i nostri professori sono imprigionati un altro amico di Jean è stato ammazzato ma c'è ancora dell'altro troppo per farne un elenco e noi ci dicevamo sono così a buon prezzo quei sentimenti di vendetta era proprio una luce oggi e ora un po' a dormire e poi a far conoscenza con quell'amica di Rilke tutto va sempre avanti e perché no dovrei scrivere un po' più spesso su queste righine blu ma c'è troppo poco tempo 25 febbraio mercoledì sono le sette e mezzo di mattina mi sono tagliata le unghie dei piedi ho bevuto un bicchiere di vero cacao vanfuten e ho mangiato una fetta di pane imburrato con miele il tutto con quel che si dice abbandono ho aperto a casaccio la bibbia ma stamattina non dava risposta non importa molto del resto non c'erano vere domande da fare c'è solo una grande fiducia e riconoscenza che la vita sia tanto bella e perciò questo è un momento storico non perché tra poco io devo andare con esse alla Gestapo ma perché trovo ugualmente bella la vita 27 febbraio venerdì mattina le 10 mi sembra presuntuoso affermare che un uomo possa determinare il proprio destino dall'interno quel che invece un uomo ha in mano è il proprio orientamento interiore verso il destino i fatti esterni non bastano per capire la vita di una persona bisogna conoscerne i sogni il rapporto con la famiglia gli stati d'animo le delusioni la malattia e la morte mercoledì mattina presto quando con un gruppo numeroso ci siamo trovati in quel locale della Gestapo i fatti delle nostre vite erano tutti uguali eravamo tutti nello stesso ambiente i uomini dietro la scrivania come quelli che venivano interrogati ciò che qualificava la vita di ciascuno era l'atteggiamento interiore verso questi fatti si notava subito un giovane che camminava su e giù con un'espressione palesemente scontenta assillato e tormentato cercava in continuazione pretesti per urlare a quei disgraziati ebrei mani fuori dalle tasche per favore eccetera per me era da compiangere più di coloro a cui stava urlando e questi a loro volta facevano pena nella misura in cui erano impauriti quando mi sono presentata davanti alla scrivania mi ha urlato improvvisamente che ci trova di ridicolo e avrei disposto volentieri niente tranne lei ma per diplomazia mi è parso meglio lasciar stare lei ride tutto il tempo continuava a urlare lui e io in tutta innocenza non me ne accorgo proprio è la mia faccia normale e lui per favore non dica scemenze vada fuori con una faccia che voleva dire tra poco mi sentirai credo che questo fosse il momento psicologico in cui avrei dovuto spaventarmi a morte ma quel trucco l'ho capito troppo in fretta in fondo io non ho paura non per una forma di temerarietà ma perché sono cosciente del fatto che ho sempre a che fare con degli esseri umani e che cercherò di capire ogni espressione di chiunque sia e fin dove mi sarà possibile e il fatto storico di quella mattina non era che un infelice ragazzo della Gestapo si mettesse a urlare contro di me ma che francamente io non ne provassi sdegno anzi che mi facesse pena tanto che avrei voluto chiedergli hai avuto una giovinezza così triste o sei stato tradito dalla tua ragazza aveva un'aria così tormentata e assillata dal resto anche molto sgradevole e molle avrei voluto cominciare subito a curarlo ben sapendo che questi ragazzi sono da compiangere fin tanto che non sono in grado di fare del male ma che diventano pericolosissimi se sono lasciati liberi di avventarsi sull'umanità c'è solo il sistema che usa questo tipo di persone a essere criminale e quando si parla di sterminare allora che sia il male nell'uomo non l'uomo stesso un'altra cosa ancora dopo quella mattina la mia consapevolezza di non essere capace di odiare gli uomini malgrado il dolore e l'ingiustizia che ci sono al mondo la coscienza che tutti questi orrori non sono come un periodo misterioso e lontano al di fuori di noi ma che si trovano vicinissimi e nascono dentro di noi e perciò sono molto più familiari e assai meno terrificanti quel che fa paura è il fatto che certi sistemi possano crescere al punto da superare gli uomini e da tenerli stretti in una morsa diabolica e autori come le vittime così grandi edifici e torri costruiti dagli uomini con le loro mani si innalzano sopra di noi si dominano e possono crollarci addosso e seppellirci 12 marzo 1942 dove di sera le undici e mezzo era indescrivibilmente bello Marx la nostra tazza di caffè e la cattiva sigaretta e la nostra passeggiata a braccetto per la città oscurata e il fatto che noi due camminassimo insieme chi conosce chi conosce la nostra storia come si meraviglierebbe di questo strano incontro così senza alcun motivo tranne che Marx vuole sposarsi e desiderava avere un consiglio da me buffo proprio da me e questo era appunto così bello che uno riveda l'amico di gioventù e lo possa rispecchiare nella propria cresciuta maturità Marx diceva all'inizio della serata non so cosa sia ma qualcosa in te è cambiato sei diventata una vera donna e alla fine no non sei cambiata in peggio non voglio dire questo i tuoi tratti la tua mimica tutto è ancora vivace ed espressivo come una volta ma dietro queste cose c'è ancora una così grande chiarificazione è bello stare con te e mi puntava ancora un momento la lampadina in faccia rideva come riconoscendomi con un cenno del capo e annuiva sì sei proprio tu e allora le nostre guance si sono sfiorate in un modo insieme goffo e familiare e siamo partiti in direzioni opposte è stato davvero indescrivibilmente bello e per quanto possa sembrare paradossale forse era la prima volta in cui siamo stati veramente bene insieme mentre camminavo Max ha detto ad un tratto forse col passar degli anni tu ed io potremmo ancora diventare veri amici e così nulla va perso le persone ritornano e interiormente puoi continuare a vivere con loro finché qualche anno più tardi sono di nuovo unite a te l'ottomazzo scrivevo a esse una volta la mia passionalità non era nient'altro che un aggrapparsi disperato a cosa precisamente a qualcosa a cui non ci si può affatto aggrappare col corpo ed era proprio col corpo di Marx dell'uomo che questa sera camminava fraternamente accanto a me che allora mi ero aggrappata in una disperazione insopportabile e questo appunto in qualche modo dava gioia il fatto che fosse rimasto tutto ciò il buon scambio fiducioso dei nostri pensieri il breve reciproco indugiare nell'atmosfera dell'altro evocare ricordi che non facevano più male mentre una volta ci eravamo letteralmente distrutti a forza di vivere intensamente e anche il constatare per un momento con la massima tranquillità è vero eravamo proprio degli esaltati ma era proprio di nuovo Marx che chiedeva hai avuto allora un'altra relazione e io con due dita per aria più tardi quando ho accennato al fatto che avrai forse sposato un emigrato per poter stargli vicina se fosse stato mandato in un campo ha avuto un attimo di sconcerto salutando mi ha detto mi prometti che non farai stupidaggini ho tanta paura che una volta o l'altra tu vada in pezzi e io io non mi rompo mai in nessun posto e volevo ancora aggiungere un'altra cosa ma a quel punto eravamo già troppo distanti se tu vivi interiormente forse non c'è neanche tanta differenza tra essere dentro o fuori in un campo sarò capace di assumere la responsabilità di queste parole di fronte a me stessa sarò capace di viverle non possiamo farci molte illusioni la vita diventerà molto dura e saremo di nuovo separati tutti noi che ci vogliamo bene credo che quel tempo non sia più molto lontano è sempre più necessario prepararci interiormente mi piacerebbe leggere le lettere che gli scrivevo a 18 anni Max diceva sono sempre stato così ambizioso per te mi aspettavo che avresti scritto dei grandi libri e io Max quelli verranno hai fretta io so scrivere e so che avrò pure qualcosa da dire ma perché non dovremmo avere pazienza sì lo so che sai scrivere ogni tanto rilego le tue lettere è vero che sai scrivere è però consolante che queste cose possano ancora succedere in un mondo lacerato forse queste possibilità sono assai più grandi di quanto non ammettiamo di fronte a noi stessi che un amore giovanile improvvisamente ritrovi se stesso e guardi indietro sorridendo al proprio passato e che si sia riconciliato con questo passato così è successo a me io ho dato il tono a questa sera e Max mi ha seguita e questo è già tanto e così anche tutto non è più un caso una piccola spilerai di quando in quando un'avventura avvincente si ha la sensazione di avere un destino in cui i fatti si innescano in una successione ricca di significato e se penso a come noi due camminavamo insieme per la città buia maturati e inteneriti sul nostro passato e con la sensazione che avremmo avuto ancora molto da raccontarci lasciando però insieme nel vago quando ci saremmo rivisti forse ci vorrà ancora qualche anno allora mi sento seriamente profondamente grata che una cosa simile sia possibile in una vita ora è quasi mezzanotte e vado a dormire sì è stato molto bello e alla fine di ogni giornata sento il bisogno di dire la vita è davvero bella davvero mi sto facendo una mia opinione su questa vita un'opinione che so persino difendere davanti agli altri e questo dice non poco sulla ragazzina timida che sono sempre stata e ci sono dei discorsi come quello di ieri sera con Jean Polac in cui le parole diventano testimonianza martedì mattina le nove e mezzo ieri sera mentre andavo da lui in bicicletta avevo dentro un grande e dolce desiderio di primavera e mentre pedalavo sognando sull'asfalto della Larisse Strat tutta impaziente di vederlo da un tratto mi sono sentita accarezzare da una tiepida aria di primavera e ho pensato anche questo va bene perché non si potrebbe provare un grande e tenero trasporto amoroso per una primavera e per tutti gli uomini e si può anche fare amicizia con un inverno con una città o con una campagna mi ricordo il faggio rossovino della mia adolescenza avevo un rapporto speciale con quella pianta alla sera ero capace improvvisamente di provarne nostalgia e allora andavo a cercarla facevo mezz'ora di bicicletta e poi le giravo intorno presa e incantata dalla vista di quell'albero rosso sangue sì perché non si potrebbe avere un'esperienza amorosa con una primavera e la carezza di quell'aria era così tenere e universale che le mani di un uomo anche le sue mi sembrano ruvide al confronto sono così arrivata a casa la piccola camera da letto prendeva un po' di luce dallo studio la piccola camera da letto prendeva un po' di luce dallo studio entrandovi ho visto il suo letto pronto per la notte e sopra il letto si incurvava un ramo carico di orchidee profumate e sul tavolino vicino ai suoi guanciali c'erano dei narcisi così gialli così straordinariamente gialli e giovani quel letto pronto le orchidee e i narcisi non c'era neppure bisogno di colicarsi insieme in un letto così mentre sostavo un momento nella camera in penombra era proprio come se avessi trascorso un'intera notte d'amore lui era seduto al suo piccolo scrittoio e di nuovo notavo che la sua testa era come un paesaggio grigio corroso dal tempo antichissimo ecco una persona deve avere pazienza il tuo desiderio deve essere come una nave lenta e maestosa che navica per oceani infiniti e non cerca un luogo in cui gettar l'ancora ed un tratto inaspettatamente lo trova per un momento ieri sera ho trovato per un poco il suo porto eppure sono passati solo 14 giorni da quando ero stata così sorenata e l'avevo attirato a me facendo in modo che mi cadesse addosso e poi avevo pensato che sarai morta dall'infelicità e solo una settimana fa mi sono lasciata scivolare fra le sue braccia e in un modo o nell'altro ero poi infelice perché in quella situazione c'era un che disforzato ma quelle tappe devono pur essere state necessarie per arrivare a questo scivolare dolcemente l'uno verso l'altro a questa intimità a questo esserci reciprocamente cari e buoni una sera come questa conserva nel ricordo tutta la sua grandezza e forse non si ha neppur bisogno di tante sere così per avere ugualmente la sensazione di possedere una piena e ricca vita amorosa di sera le nove la mia marocchina dall'aria grave guarda di nuovo nel giardino di fiori o piuttosto come sempre ci passa sopra con lo sguardo dei suoi occhi scuri che sono limpidi e animaleschi al tempo stesso i piccoli crochi gialli e violetti e bianchi pensano spossati sull'orlo della scodellina del cioccolato in polvere rispetto a ieri sono quasi del tutto avizziti e quelle campanule gialle nel trasparente cristallo verde come vi chiamate voi ne ha comprata esse in uno slancio di primavera e ieri sera era già arrivato con quel mazzo di tulipani piccolo bocciolo rosso e ancora più piccolo bocciolo bianco così chiusi così inaccessibili e insieme così indicibilmente dolci ho dovuto guardarvi tutto il tempo oggi pomeriggio durante la musica di Hugo Wolf sarà anche il Rischik Museum dietro le finestre fresco e nuovo nei suoi contorni come una provocazione insieme così vecchio e familiare e c'è stato proibito di passeggiare sul Van del Weg ogni misero gruppetto di due o tre alberi è dichiarato bosco e allora sulle piante è inchiodato un cartello con la scritta vietato agli ebrei questi cartelli diventano sempre più numerosi dappertutto e ciò nonostante quanto spazio in cui si può ancora stare ed essere lieti e far musica e volersi bene Blastner aveva portato un sacchetto di carbone Tide e un po' di legna S. zucchero e biscottini e io avevo del tè e la nostra piccola artista vegetariana svizzera arriva qui con un grosso cake prima S. ci ha letto qualcosa su Hugo Wolf e mentre leggeva alcuni passaggi su quella vita tragica il suo viso gli tremava un poco intorno alla bocca anche per questo mi ha tanto caro è così vero e ogni parole che dice canta o legge la vive quindi se legge cose tristi diventa veramente triste anche lui trovo commovente quando è così emozionato che sembra stia quasi per piangere allora piangerai volentieri un pochino con lui quel Glastner che continua a far progressi al piano oggi pomeriggio gli ho detto di nascosto ti accompagniamo nella tua crescita silenzioso Glastner ci sono momenti in cui ad un tratto quasi fisicamente capisco come un artista creativo possa cadere nel bere abbandonarsi agli eccessi sbarrirsi completamente eccetera eccetera un artista ha veramente bisogno di un carattere molto forte per non sfasciarsi moralmente per non cadere in abissi senza limiti non saprei proprio descrivere questo fenomeno a volte mi capita con molta intensità tutta la mia tenerezza le mie forti emozioni quel mare dell'anima molto mosso lago dell'anima oceano dell'anima o come dir si voglia vorrei poterli riversare in un'unica piccola poesia ma sento pure che nel caso ci riuscissi vorrei immediatamente buttarmi a rompicollo in un abisso vorrei ubriacarmi dopo un'azione creativa uno dovrebbe essere trattenuto dalla propria forza di carattere da una morale che offra un appiglio da non so che cosa per non cadere dio sa in quali profondità e per quale oscuro impulso io lo sento in me nei momenti interiori più fecondi e creativi quando dentro di me si alzano dei demoni e forze distruttive e autodistruttive si mettono in agguato non è neppure il normale desiderio che si ha dell'altro dell'uomo è qualcosa di più cosmico universale inarrestabile sento però che anche in quei momenti io comincio a controllarmi allora provo di nuovo bisogno di ingilocchiarmi in un angolino tranquillo di tenermi a freno e ben raccolta in me stessa di vegliare a che le mie forze non si disperdano in una regione senza limiti alla fine di questo pomeriggio ho trovato per un momento una barriera che mi ha fermata e contenuta il limpido sguardo grigio chiaro di esse che mi ha completamente assorbita e la sua cara grossa bocca per un momento mi sono sentita al sicuro trattenuta da quello sguardo ma tutto il pomeriggio avevo errato per uno spazio illimitato e allora poi un limite lo si trova di colpo quello per cui non si sopporta più la sconfinatezza e dalla propria disperazione che si prova ci si può abbandonare gli eccessi quell'intreccio di rami scuri nella luce chiara e trasparente della primavera stamattina al mio risveglio trovavo le cime degli alberi dietro la mia finestra e oggi pomeriggio un piano più basso dietro le larghe finestre trovavo i tronchi il bocciolo rosso di turipano e quello bianco inclinati l'uno verso l'altro il nobile pianoforte a coda nero e misterioso e complicato un essere a sé e dietro le finestre i rami scuri contro il cielo chiaro e più in là ancora il Régix Museum e esse un momento estraneo eppure familiare molto lontano e insieme molto vicino d'un tratto un brutto antichissimo gnomo e poi di nuovo uno zio benevolo un po' appesantito e ghiotto di biscotti poi ancora lo charmeur dalla voce calda sempre diverso il mio amico ma insieme lontano 26 aprile 1942 ecco un piccolo anemone rosso un po' sbattuto per aver festeggiato troppo ma fra un po' di anni lo ritroverò tra queste pagine sarò diventata una matrona allora prenderò in mano questo fiore dissecato e dirò con nostalgia ecco questo anemone l'avevo tra i capelli per il cinquantesimo compleanno del grande indimenticabile amico della mia giovinezza era il terzo anno della seconda guerra mondiale mangiavamo clandestinamente maccheroni e bevevamo caffè vero con cui l'isla era diventata brilla eravamo tutti così allegri e ci chiedevamo a che punto sarebbe stata la guerra al prossimo compleanno io avevo fra i capelli questo anemone rosso e qualcuno diceva sei proprio un miscuglio di russo e spagnolo e un tale quello svizzero biondo dalle grossa sopraccidia diceva una carmen russa dopodiché gli ho chiesto di recitarsi una poesia su Guglielmo Tell con il suo buffo R svizzero poi siamo ritornati a piedi passando su quelle vie familiari di Amsterdam Sud e siamo prima saliti sul suo terrazzino fiorito intanto l'isla ci aveva preceduti a casa sua e si era infilata a un vestito di lucente seta nera ben stretto sul corpo magrolino e con larghe maniche trasparenti azzurra lo stesso azzurro sui suoi piccoli seni bianchi e pensare che è madre di due bambini così magra e fragile allo stesso tempo ha come una forza primordiale e Han aveva un'aria così disinvolta intraprendente e sul suo cartoncino a tavola c'era scritto amante eternamente giovane padre di eroine una definizione che lui accettava protestando più tardi l'isla mi ha detto potrei innamorarmi di quest'uomo ma ciò che ha dato spicco alla serata perlomeno per me è stato questo erano circa le undici e mezzo nell'altra stanza l'isla era seduta al pianoforte esse su una sedia davanti a lei io appoggiata a lui l'isla ha chiesto qualcosa di colpo ci siamo trovati immersi nella psicologia e esse con la sua faccia intensa ed espressiva ha cominciato a spiegarglielo chiaro vivace e disponibile come sempre e pensare che aveva dietro di sé una giornata di lettere e fiori e persone e traffico di organizzazione di un pranzo essere capotavola e più tardi vino e ancora vino cose che lui non sopporta tanto bene ed avessere stato ben stanco ma quando gli capita qualcuno con una qualunque domanda sui grossi problemi di questa vita subito si impegna c'è in quel momento esse avrebbe potuto parlare da una cattedra a un pubblico attento e all'isla è venuto di colpo un faccino commosso soprattutto quell'azzurro trasparente e guardandolo con occhi spalancati ha balbettato in quel suo modo commovente trovo toccante che lei sia così io mi sono appoggiata ancora di più a esse ho accarezzato la sua testa così buona ed espressiva e ho detto all'isla è vero ciò che più colpisce in esse è proprio la sua prontezza e disponibilità e su aver sempre una risposta per te e così le ore passate insieme acquistano un significato profondo non si perde mai tempo e esse ha fatto una faccia meravigliata quasi un po' infantile con un'espressione che non riesco ancora affatto a descrivere ed è un anno che cerco le parole e ha detto ma non è così con tutti ha baciato la piccola l'isla sulle guance e sulla fronte e mi ha attirata più vicino al suo ginocchio e io ho dovuto di colpo pensare all'isla un paio di settimane fa sul suo tetto al sole mi piacerebbe passare qualche giorno con esse e con te esse diceva non bisogna mai toccare i limiti bisogna che rimanga sempre qualcosa per la fantasia 18 maggio 1942 le minacce e il terrore crescono di giorno in giorno mi innalzo intorno alla preghiera come un muro oscuro che offre riparo mi ritiro nella preghiera come nella cella di un convento ne esco fuori più raccolta concentrata e forte questo ritirarmi nella chiusa cella della preghiera diventa per me una realtà sempre più grande e anche un fatto sempre più oggettivo la concentrazione interna costruisce altri muri fra cui ritrovo me stessa e la mia unità lontana da tutte le distrazioni e potrei immaginarmi un tempo in cui starò inginocchiata per giorni e giorni sin quando non sentirò di avere intorno questi muri che mi impediranno di sfasciarmi perdermi e rovinarmi 26 maggio martedì mattina le nove e mezzo ho camminato lungo la riva in un vento tiepido e rinfrescante al tempo stesso siamo passati davanti all'illà russellina e soldati tedeschi che montavano la guardia abbiamo parlato del nostro futuro e del fatto che preferiremmo rimanere insieme non posso assolutamente descrivere com'era ieri tornando a casa nella notte tiepida così pigra e leggera dopo il chianti bianco ho ritrovato improvvisamente quella certezza che ora con un portapenna in mano è di nuovo sparita un giorno scriverò le lunghe notti che passerò seduta a scrivere saranno le mie notti migliori e allora verrà fuori tutto quel che accumulo dentro scorrerà pian piano come una corrente senza fine di sera dopo cena oggi ancora Michelangelo e Leonardo anche loro sono nella mia vita e la riempiono Dostoevsky e Rilke e Sant'Agostino e gli evangelisti frequento un'ottima società e non c'entra più il bello spirito da letterato di un tempo ognuno di loro ha qualcosa di vero da raccontarmi e molto da vicino certe cose di Michelangelo mi hanno presa inaspettatamente alla gola è stato un incontro di grande immediatezza ci si abbandonava smodatamente alle proprie tristezze sino all'autodistruzione è diventata una frase leggendaria ora non succede più anche nei giorni di grande stanchezza e tristezza non mi lascio più cadere così in basso la vita rimane una corrente ininterrotta forse in questi giorni un po' più lenta e ostacolata ma continua tuttavia a scorrere non dico più sono così infelice non so più che fare questo non mi importa più niente una volta avevo ogni tanto la pretesa di essere la persona più infelice di questa terra Dio certe volte non si riesce a capire e ad accettare ciò che i tuoi simili su questa terra si fanno l'un l'altro in questi tempi scatenati ma non per questo io mi richiudo nella mia stanza Dio continuo a guardare le cose in faccia e non voglio sfuggire dinanzi a nulla cerco di comprendere i delitti più gravi cerco ogni volta di rintracciare il nudo piccolo essere umano che spesso è diventato irriconoscibile in mezzo alle rovine delle sue azioni insensate io non me ne sto qui in una stanza tranquilla ornata di fiori a godermi poeti e pensatori glorificando il Dio questo non sarebbe proprio tanto difficile né credo di poter essere così estranea al mondo come dicono inteneriti i miei buoni amici ogni persona ha la sua realtà lo so ma io non sono un sognatore visionario una bella anima ancora un po' adolescente Werner diceva del mio romanzo da una bella anima a una grande anima io guardo il tuo mondo in faccia Dio e non sfugo alla realtà per rifugiarmi nei sogni voglio dire che anche accanto alla realtà più atroce c'è posto per i bei sogni e continuo a lodare la tua creazione malgrado tutto tra poco quando lui mi telefonerà e mi chiederà col suo tono inquisitorio e allora come sta? potrò rispondere sinceramente sopra molto bene sotto molto male spesso nel momento in cui vengono toccati i problemi sono già quasi risolti per lo meno in psicologia è così nella vita forse è molto diverso un tratto mi sono resa conto che collego troppo le mie malattie con esse e l'ho notato in una goffa frasetta e così con una piccola improvvisa cesura mi sono staccata di un altro trattino da lui e tra poco lo incontrerò dopo essermi guadagnata un altro pezzetto di libertà il processo di reciproco avvicinamento è dunque parallelo a quello della reciproca liberazione in giorni di grande bolezza forse senza accorgermene io mi aggrappo alla sua forza come alla mia salvezza allo stesso tempo quella forza sovrabbondante mi scoraggia perché mi sento impari temo di non tenerle dietro e l'una nell'altra sono la reazione giusta la mia guarigione e rigenerazione devono venire dalle mie forze non dalle sue e in periodi come questo la sua dirompente forza vitale può anche irritarmi o spaventarmi ma forse questo capita spesso a una persona malata nei riguardi di una persona sanissima perché si sente come diseredata sabato mattina le sette e mezzo i rami nudi che si arrampicano lungo la mia finestra si sono coperti di giovani foglioline verdi un vello di riccioli sui loro nudi e duri corpi di asceti già com'era ieri nella mia cameretta ero andata a dormire presto dal mio letto guardavo fuori attraverso la grande finestra aperta ed era come se la vita con tutti i suoi segreti mi fosse nuovamente accanto come se la potessi toccare avevo la sensazione di riposare sul suo petto nudo di sentire il battito regolare leggero del suo cuore ero fra le nude braccia della vita e ci stavo così sicura e protetta pensavo com'è strano c'è la guerra ci sono campi di concentramento piccole barbarie si accumulano di giorno in giorno camminando per le strade io so che in quella casa c'è un figlio in prigione o in quell'altra un padre preso in ostaggio o un figlio diciottenne condannato a morte e questo capita a due passi da casa mia so quanto la gente è agitata conosco il grande dolore umano che si accumula e si accumula la persecuzione l'oppressione l'odio impotente il sadismo so che tutte queste cose esistono e continuo a guardar bene in faccia ogni pezzetto di realtà nemica eppure in un momento di abbandono io mi ritrovo sul petto nudo della vita e le sue braccia mi circondano così dolci e protettive e il battito del suo cuore non so ancora descriverlo così lento e regolare e così dolce quasi smorzato ma così fedele come se non dovesse arrestarsi mai e anche così buono e misericordioso io sento la vita in questo modo ne credo che una guerra o altre insensate barbarie umane potranno cambiarvi qualcosa giovedì mattina le nove e mezzo in un giorno d'estate come oggi ti senti cullata da mille dolci brazza diventi pigra e indolente ma dentro di te c'è un mondo che lievita verso un destino sconosciuto e volevo ancora dire questo quando tempo fa lui ha cantato il Lindenbaum mi era piaciuto così tanto che gli avevo chiesto di cantare un intero bosco di tigli le pieghe e i lineamenti del suo viso sembravano vecchi vecchissimi sentieri attraverso un paesaggio antico quanto la creazione stessa tempo fa al tavolino d'angolo da Geiger il viso giovane e fine di Münsterbergen ha fatto capolino tra quello di esse e il mio un tratto mi sono resa conto quasi con sconcerto di quanto sia vecchio la sua faccia proprio come se le siano passate sopra molte vite invece che una sola ho avuto un piccolo contraccolpo e come in una fotografia istantanea ho sentito che non avrei voluto legare per sempre la mia vita alla sua e sarebbe stata una cosa impossibile ma in fondo era una reazione meschina basata come era sull'idea convenzionale del matrimonio la mia vita è comunque legata alla sua o piuttosto è collegata alla sua e non tanto le nostre vite quanto le nostre anime mi rendo conto che questo possa suonare piuttosto enfatico la mattina presto ma dipende probabilmente dal fatto che non posseguo ancora del tutto la parola anima che non è ancora di mia competenza è straordinariamente banale e meschino che nei momenti in cui il suo viso mi piace io desideri sposarlo mentre quando mi appare così vecchio e soprattutto se accanto un viso giovane e fresco io pensi allora no meglio di no sono criteri e reazioni che dovrei cancellare dalla mia vita che ostacolano un sentimento d'unione veramente grande oltre i confini di convenzione e matrimonio o meglio dell'idea che ce ne facciamo venerdì sera le sette e mezzo oggi pomeriggio ho guardato alcune stampe giapponesi con glasner mi sono resa conto che è così che voglio scrivere con altrettanto spazio intorno a poche parole troppe parole mi danno fastidio vorrei scrivere parole che siano organicamente inserite in un gran silenzio e non parole che esistono solo per coprirlo e disperderlo dovrebbero accentuarlo piuttosto come in quell'illustrazione con un ramo fiorito nell'angolo in basso poche tenere pennellate ma che resa dei minimi dettagli e il grande spazio tutto intorno non un vuoto ma uno spazio che si potrebbe piuttosto definire ricco d'anima io detesto gli accumuli di parole in fondo ce ne vogliono così poche per dire quelle quattro cose che veramente contano nella vita se mai scriverò e chissà poi che cosa mi piacerebbe dipingere poche parole su uno sfondo muto e sarà più difficile rappresentare e dare un'anima a quella quiete e a quel silenzio che trovare le parole stesse e la cosa più importante sarà stabilire il giusto rapporto tra le parole e il silenzio il silenzio in cui succedono più cose che in tutte le parole affastellate insieme e in ogni novella o in altro che sia lo sfondo muto dovrà avere il suo colore e il suo contenuto come capita appunto in quelle stampe giapponesi non sarà un silenzio vago e inafferrabile ma avrà i suoi contorni i suoi angoli la sua forma che dunque le parole dovranno servire soltanto a dare al silenzio la sua forma e i suoi contorni e ciascuna di loro sarà come una piccola pietra miliare o come un piccolo rilievo lungo strade piane senza fine o ai margini di vaste pianure è buffo potrei riempire dei volumi su come vorrei scrivere ma può darsi benissimo che a parte le ricette io non scriverò mai nulla però le stampe giapponesi mi hanno fatto capire a che cosa io aspiri e mi piacerebbe camminare una volta attraverso paesaggi giapponesi per capirlo ancor meglio del resto credo che un viaggio in oriente lo farò in futuro per trovare in quei luoghi vissute ogni giorno quelle cose in cui qui ci si sente soli in dissonanza 9 giugno martedì sera le 10 e mezzo stamattina alla prima colazione notizie più o meno circostanziate dal ghetto 8 persone in una cameretta con la comodità che si può immaginare non si capisce e non si riesce a concepire che tutto questo succeda a poche strade da qui e possa diventare il tuo proprio destino stasera tornando dall'amico vegetariano svizzero verso casa sua dove il geranio continua a proliferare gli ho chiesto ad un tratto dimmi una buona volta che debbo fare dei miei sensi di colpa quando vengo a sapere che 8 persone sono costrette a vivere in una cameretta mentre io ho quella grande stanza piena di sole tutta per me lui mi ha guardata di traverso con un'espressione piuttosto diabolica e ha risposto o tu lasci quella stanza e ha fatto una faccia ironico interrogativa come se dicesse ti ci vedo proprio o tu cerchi di capire cosa c'è dietro quei sensi di colpa forse pensi di non lavorare abbastanza a quel punto ci ho visto chiaro è vero ho detto il mio lavoro mi permette di rimanere sempre nei mondi elevati dello spirito e quando vengo a sapere di situazioni come questa mi domando inconsciamente o come ora inconsciamente riuscirei a mandare avanti il mio lavoro con la stessa convinzione e dedizione se abitassi insieme ad altre 7 persone affamate in una camera sudicia per me questo lavoro spirituale questa intensa vita interiore hanno valore soltanto a condizioni che possano essere proseguiti in qualsiasi circostanza e se non è possibile nella pratica almeno nel pensiero altrimenti tutte le cose che faccio ora sono solo belle lettere forse quel che mi paralizza un po' è proprio il timore di non poter rimanere me stessa in quelle condizioni è l'insicurezza di non poter superare quella prova una volta sarei potuta restare bloccata per settimane ma probabilmente non credevo ancora nella necessità del mio lavoro dovrò ancora dimostrare la validità di quel modo di essere se continuerò a vivere come faccio ora io non so fare l'operaia socialista o la rivoluzionaria politica questo posso togliermelo dalla testa anche se i miei sensi di colpa potrebbero ugualmente spingermi in quella direzione chiaro che non gli ho detto tutte queste cose durante la nostra breve passeggiata gli ho detto solo forse è la mia paura di non superare la prova e lui molto serio e calmo insieme quella prova verrà per tutti noi dopodiché ha comprato cinque piccoli boccioli di rosa e me li ha messi in mano dicendo lei non si aspetta mai nulla dal mondo esterno e così finisce sempre per ricevere qualcosa mercoledì mattina le sette e mezzo è così trascinante e ardente il mio agostino al stomaco vuoto un raffreddore di testa ora non mi fa più perdere completamente l'equilibrio però non è un piacere buongiorno scrivania disortinata lo straccio da spolverare è buttato con negligenza intorno ai miei cinque giovanissimi boccioli di rosa e i bergot di rilche è mezzo schiacciato sotto il russo per commercianti l'anarchico Copotkin se ne sta spiegazzato in un angolo non è più del tutto di casa qui ho tirato giù dallo scaffale polveroso di camera mia volevo rileggere la descrizione di come aveva reagito alla cella del carcere in cui doveva trascorrere qualche anno di prigionia e se si traspone quella descrizione su un piano interiore ma si può usare come immagine di come dobbiamo reagire di fronte alle norme che sempre più restringono lo spazio in cui possiamo muoverci si deve valutare subito la possibilità di quello spazio per angusto che sia e tradurla in piccole realtà io mi sono detta prima di tutto devo badare a rimanere forte non voglio ammalarmi supponiamo che durante una spedizione al polo nord io sia costretta a trascorrere alcuni anni in quelle regioni mi terrò in movimento il più possibile farò esercizi di ginnastica e non mi lascerò logorare dall'ambiente che mi circonda dieci passi da un capo all'altro della mia cella sono già qualcosa moltiplicati per centocinquanta sono una versta mi sono proposta di camminare ogni giorno sette verste circa cinque miglia due verste al mattino due prima di pranzo due dopo pranzo e una prima di andare a dormire quest'ora prima della colazione è per me come una piattaforma per salire sulla mia giornata c'è una gran tranquillità anche se i vicini hanno la radio accesa e anche se Han seppure pianissimo sta russando dietro di me non c'è proprio nessuna pressione intorno a volte quando pedalo per le strade molto lentamente tutta assorta in quel che avviene dentro di me mi sembra di potermi esprimere con tale forza e sicurezza che poi mi stupisco quando ogni frase che scrivo si regge così male e appare così sgraziata certe volte parole e frasi corrono dentro di me così sicure e persuasive che dovrebbero uscirmi fuori quasi da sole e proseguire naturalmente il loro corso su un qualsiasi pezzo di carta ma non siamo ancora affatto a questo punto mi domando solo se non lascio troppo gioco alla mia fantasia se non le vengo troppo poco incontro dall'esterno se non la sforzo abbastanza ad assumere delle forme ma non c'è soltanto una fantasia indisciplinata e vagabonda ci sono effettivamente delle cose che stanno prendendo una forma sempre più circoscritta concentrata e tangibile e tuttavia non c'è ancora nulla di concreto com'è possibile a volte mi sento proprio come una grande officina in cui si lavora duramente si picchia col martello e Dio sa cosa e sa Dio che cosa e altre volte mi sento come se dentro fossi di granito un pezzo di roccia battuta senza posa da forti correnti una roccia di granito che diventa sempre più scavata e i cui contorni e forme si intagliano col passare del tempo forse verrà un giorno in cui quelle forme saranno belle e pronte ben nette nei loro contorni e allora mi toccherà semplicemente registrarle così come le ho trovate in me stessa sto semplificando troppo ho troppa fiducia in un lavoro che in questo momento viene fatto per me voglio metterci tutto il mio impegno e la mia attenzione e questi a loro volta assisteranno al lavoro a nome mio saranno i miei delegati in quell'officina mi assisteranno semplicemente senza fornire alcun aiuto effettivo venerdì e ora sembra che gli ebrei non potranno più entrare nei negozi di frutta e verdura che dovranno consegnare le loro biciclette che non potranno più salire sui tram né uscire di casa dopo le 8 di sera se mi sento depressa per queste disposizioni come stamattina quando per un momento le ho avvertite come una minaccia plumbea che cercava di soffocarmi non è però per le disposizioni in sé mi sento semplicemente molto triste e allora questa tristezza cerca conferme così una lezione poco piacevole che devo dare mi ispira altrettanta paura e anguscia che le più pesanti misure adottate dalle forze di occupazione non sono mai le circostanze esteriori è sempre il sentimento interiore depressione insicurezza o altro che dà a queste circostanze un'apparenza triste e minacciosa nel mio caso funziona sempre dall'interno verso l'esterno ma è viceversa di solito le disposizioni più minacciose e ce ne sono parecchie attualmente vanno a schiantarsi contro la mia sicurezza e fiducia interiori e una volta risolte dentro di me perdono molto della loro carica paurosa bisogna pure che sistemi questo raffreddore e questo malessere consumano la mia energia e la mia voglia di lavorare devo togliermi quest'idea che solo perché patisco tanto il freddo e il raffreddore e mi sento le testa chiuse io abbia il diritto di lasciarmi un po' andare di lavorare meno bene dovrebbe quasi essere il contrario oserei dire anche se gli atteggiamenti forzati non vanno mai bene neppure in questo caso il continuo aggravarsi della situazione alimentare abbasserà la nostra resistenza al freddo e ai raffreddori per lo meno così sta già succedendo a me e l'inverno deve ancora venire e si deve pur continuare ad andare avanti a essere produttivi devo prepararmi a un futuro in cui gli impedimenti fisici faranno parte della mia vita se voglio evitare che essi si presentino ogni volta come ostacoli inaspettati e paralizzanti devo per così dire acclimatarli alla mia condizione quotidiana a tutta la mia piccola persona allora essi non saranno più un elemento frenante che dovrò affrontare ripetutamente con gran dispendio di tempo e di energia saranno invece un elemento che avrò risolto in me stessa una volta per tutte magari mi sono espressa malissimo ma so perfettamente che cosa voglio dire sabato mattina stanca scoraggiata e frusta come una zitella assonnata come la pioggerella fredda che cade fuori così senza forze ma allora non devi startene a leggere in bagno fino a luna di notte con gli occhi che ti si chiudono per il sonno chiaro che la ragione è un'altra una crescente svogliatezza e stanchezza forse un fatto puramente fisico dopo tutto tante piccole schegge del proprio io che tagliano la strada a spazi più ampi questo io tanto ristretto coi suoi desideri che cercano solo la loro limitata soddisfazione va strappato via va spento più mi sento stanca e debole più mi sconcertano la sua forza e il suo amore che rimangono sempre a disposizione di tutti sono semplicemente sbalordita che gli avanzino tante energie in giorni simili in ogni momento possiamo essere spediti in una baracca nel drente e nei negozi di frutta e verdura sono appesi cartelli che vietano l'ingresso agli ebrei una persona normale ne ha abbastanza oggi lui invece riceve sei pazienti e passa ore intense con ciascuno di loro li apre e ne tira via il plus apre le sorgenti in cui dio si nasconde a molti uomini continua a lavorare con loro finché le acque scorrono nelle loro anime prosciugate le confessioni si ammucchiano sui suoi tavolini quasi tutte finiscono con aiutami ti prego e lui c'è per ognuno e aiuta ieri sera in bagno ho letto di un prete era un intermediario tra dio e gli uomini le cose ordinarie non l'avevano potuto toccare e proprio per questo capiva così bene la pena di tutti gli esseri in divenire ci sono dei giorni in cui non riesco a tenerli dietro per stanchezza o per altro allora vorrei che la sua attenzione e il suo amore fossero soltanto miei e di me non resta che quell'io limitato e gli spazi cosmici che ho dentro si chiudono naturalmente allora perdo il contatto con lui e vorrei che anche lui fosse soltanto un io limitato e tutto per me un desiderio femminile molto comprensibile ma mi sono già allontanata parecchio da questo mio io e continuerò per questa strada i cedimenti fanno parte di questo percorso in passato mi capitava di scrivere mi voglio così bene così infinitamente bene ora quel sentimento è scomparso forse è per questo che mi sento così oppressa triste e logora e in questi ultimi giorni non riesco neanche a pregare non voglio neppure bene a me stessa tra cose che sono probabilmente connesse tra loro divento di colpo ombrosa come un mulo che trovandosi su un sentiero roccioso non vuol più fare un passo avanti e quando mi sento spenta nei suoi confronti e non ho più spazio e forza per viverlo interiormente mi domando di punto in bianco forse mi ha lasciata un po' andare anche lui forse le sue energie sono così consumate dalle tante persone che quotidianamente ne hanno bisogno che per un po' deve prendere le distanze da me e ti mi disgusti così egocentrica e così meschina invece di stargli accanto col tuo amore con la tua partecipazione ti domandi come una bambina piagnucolosa se lui ti dedichi per carità abbastanza attenzione sei la classica donna piccina che pretende tutto l'interessamento tutto l'amore per sé or ora una breve conversazione telefonica con lui oggettiva e scolorita credo che ci sia anche questo un volermi gonfiare in una specie di sentimento tragico e non solo un sentirmi sempre triste ma un volermi sentire sempre più triste un portare agli estremi le situazioni drammatiche per poi soffrirne di gusto è un resto del mio masochismo serve poco fare dei saggi ragionamenti da adulti nel nostro strato superiore quando in quello inferiore pullunano piante velenose che devono essere sradicate probabilmente lui riderebbe un poco se conoscesse tutte le mie fantasie sui sentimenti morti nei suoi confronti e direbbe con tono molto obiettivo tranquillizzante e serio in ogni relazione capitano dei momenti bassi bisogna lasciare che passino poi tutto va a posto di nuovo ecco che io assolutizzo un'altra volta questi momenti è anche così stupido in tempi che consumano ogni energia sentirti infelice perché la tensione fra te e un uomo si è allentata un pochino tu che non hai da fare la coda per ore ogni giorno trovi il cibo in tavola e Kate ad occuparsene e la scrivania coi libri ti offre ospitalità ogni mattina e l'uomo più importante della tua vita abita a poche strade da qui e non è stato ancora portato via dormi invece abbastanza finalmente e vergognati ben bene e veditela con te stessa non trattare un altro mettendo tutto sul piano della suscettibilità non farti prendere da un'atmosfera da un momento per di più di indolenza ma tieni presente le grandi linee e le grandi direzioni e sii pure triste semplicemente e sinceramente triste ma non costruirci sopra dei drammi una persona deve essere semplice anche nella sua tristezza altrimenti la sua è soltanto isteria dovresti rinchiuderti in una cella spoglia e startene sola con te stessa finché tu non sia nuovamente in chiaro e tutte le isterie non ti siano passate 19 giugno venerdì mattina e nove e mezzo sai cosa mi dà la nausea cara la tua mezza franchezza e la tua mezza enfasi ieri sera volevo ancora scrivere qualcosa ma in fondo erano sciocchezze senza capo né coda certe volte ho paura di chiamare le cose per nome forse perché non rimarrebbe più niente allora le cose devono poter essere chiamate per nome e se non reggono a questa prova non hanno il diritto di esistere spesso si cerca di salvarle con una sorta di vago misticismo il misticismo deve fondarsi su un'onestà cristallina quindi prima bisogna aver ridotto le cose alla loro nuda realtà spesso quando torno a casa alla sera trovo che ho vissuto delle esperienze straordinarie durante il giorno e allora vorrei subito scriverci su qualcosa di immortale addirittura non penso a registrare le mie esperienze con parole semplici magari sgraziate dopo tutto scrivo solo un diario ma pretendo subito di estrarre aforismi e verità eterne dalle esperienze più banali immagino che meno di così io non possa fare e lì cominciano già le incertezze e le generalizzazioni trovo certo che parlare della mia pancia è ben al di sotto della mia dignità spirituale strano che questa importantissima parte del corpo abbia un nome così goffo se io volesse scrivere qualcosa sui miei umori di ieri sera dovrei innanzitutto notare con molta schiettezza e obiettività era un giorno prima delle mestruazioni e allora sono responsabile a metà e se Hunt non mi avesse spedita a letto a mezzanotte e mezzo sarei ancora seduta alla mia scrivania non credo che si tratti di momenti veramente creativi e così solo in apparenza tutto è allora in disordine nessun movimento dentro di me io divento agitata e con me sconnessa qualche volta anche sconsiderata ed è tutto dovuto a quel fenomeno femminile che si verifica per me purtroppo ogni tre settimane a sud del mio diaframma e così si spiegano anche diverse mie reazioni di ieri sera tra poco avremo macchie d'unto sui libri e macchie d'inchiostro sul pane imburrato dice Pa Han la famiglia pranza ancora io ho messo da parte il mio piatto e sono lì che copio Rilke tra le fragole eccezionali e quello strano coniglio ora la stanza si è vuotata e sono seduta con le briciole sulla tovaglia un ravanello solitario e i tovaglioli sporchi Kat sta già lavando i piatti in cucina è l'una e mezzo vado a dormire per un'ora fin quando il peggio del mio mal di pancia è passato alle cinque viene un tale mandato da Becker e suppongo voglio apprendere lezione di russo stasera devo leggere ancora Pushkin per un'oretta non ho da fare le code e non ho quasi da preoccuparmi per l'andamento della casa non credo che in Olanda ci sia un'altra persona che viva in condizioni altrettanto buone o così mi sembra perlomeno devo far buon uso di tutto il tempo che ho a disposizione e che non è consumato delle preoccupazioni quotidiane devo sfruttarlo minuto per minuto ed è una responsabilità pesante ogni giorno trovo che non lavoro con abbastanza concentrazione e intensità ho davvero degli obblighi degli obblighi morali sabato sera mezzanotte e mezzo per umiliare qualcuno si deve essere in due colui che umilia e colui che è umiliato e soprattutto che si lascia umiliare se manca il secondo e cioè se la parte passiva è immune ad ogni umiliazione questa evapora nell'aria restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni ma nessuna umiliazione e oppressione angosciose si deve insegnarlo agli ebrei stamattina pedalavo lungo la stadion Kade e mi godevo l'ampio cielo ai margini della città respiravo la fresca aria non razionata dappertutto c'erano cartelli che ci vietavano le strade per la campagna ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo tutto quanto non possono farci niente non possono veramente farci niente possono renderci la vita un po' spiacevole possono privarci di qualche bene materiale o di un po' di libertà di movimento ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento sbagliato col nostro sentirci perseguitati umiliati oppressi col nostro odio e con la nostra millanteria che maschera la paura certo che ogni tanto si può essere tristi e abbattuti per quel che ci fanno è umano e comprensibile che sia così e tuttavia siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli trovo bella la vita e mi sento libera i cieli si stendono dentro di me come sopra di me credo in Dio negli uomini e oso dirlo senza falso pudore la vita è difficile ma non è grave dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio il resto verrà allora da sé e lavorare a se stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo di qualunque razza o popolo si avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso forse alla lunga in amore se non a chiedere troppo è l'unica soluzione possibile e così potrai continuare per pagine e pagine quel pezzetto di eternità che ci portiamo dentro può essere espresso in una sola parola come in dieci volumoni sono una persona felice e lodo questa vita la lodo proprio nell'anno del signore 1942 l'ennesimo anno di guerra domenica mattina le 8 ho accanto la mia colazione un bicchiere di latticello due fette imburrate di pane e bigio con cocomero e pomodoro ho rinunciato al bicchiere di cioccolata che mi concedevo sempre un po' di soppiatto alla domenica mattina voglio abituarmi a questa colazione più monacale che mi aiuta a raggiungere i miei appetiti nei luoghi più nascosti e a sradicarli via è meglio così dobbiamo imparare ad affrancarci sempre più dalle necessità fisiche dobbiamo abituare il nostro corpo a chiederci solo l'indispensabile soprattutto nel campo del cibo perché stiamo andando verso tempi difficili anzi ci siamo già eppure trovo che stiamo ancora magnificamente bene ma è meglio abituarci a una certa astinenza in periodi di relativa ricchezza che esserci poi costretti in momenti di reale bisogno quello che otteniamo spontaneamente da noi stessi a basi più solide e durature di quello che realizziamo per forza ricordo il professor Becker col suo pacchetto di mozzichini di sigarette dobbiamo affrancarci dalle cose materiali ed esteriori a un punto tale che lo spirito possa continuare comunque il suo cammino e il suo lavoro e dunque niente cioccolata ma latticello quanto c'è da fare sulla mia scrivania un geranio che Tide mi aveva dato solo una settimana fa dopo quell'improvviso torrente di lacrime è sempre lì e poi ci sono quelle pagine mi ricordo bene di quando le avevo raccolte era nella brughiera dietro la casa di campagna della signora Rünke deve essere stata la prima volta che passavamo insieme una giornata in aperta campagna avevamo parlato di demoniaco e non demoniaco e così non rivedremo più una brughiera per molto tempo qualche rara volta sento questi divieti come una privazione opprimente ma in genere so che il cielo tutto intero si stende sopra di noi sopra l'unica stretta strada che ci è ancora consentito di percorrere e le tre pigne mi accompagneranno se necessario fino in Polonia tanto cielo questa scrivania assomiglia proprio al mondo nel primo giorno della creazione a parte gli esotici gigli giapponesi il geranio le rose tè appassite le pigne che sono diventate reliquie e una ragazza marocchina dallo sguardo animalesco e limpido ci sono in giro Sant'Agostino e la Bibbia e le grammatiche russe e i dizionari e rilke e il numerevo di piccoli tacuini una bottiglia di surrogato di limone carta per scrivere a macchina carta copiativa rilke cioè ancora una raccolta e jung e tutto questo è solo ciò che si trova in giro al momento martedì mattina le otto e mezzo solo pochi giorni fa avevo avuto dei pensieri quasi vendicativi e ingiusti stamattina ero lì nel mio letto che ridevo di colpo a più non posso per la mia follia infantile mi ero trovata di fronte al viso di Hertha che continua sempre a sorridere da sopra il cassettone il letto di esse era già preparato per la notte ero alla porta e volevo salutare e intanto con un occhio guardavo quel sorriso che per me dura già da sedici mesi con l'altro il letto che pensavo con rabbia e tristezza e con un senso di solitudine già il letto colorato è per quella noiosissima signorina dal sorriso senza vita se lui potesse leggere questi sfoghi da donna offesa probabilmente farebbe tremare le pareti da ridere povera Hertha come sono ingiusta nei tuoi confronti di colpo mi domando com'è la tua vita lì a Londra una volta me lo chiedo quando arrivo in bicicletta nella sua strada silenziosa e vedo da lontano la sua figura che facendo con impazienza e intanto si sporge sopra il geranio che coi suoi lunghi gambi si dissangua sul davanzale allora salgo di corsa ai gradini di pietra fino alla porta di casa che in genere lui ha aperto nel frattempo ed entro senza fiato nelle sue due camerette certe volte è ritto in mezzo alla stanza e ha un'aria così possente impressionante come se fosse stato scolpito nella pietra grigia di una roccia che esisteva già il terzo giorno della creazione e altre volte non è affatto impressionante ma Bonario è goffo come un urso impacciato e caro così caro come non avrei mai pensato fosse possibile a un uomo senza essere noioso o effeminato qualche volta un pensiero improvviso modella i suoi tratti che si tendono come vele al vento e lui dice stia un po' a sentire e poi segue per lo più qualcosa distruttivo e sempre ci sono le sue grandi mani a trasmettere un calore e una tenerezza che non nascono dal corpo ma dall'anima povera Herta via Londra sono io a prendermi la maggior parte di ciò che le nostre vite hanno in comune in futuro potrei spiegarti tante cose di lui cose imparate attraverso il dolore che mi hanno anche insegnato che si deve poter condividere il proprio amore con tutta la creazione con il cosmo intero ma in quel modo si ha anche accesso al cosmo però il prezzo di quel biglietto d'ingresso è alto e pesante che lo si guadagna risparmiando a lungo con sangue e lacrime ma nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo e tu dovrai passare attraverso le stesse cose cominciando dal principio a quell'epoca io viaggerò freneticamente per il mondo perché non sarò ancora integrata nel cosmo e per certi versi rimango pur sempre una donnetta limitata e probabilmente tu dovrai percorrere una strada simile alla mia perché quest'uomo è così impregnato d'eternità che non potrà più cambiare molto penso che tu ed io abbiamo molto in comune altrimenti come avrebbe potuto nascere questa amicizia fra lui e me tu sarai un po' più timida e solitaria di quanto non lo sia io ora è più pesante mentre io sono più fantasiosa e le mie privazioni cominceranno quando tu entrerai fisicamente nella nostra vita lui troverà sciocche queste parole perché può dare in sovrabbondanza più di una persona e con lui nessuno ha mai da rinunciare a niente ma noi donne siamo fabbricate in modo così singolare la mia vita si incrocia spesso con la tua come sarà più tardi nella realtà se ci dovessimo incontrare per davvero dobbiamo stabilire fin d'ora di essere comunque ben disposte l'una verso l'altra perché significherebbe che la storia ci permette di nuovo di respirare e di vivere liberamente e nell'esperienza comune di quel gran bene non dovrebbero più sussistere contrasti tra le singole persone non sei disperata qualche volta lì dove sei dall'altra parte della manica ma certo non conosco bene tutte le tue lettere e come fai a sopportare tutto questo da sola una ragazzina così giovane in quella grande città bombardata in fondo ti ammiro e se cominciassi a provare compassione per te non finirai più di compatirti c'è una donna ad Amsterdam che prega tutte le sere per te e questo è veramente grande da parte sua perché subito dopo Dio vuol bene a lui con un amore che è il primo e l'ultimo della sua vita sono contenta che ci sia qualcuno che preghi per te in questo modo la tua vita è più protetta né io sarai in grado di farlo per ora io non sono veramente grande tranne che forse in qualche raro momento illuminato ma per il resto sono carica di tutti i vizi che appesantiscono il cammino dell'uomo nel suo viaggio verso il cielo te lo sia e risultanza meschina e così via per fortuna conosco le poche cose grandi che contano nella vita e forse arriverà una certa sera in cui pregherò per te libera da qualsiasi pensiero recondito e meschino e dalla gelosia e quella sera ti sentirai di colpo così bene riconciliata con la vita come non lo eri mai stata da molto tempo e tu stessa non capirai da dove ti venga quel sentimento ma io non sono ancora arrivata a quel punto e ora al lavoro chissà cosa fai tu in questo momento la tua lotta quotidiana per la sopravvivenza è tanto più difficile della mia che potrai sentirmi in colpa nei tuoi confronti come già mi sento in colpa di fronte a coloro che debbono arrancare per procurarsi cibo quotidiano far lunghe code eccetera tutto questo mi crea grandi doveri morali e responsabilità tra le mie occupazioni principali c'è lo studio della lingua russa e del grande e amato paese in cui si parla quella lingua il giorno in cui tu approderai qui andrò ad occhi chiusi alla stazione e comprerò un biglietto che mi porti dritto nel cuore di quel paese che ne dici di tanto romanticismo infantile alla mattina presto e in tempi come questi certo che mi vergogno ma la verità è che talvolta vedo le cose così nella mia fantasia Herta se tu sapessi quanto è minacciata la nostra esistenza in questa mattina di sole scrivo ingenuamente di approdare e di incontrarci ma forse prima di allora ci troveremo miseri estenti in un campo in ospitale qui la nostra vita è di giorno in giorno più minacciata come andrà a finire non lo sappiamo da una lettera da una lettera di mio padre nel suo umorismo inimitabile oggi è cominciata l'era delle non biciclette ho consegnato personalmente quella di Misha leggo sul giornale che ad Amsterdam gli ebrei hanno ancora il permesso di usarle che privilegio non dobbiamo più temere che le nostre biciclette vengano rubate per i nostri nervi è sicuramente un vantaggio anche nel deserto abbiamo dovuto farne a meno per ben 40 anni 27 giugno sabato mattina le 8 e mezzo con parecchie persone in una cella stretta il nostro compito non è forse allora di mantenere ben odorosa la nostra anima in mezzo a quelle esalazioni viziose durante il nostro pomeriggio musicale di ieri S ha detto dopo uno Schubert a quattro mani e poi Mozart in Schubert ho dovuto pensare ai limiti del pianoforte in Mozart ai pregi e Mischa esitante nella ricerca delle parole ma preciso nell'effetto è vero in questo pezzo Schubert abusa del pianoforte per produrre della musica più tardi ho camminato un pochino con lui lungo il canale di colpo sono stata sopraffatta dal presentimento di una separazione sempre più prossima e ho detto forse non abbiamo più nessun avvenire e la sua risposta è stata sì intendi l'avvenire in senso materialistico sì senza caffè senza sigarette si può vivere protestava Lisle ma senza la natura no la natura non la si deve poter togliere a nessuno io ho detto fa conto che siamo condannati al carcere magari per qualche anno e vivi con quei due alberi di rimpetto a casa tua come se fossero un bosco e per essere in carcere abbiamo ancora una relativa libertà di movimento l'isle talvolta un piccolo elfo una specie di bagnante al chiaro di luna di calde notti estive è anche capace di pulire gli spinaci per tre ore al giorno e di fare la coda per comprare le patate fin quasi al punto di perdere i sensi e qualche volta manda fuori dei piccoli sospiri che vengono proprio dal profondo e tremolano dai piedi alla testa per quel corpo magrolino è come rivestita di timidezza e di castità anche se i fatti della sua vita potrebbero non sembrare così casti e ha insieme un chiedi robusto una specie di forza primordiale nella natura quel momento basso nei suoi confronti era stato proprio di breve durata e sarebbe ben stupita se sapesse quel che scrivo ora effettivamente è l'unica amica che ho lunedì mattina le 10 Dio non è responsabile verso di noi siamo noi a esserlo verso di Lui so quel che ci può ancora succedere adesso io sono separata dai miei genitori e non li posso raggiungere anche se si trovano a due ore di viaggio da qui ma so esattamente in che casa abitano so che non patiscono la fame e che sono circondati da molte persone ben disposte verso di loro e anche loro sanno dove sto io ma potrà venire un tempo in cui non saprò più niente e i miei genitori saranno deportati e moriranno miseramente chissà dove so che può succedere le ultime notizie dicono che tutti gli ebrei saranno deportati dall'Olanda in Polonia passando per Drente e secondo la radio inglese nell'aprile scorso sono morti 700.000 ebrei in Germania e nei territori occupati se rimarremo vivi queste saranno altrettante ferite che dovremmo portarci dentro per sempre eppure non riesco a trovare assurda la vita e Dio non è nemmeno responsabile verso di noi per le assurdità che noi stessi commettiamo i responsabili siamo noi sono già morta mille volte in mille campi di concentramento so tutto quanto e non mi preoccupo più per le notizie future in un modo o nell'altro so già tutto eppure trovo questa vita bella e ricca di significato ogni minuto primo luglio di mattina il mio spirito è riuscito ad accettare tutti gli avvenimenti di questi ultimi giorni le voci che corrono sono più distruttive dei fatti perlomeno qui in Polonia sembra che la strage sia al colmo ma il mio corpo si è sfasciato in mille pezzi ognuno dei quali ha un dolore diverso è curioso come il mio corpo debba digerire le cose in un secondo tempo quante volte ho pregato neppure un anno fa signore ti prego rendimi un po' più semplice e se quest'anno mi ha portato qualcosa è stata proprio questa maggiore semplicità interiore e credo che in futuro riuscirò anche ad esprimere le cose difficili di questa vita con parole molto semplici in futuro e ora non posso più muovere né le membra del mio corpo né i pensieri del mio cervello tanto sono a pezzi fisicamente è quasi l'una dopo il caffè cercherò di dormire un po' e alle 5 meno un quarto da esse terza volta la mia giornata è fatta di 100 giornate diverse ora sono a pezzi stamattina alle 7 ho passato un momento di un'irrequietezza e di un nervosismo infernale per tutte queste nuove ordinanze è un bene però così posso rendermi un po' conto della paura degli altri visto che quella paura mi è diventata sempre più estranea alle 8 ero di nuovo la tranquillità in persona ed ero quasi fiera che sentendomi fisicamente a pezzi potessi ancora dare lezione di conversazione russa per un'ora e mezza una volta l'avrei distetta con la scusa della mia salute e stasera sarà ancora un altro giorno verrà un'altra persona con problemi una ragazza cattolica il fatto di poter oggi come ebrea aiutare una persona non ebrea dà una singolare sensazione di forza di pomeriggio le 4 e un quarto sole in questa veranda e un vento lieve che fa fremere il gelsomino vedi dunque un altro giorno è appena cominciato quanti ne sono trascorsi da stamattina alle 7 ora rimango ancora 10 minuti presso il gelsomino e poi sulla bicicletta permessaci vado dal mio amico che è nella mia vita da 16 mesi e che mi sembra di conoscere da mille anni anche se a volte mi appare in una luce così nuova da farmi restare senza fiato come esotico il gelsomino in mezzo a quel grigio e a quello scuro color di melma è così radioso e così tenero non capisco niente del gelsomino del resto non c'è bisogno si può benissimo credere nei miracoli in questo ventesimo secolo e io credo in Dio anche se tra breve i pidocchi mi avranno divorata in Polonia la sofferenza non è al di sotto della dignità umana cioè si può soffrire in modo degno o indegno dell'uomo voglio dire la maggior parte degli occidentali non capisce l'arte del dolore e così vive ossessionata da mille paure e la vita che vive la gente adesso non è più una vera vita fatta com'è di paura rassegnazione amarezza odio disperazione mio Dio tutto questo si può capire benissimo ma se una vita simile viene tolta ma se una vita simile viene tolta viene tolto poi molto si deve accettare la morte anche quella più atroce come parte della vita e non viviamo ogni giorno una vita intera è a molta importanza se viviamo qualche giorno in più o in meno io sono quotidianamente in Polonia su quelli che si possono ben chiamare dei campi di battaglia qualche volta mi opprime una visione di questi campi diventati verdi di veleno sono accanto agli affamati ai maltrattati ai moribondi ogni giorno ma sono anche vicino al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra in una vita c'è posto per tutto per una fede in Dio e per una misera fine si deve anche avere la forza di soffrire da soli e di non pesare sugli altri con le proprie paure e coi propri fardelli lo dobbiamo ancora imparare e ci si dovrebbe reciprocamente educare a ciò se possibile con la dolcezza e altrimenti con la severità quando dico in un modo o nell'altro chiuso i conti con la vita non è per rassegnazione tutto quel che si dice è malinteso se mi capita di dire una cosa del genere viene intesa altrimenti non è rassegnazione non lo è di certo cosa voglio dire forse che ho già vissuto questa vita mille volte e altre tante volte sono morte e dunque non può più succedere nulla di nuovo è un modo di essere blasé no è un vivere la vita mille volte minuto per minuto è anche un lasciaspazio al dolore spazio che non può essere piccolo oggi e fa poi gran differenza se in un secolo è l'inquisizione a far soffrire gli uomini o la guerra ai pogrom in un altro assurdo come dicono loro il dolore ha sempre preteso il suo posto e i suoi diritti in una forma o nell'altra quel che conta è il modo con cui lo si sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e insieme di accettare ugualmente la vita sto teorizzando dietro la mia scrivania dove ogni libro mi circonda con la sua familiarità e con quel gelsomino là fuori è solo teoria non ancora messa alla prova da nessuna pratica non lo credo più tra poco sarò messa di fronte alle estreme conseguenze le nostre conversazioni sono già infarcite di frasi come spero che egli possa ancora godere di queste fragole con noi so che miscia col suo corpo delicato sta per recarsi a piedi alla centrale stazione presso ai vicini pallidi di Miriam e Renate alle preoccupazioni di molti so tutto tutto in ogni momento a volte devo chinare il capo sotto il gran peso che ho sulla nuca e allora sento il bisogno di congiungere le mani quasi in un gesto automatico e così potrei rimanere seduta per ore so tutto sono in grado di sopportare tutto sempre meglio ma insieme sono certa che la vita è bellissima degna di essere vissuta e ricca di significato ma grado tutto il che non vuol dire che uno sia sempre nello stato d'animo più elevato e pieno di fede si può essere stanchi come cani dopo aver fatto una lunga camminata o una lunga coda ma anche questo fa parte della vita e dentro di te c'è qualcosa che non ti abbandonerà mai più 3 luglio 1942 venerdì sera le 8 e mezzo sono sempre seduta alla medecima scrivania ma a questo punto dovrei tirare una riga e proseguire su un tono diverso dobbiamo trovare posto per una nuova certezza vogliono la nostra fine e il nostro annientamento non possiamo più farci nessuna illusione al riguardo dobbiamo accettare la realtà per continuare a vivere oggi per la prima volta sono stata presa da un gran scoraggiamento mi toccherà fare i conti anche con questo d'ora in poi e se dobbiamo andare all'inferno e se dobbiamo andare all'inferno che sia con la maggior grazia possibile però non avevo mai voluto parlarne in modo così esplicito perché questo stato d'animo proprio ora perché ho una vescica ai piedi a forza di camminare per la città così calda perché tanti hanno i piedi distrutti da quando gli è stato proibito di prendere il tram per il pallido visetto di Renate che deve andare a scuola a piedi con le sue gambette corte un'ora all'andata un'ora al ritorno nel caldo perché l'isle fa la coda e non riesce ugualmente a procurarsi le verdure per tante tante ragioni piccole insieme tutte parti della gran campagna che è in atto per sterminarci e tutto il resto appare semplicemente grottesco e inconcepibile per ora ad esempio il fatto che esse non possa più visitare questa casa col suo pianoforte e i suoi libri o che io non possa più andare a casa di Tide eccetera bene io accetto questa nuova certezza vogliono il nostro totale annientamento ora lo so non darò più fastidio con le mie paure non sarò amareggiata se altri non capiranno cos'è in gioco per noi ebrai una sicurezza non sarà corrosa o indebolita dall'altra continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di significato anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia la vita è la morte il dolore è la gioia le vesiche ai piedi estenuati dal camminare e il gel somino dietro la casa le persecuzioni le innumerevoli atrocità tutto tutto è in me come un unico potente insieme e come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio così per me stessa senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per poterlo fare e se questo non mi sarà concesso bene allora qualcun altro lo farà al posto mio continuerà la mia vita dov'essa è rimasta interrotta ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima convinzione sino all'ultimo respiro allora il mio successore non dovrà più ricominciare tutto da capo e con tanta fatica non è anche questa un'azione per i posteri l'amico ebreo di Bernard mi aveva fatto chiedere dopo le ultime ordinanze se non trovavo ancora che dovessero essere ammazzati tutti e preferibilmente tagliati a pezzetti uno per uno tra luglio 1942 è vero si portiamo dentro proprio tutto Dio e il cielo e l'inferno e la terra e la vita e la morte e i secoli tanti secoli è uno scenario una rappresentazione mutevole delle circostanze esteriori ma abbiamo tutto in noi stessi e queste circostanze non possono essere mai così determinanti perché esisteranno sempre delle circostanze buone o cattive che dovranno essere accettate il che non impedisce poi che uno si dedichi a migliorare quelle cattive però si deve sapere per quali motivi si lotta e si deve cominciare da noi stessi ogni giorno da capo una volta mi sentivo in dovere di concepire molti pensieri geniali al giorno ora mi sento non di rado come una terra incolta su cui non cresce assolutamente niente ma su cui si stende un cielo alto e tranquillo meglio così in questo momento non mi fiderai di troppi pensieri brillanti a volte preferisco lasciar riposare la testa e attendere tante cose sono successe dentro di me in questi ultimi giorni ora finalmente qualcosa si è cristallizzato ho guardato in faccia la nostra misera fine che è già cominciata nei piccoli fatti quotidiani e la coscienza di questa possibilità forma parte del mio modo di sentire la vita senza fiaccarlo non sono amareggiata o in rivolta non sono neppure più scoraggiata o tantomeno rassegnata continuo indisturbata a crescere di giorno in giorno pur avendo quella possibilità dinanzi agli occhi non giocherò più con le parole che creano soltanto malintesi per esempio ho chiuso i conti con la vita non può più succedermi niente non si tratta di me e della mia distruzione ma del fatto che si distrugga così dico qualche volta agli altri ma non ha molto senso non riesco a spiegarmi ne importa del resto con aver chiuso i conti con la vita voglio dire che la possibilità della morte si è perfettamente integrata nella mia vita questa è come resa più ampia da quella dall'affrontare ed accettare la fine come parte di sé e dunque non si tratta per così dire di offrire un pezzetto di vita alla morte perché si teme e si rifiuta quest'ultima la vita che ci rimarrebbe allora sarebbe ridotta a un ben misero frammento sembra quasi un paradosso se si esclude la morte non sia mai una vita completa e se la si accetta nella propria vita si amplia e si arricchisce quest'ultima è la prima volta che ho da confrontarmi con la morte non ho mai saputo bene come comportarmi con lei sono vergine nei suoi confronti non ho mai visto una persona morta che strano in questo mondo disseminato di milioni di cadaveri io a 28 anni non ne ho ancora visto uno qualche volta mi sono chiesta quale fosse il mio atteggiamento nei confronti della morte in realtà non me ne sono mai preoccupata per me stessa non era ancora il momento e ora la morte è qui in tutta la sua grandezza e già è come una vecchia conoscenza che fa parte della vita e che si deve accettare è tutto così semplice non c'è bisogno di fare profonde considerazioni non tratto la morte grande semplice e naturale è entrata quasi tacitamente a far parte della mia vita e adesso io so che appartiene alla vita ecco ora posso dormire in pace sono le 10 di sera oggi non ho combinato molto ma avevo da fare i conti con i miei piedi pieni di vesciche dopo quei lunghi giri per la città tanto calda e con altre piccole miserie simili ogni cosa deve essere sofferta e accettata e a un certo punto mi ha preso un gran scoraggiamento e insicurezza e sono passata un momento da lui aveva mal di testa ed era preoccupato in genere tutto funziona alla perfezione in quel corpo arbusto sono stato un momento fra le sue braccia ed era così dolce e caro quasi malinconico credo che per noi cominci una fase nuova ancora più seria intensa e concentrata sulle cose essenziali ogni giorno ci si libera di qualche piccolezza il nostro nientamento è vicino non possiamo più illuderci domani notte dormirò nel letto di dicchi esse dormirà al piano di sotto e alla mattina verrà su a svegliarmi tutto questo è ancora possibile e sapremo ben trovare il modo di aiutarci reciprocamente nei tempi difficili che verranno un po' più tardi e se anche non avessi avuto niente da questa giornata neppure da ultimo questo positivo è aperto a confrontarmi con la morte non dovrei dimenticare quel soldato tedesco Kacher che si trovava al chiosco col suo succo di carote e cavolfiori prima sul tram le avevo messo in mano un biglietto e poi c'era stata quella lettera che dovrò ben leggere una volta mi ricordava tanto la figlia di un rabbino che lui aveva potuto ancora assistere giorno e notte sul suo letto di morte stasera è andato a farle visita e quando l'Islam era raccontato ho saputo all'istante che stasera avrai dovuto pregare anche per quel soldato tedesco una delle tante uniformi ora ha un volto ci saranno ancora altri volti su cui potremo leggere e capire qualcosa e questo soldato soffre anche lui non ci sono confini tra gli uomini sofferenti si patisce sempre da una parte e dall'altra e si deve pregare per tutti buonanotte da ieri di colpo ho molti anni di più so che la mia vita ha un termine non sono più scoraggiata mi sento più forte si diventa più forti se si impara a conoscere e ad accettare le proprie forze e le proprie insufficienze è tutto così semplice e sempre più evidente per me vorrei vivere abbastanza a lungo per farlo capire anche agli altri e ora per davvero buonanotte sabato mattina le nove mi sembra che in me si compiano dei grandi mutamenti e credo che siano qualcosa di più che semplici stati d'animo ieri mi si è schiusa davanti una nuova prospettiva se prospettiva la si vuol chiamare stamattina ero di nuovo tranquilla e serena e sicura come non lo ero da tempo e tutto questo è successo grazie a quella piccola vescica sotto il piede sinistro il mio corpo è un ricettacolo di molti dolori sono custoditi in tutti gli angoli e ora gli uni ora gli altri si fanno sentire mi sono riconciliata anche con loro e sono stupita di come riesco a lavorare a concentrarmi ma una forza spirituale non basterà se la nostra situazione dovesse aggravarsi me l'ha insegnato quella semplice passeggiata per andare e tornare dall'ufficio delle imposte eravamo come due allegri turisti che se ne vanno a spasso per una città bella e ridente la sua mano aveva preso la mia e stavano così bene insieme le nostre due mani a un certo momento mi ha preso una gran stanchezza e mi sono resa conto con sconcerto che in questa città dalle lunghe vie non avrei potuto sedermi in un tram posso stare per un momento in un caffè all'aperto posso raccontargli qualcosa di molti caffè ecco là ero seduta due anni fa con tanti amici dopo il mio esame di laurea allora ho pensato o piuttosto in qualche modo ho sentito che gli uomini si sono stancati e si sono rotti i piedi su questa terra di Dio per secoli e secoli nel freddo e nel caldo che anche questo fa parte della vita un barlume di eternità filtra sempre più nelle mie piccole azioni e percezioni quotidiane io non sono sola nella mia stanchezza malattia tristezza o paura ma sono insieme con milioni di persone di tanti secoli anche questo fa parte della vita che è pur bella e ricca di significato nella sua assurdità se vi si fa posto per tutto e se la si sente come un'unità indivisibile così in un modo o nell'altro la vita diventa un insieme compiuto ma si fa veramente assurda non appena se ne accetta o rifiuta una parte a piacere proprio perché essa perde allora la sua godibilità e diventa tutta quanta arbitraria al ritorno dal nostro lungo giro ci aspettavo una camera fidata con un divano su cui potevamo buttarci dopo esserci tolti le scarpe trovavamo un'accoglienza generosa e c'era anche un cesto di cilieze mandato da amici del Betuve una volta un buon pranzo sarebbe stato del tutto naturale ora è un regalo inaspettato e se da un lato la vita si è fatta più dura e minacciosa dall'altro lato si è fatta più ricca perché non si hanno più pretese e ogni cosa buona diventa appunto un dono insperato che riempie di riconoscenza perlomeno io sento così e lui pure e certe volte ci meravigliamo ambedue di non provare nessun odio indignazione o amarezza in mezzo alla gente queste cose non si possono dire credo che finiremo per trovarci terribilmente isolati nelle nostre convinzioni mentre camminavo io sapevo che alla fine avremmo trovato una casa sicura ma sapevo pure che un giorno questa sicurezza non l'avremmo più e allora si girerà per le strade per finire in una baracca a corsie lo sapevo per me e per gli altri e l'ho accettato ho imparato un'altra lezione da quella camminata dopo due ore avevo già un mal di capo terribile come se la testa mi scoppiasse in tutte le sue suture e i miei piedi erano ridotti al punto da chiedermi come avrei mai potuto camminare di nuovo le molte aspirine che ho preso pensavo fosse necessario per non dovermi mettere subito a letto ma non dovrei abituarmi a sopportare i miei mali senza rimedi artificiali mi hanno fatta sentire stupidita e avvelenata per tutto il giorno seguente per me stessa non era affatto grave neanche per un istante la mia vita non era meno bella e intensa per questo ma dovevo pur constatare oggettivamente cara mia non ce la fai il tuo corpo è del tutto privo di difese e se tu fossi in un campo di lavoro dovresti arrenderti dopo tre giorni e tutta la forza spirituale di questo mondo non ti potrà salvare se dopo una piacevole passeggiata di neanche due ore fatta con la prospettiva di avere alla fine tutte le comodità reagisci già con un mal di capo così forte e tanta stanchezza per me personalmente non è grave io mi sdraio per terra e mi arrendo e poi è finita e con ciò lo derò ancora Dio e la vita per lo meno in questo momento io sento così ma ero di nuovo triste e preoccupata all'idea di pesare sugli altri di rendere la loro vita ancora più difficile una volta non facevo mai vedere se mi stancavo troppo per le mie forze non volevo pesare facevo tutto come gli altri passeggiate festeggiamenti le ore piccole forse sarà un po' di presunzione nel mio atteggiamento da paura di perdere la simpatia e la compagnia degli altri se avessi disturbato i loro divertimenti con la mia stanchezza e uno dei miei complessi di inferiorità nasceva di lì per di più esse aveva combinato di andare domattina al ghetto dove forse in qualche casa possiamo dare una mano e il ghetto è molto più lontano dell'ufficio delle imposte fino a ieri sera non ho osato dirgli che non potevo camminare così tanto sapevo infatti che sarebbe stata una distrazione per lui devo aver pensato che se Tida era in grado di camminare con lui per ore e ore allora potevo farlo anch'io sempre quella paura infantile di perdere un po' dell'amore degli altri se non ci si adegua ma comincio a liberarmi da questi condizionamenti bisogna saper riconoscere le proprie insufficienze anche quelle fisiche bisogna saper accettare di non poter essere per un altro come si vorrebbe riconoscere le proprie debolezze non significa lamentarsene questa sì che sarebbe una miseria anche per gli altri credo che sia stato proprio questo nuovo stato d'animo a farmi correre da lui ieri sera poco prima delle otto ho distetto persino una lezione cosa che è contraria alle mie abitudini per poter stare un momento con lui e mentre gli ero distesa accanto sul divano gli ho detto di punto in bianco che mi rattristava moltissimo di essere così stanca dopo quella camminata non per me stessa ma perché mi ero resa conto di quante poche illusioni io mi potessi fare sulle mie reali condizioni fisiche e lui ha subito risposto come se fosse la cosa più naturale del mondo che allora sarebbe stato molto meglio non fare quel giro domenica mattina al che ho suggerito a mia volta di portare a mano la mia bicicletta per poterla avere al ritorno sembra una piccolezza ma per me è importantissimo altrimenti sarei stata capace di rovinarmi i piedi solo per fargli piacere e per evitare in tutti i modi di seccarlo chiaro che tutte queste supposizioni erano frutto della mia fantasia adesso io dico con semplicità e naturalezza ecco le mie forze arrivano fin qui e non oltre non ci posso far niente devi prendermi come sono per me questo è un passo ulteriore verso una maturità e indipendenza a cui sembra che mi stia avvicinando di giorno in giorno molti di coloro che oggi si indignano per certe ingiustizie a ben guardare si indignano solo perché quelle ingiustizie toccano proprio a loro quindi non è un'indignazione veramente radicata e profonda in un campo di lavoro so che morirei in tre giorni mi coricherei morirei eppure non troverai ingiusta la vita a fine mattinata ogni camicia pulita che puoi ancora indossare è quasi una festa e così pure se ti lavi con un sapone profumato in un bagno che è tutto tuo per quella mezz'ora è proprio come se io mi stessi già congedando da queste raffinatezze della civiltà e se un giorno non potrò più goderne saprò in ogni caso che esistono e che possono rendere piacevole la vita e in quanto tali le lo derò anche se non mi saranno toccate in sorte quel che conta infatti non è che tocchino proprio a me vero? bisogna sapere accettare tutto quel che ci tocca anche se un individuo nei panni del tuo prossimo ti si accosta all'uscita di una farmacia dove hai comprato il dentifricio ti punta l'indice addosso e ti chiede con aria inquisitoria hai il permesso di comprare lì dentro? ho risposto timida e insieme decisa e gentile come sempre sì signore questa è una farmacia capito ha detto lui laconico e diffidente e se n'è andato io non so essere tagliente cioè esserlo in una conversazione tra persone di spirito ma sono del tutto in difesa di fronte alla gentaglia di strada tanto per parlare senza mezzi termini allora divento timida e triste e mi stupisco che tra esseri umani ci si possa comportare così ma una risposta ben forte e tagliente seppure nei limiti del lecito non mi viene quell'uomo non aveva il diritto di interrogarmi una di quegli idealisti che a suo tempo coopereranno a epurare la società dagli elementi ebraici a ognuno il suo piacere in questa vita ma questi piccoli attriti col mondo esterno devono pur essere digeriti con ciò non provo il minimo interesse a fare la figura di una persona coraggiosa di fronte a questo o a quel persecutore e dunque non mi sforzerò mai in questo senso possono benissimo accorgersi che sono triste e del tutto in difesa dei loro confronti non ho nessun bisogno di fare una figura coraggiosa ho la mia forza interiore e questo mi basta il resto è irrilevante le otto e mezzo di mattina quando è entrato in camera mia aveva un pigiama celeste e un'espressione timida in viso gli stavano così bene è seduto sul bordo del letto a parlare un po' ora se n'è andato passerà un'ora prima che sia pronto lavarsi far ginnastica leggere leggere lo posso fare insieme a lui quando ha detto adesso ho ancora bisogno di un'ora mi ha preso di colpo una gran tristezza quasi dovessimo separarci per sempre oh lasciar completamente libera una persona che si ama lasciarla del tutto libera di fare la sua vita è la cosa più difficile che ci sia lo sto imparando per lui fuori un vero tripudio di voci di uccelli un tetto piano coperto di ghiaino e un piccione davanti alla mia finestra spalancata il sole già al mattino presto lui tossiva poco fa e ha sempre ancora la testa che gli duole nello stesso punto ha avuto un pessimo sogno l'ha chiamato un sogno premonitore ero sveglia alle cinque e mezzo alle sette e mezzo mi sono completamente spogliata e lavata ho fatto un po' di ginnastica poi sono tornata sotto le coperte poco dopo è entrato lui esitante e timido nel suo pigiama celeste tossiva ha detto sono esaurito stamattina andiamo dal medico invece di fare quel lungo giro e oggi voglio ritirarmi a riposare nel mio silenzio nello spazio del mio silenzio interiore a cui chiedo ospitalità per un giorno intero forse riuscirò a riposarmi così corpo e mente sono molto stanchi e funzionano male ma oggi non ho da lavorare e credo che andrà bene se sole su quel tetto è un tripudio di voci di uccelli questa camera è già così raccolta intorno a me che ci potrai pregare abbiamo avuto entrambi una vita molto libera lui con le donne io con gli uomini e ciò nonostante lui era seduto col suo pigiama celeste sul bordo del mio letto per un momento la sua testa era abbandonata fra le mie braccia nude abbiamo parlato un pochino poi era via di nuovo trovo che è una cosa molto commovente nell'uno nell'altro abbiamo il cattivo gusto di abusare di una situazione troppo facile alle nostre spalle c'è una vita libera e sregolata di amori trascorsi in molti letti altrui eppure siamo ancora capaci di essere timidi ogni volta è molto bello che sia così e me ne rallegro ora mi metto alla mia vestaglia colorata e scendo di sotto per leggere la Bibbia insieme con lui passerò tutto il giorno e in un angolino di quella gran sala silenziosa che ho dentro di me oggi non devo lavorare non ho compiti casalinghi e non ho da far lezione la mia colazione è pronta in un cartoccio e Adri ci porterà il nostro pranzo caldo così stanca posso restare seduta nell'angolino del mio silenzio accoccolata come un Buddha e anche col suo sorriso anteriormente si intende le dieci meno un quarto erano un buon nutrimento a digiuno quei pochi salmi che ora fanno parte della nostra vita quotidiana abbiamo vissuto insieme il principio di un giorno ed è stata una cosa molto bella una carica d'energia e di nuovo quella stupida fitta al cuore quando ha detto che andava a far ginnastica e a vestirsi come se dovendo ritornare di sopra io mi sentissi abbandonata e sola al mondo una volta ho scritto vorrei poter condividere il mio spazzolino da denti con lui quanto bisogno di essere vicino a una persona fin nei suoi più piccoli gesti quotidiani però questa distanza fa bene ci si ritrova poi sempre che tra poco verrà su a chiamarmi per far colazione alla sua tavola rotonda vicino al geranio che si dissangua ogni giorno di più oh quegli uccelli e quel sole sul ghiaino del tetto ho nell'anima tanta calma e dolcezza e un senso di appagamento che riposa in Dio che forza primordiale viene fuori dall'antico testamento e che radice popolare anche magnifiche figure forti e poetiche vivono in quelle pagine un libro davvero vincente aspro e tenero ingenuo e saggio interessante non solo per ciò che dice ma anche perché permette di conoscere chi lo dice di sera le 10 soltanto questo ogni minuto in questa giornata è trascorso in un batter d'occhio ma la giornata tutt'intera mi rimane dentro come un dono pieno di consolazione un ricordo che potrà essere necessario e che ci accompagnerà come una realtà sempre presente e ogni frase di questa giornata faceva impallidire quelle che l'avevano preceduta non si può puntare esclusivamente sulla conservazione o sulla distruzione tutte e due esistono come possibilità estreme ma non ci si può fissare su nessuna delle due quel che conta piuttosto è che si affrontino le cose urgenti di ogni giorno chiari sera parlavamo di campi di lavoro io dicevo non posso farmi nessuna illusione il mio corpo non vale niente e sarò morta in tre giorni Werner era d'accordo per parte sua mentre Liesl ha detto non so io ho la sensazione che me la caverai posso capirla bene una volta ero come lei sentivo di possedere un'energia indistruttibile è un nucleo di forza che continuo a portarmi dentro ma anche questo non va inteso in senso troppo materialistico la questione non è se il corpo poco esercitato possa resistere questo è relativamente secondario la forza autentica primaria consiste in ciò che se anche si soccombe miseramente fino all'ultimo si sente che la vita è bella e ricca di significato e che si è realizzato tutto quanto in noi stessi e che la vita era buona non riesco tanto ad esprimermi finisco sempre per usare le stesse parole lunedì mattina le undici forse posso scrivere per un'ora di seguito sulle cose più importanti rilke scrive da qualche parte al suo amico paralizzato evald ma ci sono anche dei giorni in cui egli invecchia i minuti gli passano sopra come anni così ieri le molte ore del giorno sono passate sopra di noi quando ci siamo salutati mi sono appoggiata per un momento a lui e gli ho detto vorrei rimanere ancora lungo con te il più possibile nel suo avviso la bocca era così dolce in difesa e malinconica quando ha risposto quasi trassognato già ognuno di noi avrà pure i suoi desideri e ora mi domando non dobbiamo cominciare già adesso a congedarci da questi desideri se si comincia ad accettare non si deve accettare tutto allora stava contro il muro della camera di dicchi io ero appena appoggiata a lui dolcemente all'apparenza non c'era nulla di diverso da tanti altri momenti simili nella mia vita ma per me fu improvvisamente come se un cielo da tragedia greca si stendesse sopra di noi per un momento tutto si è confuso ai miei sensi io mi trovavo con lui nel mezzo di uno spazio infinito carico di minacce ma anche di eternità forse è stato allora che si è compiuta in noi una grande e definitiva trasformazione ieri è rimasto ancora un momentino appoggiato al muro e ha chiesto con tono quasi lamentoso stasera devo scrivere alla mia amica che avrà il suo compleanno tra poco ma cosa devo scriverla mi manca la voglia e l'ispirazione ti ho detto devi cercare fin d'ora di riconciliarla con l'idea di non rivederti più devi fornirle dei punti d'appoggio per la sua vita futura deve aiutarla a riconoscere che in tutti questi anni avete continuato a vivere insieme malgrado la lontananza fisica che lei ha il dovere di continuare a vivere nel tuo spirito e di conservarne un pezzetto per questo mondo ecco ciò che conta così ci si parla oggi discorsi di questo genere non sembrano neppure più assurdi siamo entrati in una nuova realtà e ogni cosa ha preso colori e accenti diversi e tra i nostri occhi le nostre mani e le nostre bocche scorre un flusso ininterrotto di dolcezza e di tenerezza in cui sembra che si sia spento ogni più piccolo desiderio ormai si tratta semplicemente di essere buoni l'uno verso l'altro con tutta la bontà di cui siamo capaci e ogni riunione è anche un addio stamattina mi ha detto al telefono quasi trassognato era bello ieri cerchiamo di stare insieme il più possibile durante il giorno e ieri pomeriggio eravamo seduti al suo tavolino rotondo e come due scapoli ancora viziati ci godevamo un pranzo abbondante che non aveva alcun rapporto con la situazione attuale quando gli ho detto che non volevo lasciarlo ha risposto con un tono improvvisamente severo e solenne non dimentichi ciò che lei dice sempre non può dimenticarlo e non mi sembrava più di essere come una bambinetta in un dramma che supera la sua capacità di comprensione come succedeva tanto spesso in passato qui invece si trattava della mia vita e del mio destino ed ero in grado di sopportarli e il mio destino con tutte le minacce insicurezza fede e amore mi andava a pennello come un vestito che fosse stato cucito appositamente per me gli voglio bene con tutto il disinteresse che ho scoperto di possedere e non voglio minimamente pesare su di lui con le mie esigenze e con le mie paure rinuncerò persino al desiderio di rimanergli accanto fino all'ultimo momento il non essere si sta trasformando in un'unica grande preghiera per lui e perché solo per lui? perché non anche per gli altri? ci vanno anche ragazzine di 16 anni nei campi di lavoro noi che siamo più vecchi dovremmo prenderle sotto la nostra protezione quando sarà il turno delle nostre ragazze olandesi e a risera volevo dirle a Han che ci vanno anche ragazze di 16 anni ma sono stata zitta pensando che avrei potuto essere buona anche con lui e che non era il caso di caricarlo di altri pesi non posso forse risolvere queste cose da sola? certo che ognuno di noi deve sapere ma non si deve anche essere buoni con gli altri non si deve evitare di caricarli tutto il tempo di pesi che possiamo benissimo portare da soli soltanto qualche giorno fa pensavo ancora il peggio verrà quando non mi sarà più concesso di tenere matita e carta per chiarirmi le idee di tanto in tanto senza questa possibilità che per me è di un'importanza essenziale potrei anche scoppiare e distruggermi dentro e ora so che se si comincia a rinunciare alle proprie pretese e ai propri desideri si può rinunciare a tutto l'ho imparato in questi giorni forse potrò rimanere qui ancora per un mese e poi anche questa scappatoia nelle disposizioni verrà scoperta incomincerò a fare ordine nelle mie carte e ogni giorno dirò addio e così il vero addio sarà solo una piccola conferma esteriore di ciò che di giorno in giorno si è già compiuto dentro di me sono in uno stato d'animo così singolare sono proprio io a scrivere qui così tranquilla e matura qualcuno mi potrebbe capire se dicesse che mi sento così stranamente felice non in modo artificioso o altro ma in tutta semplicità perché mi sento crescere dentro dolcezza e fiducia di giorno in giorno perché tutta la confusione le minacce e i pesi non mi portano neanche per un momento all'alienazione mentale perché perché continuo a vedere e a sentire la vita così chiara e nitida in tutti i suoi contorni perché nulla offusca i miei pensieri e i miei sentimenti perché posso sopportare e accettare tutto e perché la coscienza del bene che c'è stato nella vita anche nella mia vita non è stata soppiantata da tutte queste altre cose anzi diventa sempre più parte di me ma non oso quasi aggiungere altro non so che cosa sia è come se mi spingessi troppo oltre nel mio distacco da tutto ciò che porta la maggior parte delle persone vicino all'alienazione mentale se sapessi con certezza di dover morire la prossima settimana vorrei rimanere a studiare alla mia scrivania per tutto questo tempo nella massima tranquillità di spirito e senza che questa sia una fuga io so ora che vita e morte sono significativamente legate fra loro sarà uno scivolare dall'una nell'altra anche se la fine potrà essere triste o persino orribile nella sua forma esteriore dovremo passare ancora per tante vicessitudini diventeremo poveri poi a lungo andare saremo ridotti all'indigenza ogni giorno perdiamo un po' delle nostre forze e questo è dovuto non solo alle nostre paure e insicurezze ma anche a piccoli e semplici fatti concreti come quello di poter entrare in sempre meno negozi o di essere costretti a percorrere lunghi tratti a piedi cosa che sta già logorando molte persone che conosco la nostra distruzione si avvicina furtivamente da ogni parte presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna persona buona che vorrà darsi aiuto lo potrà oltrepassare per ora ci sono ancora tante piccole aperture ma anche queste saranno turate tra breve è curioso come è fatto l'uomo ora c'è un tempo freddo e piovoso come se dall'alto piano di una fosa notte estiva uno fosse improvvisamente scaraventato in una valle fredda e umida anche l'ultima notte che ho passato con Han era sul filo del confine tra caldo e freddo era ieri sera parlavamo davanti alla finestra aperta delle gravi questioni che sono in gioco in questo momento il suo viso era così stravolto che ho pensato questa notte piangeremo abbracciati abbracciati ci siamo ma non abbiamo pianto solo nell'estasi della fine mentre il suo corpo era steso sul mio sono stata improvvisamente sopraffatta da un'ondata di tristezza che era profondamente umana e poi da un sentimento di compassione per me e per tutti e poi ancora mi pareva che tutto fosse come doveva essere nel buio ho potuto nascondere la mia testa fra le sue spalle nude e ho assaporato le mie lacrime da sola e poi di colpo ho dovuto pensare a quella torta della signora V oggi pomeriggio e allo strato di fragole che la ricopriva e mi è venuto da ridere fra me e me quasi con allegria e ora devo occuparmi del pranzo e alle due vado da lui potrei aggiungere che non ho lo stomaco a posto ma mi sono proposta di non scrivere più della mia salute costa troppa carta e me la cavo ugualmente una volta ne scrivevo a lungo perché non sapevo bene come regolarmi con questi problemi ma ora sono cose superate però meno così mi sembra sono un po' avventata e presuntuosa non so 7 luglio martedì mattina le nove e mezzo Min ha appena telefonato che ieri Miscia ha passato la visita per essere mandato nel Drente l'esito non si sa ancora la mamma è alzata diceva e papà legge molto lui ha tanto dentro di sé le strade che si percorrono in bicicletta non sono più del tutto le stesse i cieli al di sopra sono così bassi e minacciosi e paiono uccelli da temporale anche col sole radioso si vive ora fianco a fianco con il destino o comunque lo si voglia chiamare si trovano anche i comportamenti per convivere quotidianamente con esso e tutto è molto diverso da quel che un tempo potevamo leggere su tutti i libri per me io so questo dobbiamo abbandonare le nostre preoccupazioni per pensare agli altri chiamiamo voglio dire questo si deve tenere a disposizione di chiunque si incontri per caso sul nostro sentiero e che ne abbia bisogno tutta la forza e l'amore e la fiducia in Dio che abbiamo in noi stessi e che ultimamente stanno crescendo in modo così meraviglioso in me esse diceva ieri mi sono maledettamente abituato a lei ed io sa quanto maledettamente io mi sia abituata a lui ma devo abbandonarlo ugualmente voglio dir questo dal mio amore per lui devo attingere forza e amore per chiunque ne abbia bisogno ma questo amore e preoccupazione per lui non devono consumarmi al punto da togliermi le forze perché anche questo sarebbe egoistico e persino dalla sofferenza si può attingere forza e con l'amore che sento per lui posso nutrirmi una vita intera e altri insieme con me bisogna essere coerenti sino alla fine si può dire fin qui posso sopportare tutto ma se gli succede qualcosa o se devo lasciarlo allora non posso più continuare anche in quel caso bisogna proseguire o l'uno o l'altro ora o si pensa soltanto a se stessi e alla propria conservazione senza riguardi o si prendono le distanze da tutti i desideri personali e ci si arrende per me questa resa non si fonda sulla rassegnazione che è un morire ma l'indirizzerà dove Dio per avventura mi manda ad aiutare come posso e non a macerarmi nel mio dolore e nella mia rabbia sono ancora in uno stato d'animo singolare potrei dire è come i simili brassi invece di camminare come se non vivessi dentro alla realtà come se non sapessi cosa sta succedendo qualche giorno fa scrivevo ancora voglio star seduta per un pochino alla mia scrivania e studiare per me questo non si fa più cioè succederà un giorno ma a questa pretesa bisogna rinunciare bisogna rinunciare a tutto per poter fare un giorno e migliaia di piccole cose che vanno fatte per gli altri senza smarrirsi Werner diceva ieri noi non traslochiamo più non ne vale la pena e mi guardava e diceva se almeno potessimo partire insieme il piccolo Dyle si guardava tristemente le gambette magre e diceva questa mattina devo comprarmi ancora due paie di mutande lunghe come devo farlo e rivolto agli altri se solo potessimo essere nello stesso scompartimento la prossima settimana partenza l'una e mezzo di notte e il viaggio in treno sarà gratis sì proprio gratis e non si possono portare cose viventi così era scritto in quell'ordinanza inoltre che bisogna portarsi le scarpe da lavoro e due paia di calze e un cucchiaino ma niente oro e argento e platino quello no sì invece la fede commovente quella si può ancora tenere e io non mi porto nessun cappello diceva F ma un berretto quello sì che andrà bene e così eccoci alla nostra ora amara tornando a casa ieri sera per il consueto amaro pensavo in nome del cielo come posso dar lezione per un'ora adesso su quell'ora e mezza con vi con la sua liscia testa da ragazzo e i suoi occhi provocanti potrei scrivere un libro intero spero di potermi ricordare tutto di questo periodo di poterne più tardi raccontare qualcosa è tutto ben diverso da quel che si legge sui libri molto diverso non posso scrivere dei mille dettagli che vivo quotidianamente spero di ricordarmeli noto che la mia capacità di osservazione registra tutto così esattamente e ne provo un piacere singolare nella generale rovina delle cose in tutta la mia stanchezza sofferenza e così via rimane pur sempre la mia gioia la gioia dell'artista nell'osservare le cose e nel trasformarle nel suo spirito in una immagine sua leggerò l'ultima espressione del viso dei moribondi con partecipazione e la conserverò soffro con coloro con cui ora parlo tutte le sere e che la prossima settimana lavoreranno in un luogo minacciato di questa terra in una fabbrica di munizioni o Dio sa dove sempre che possano ancora lavorare ma io registro in me ogni piccolo gesto parola espressione del loro volto e lo faccio con una concretezza quasi fredda e oggettiva ho la disposizione dell'artista e credo che più tardi quando sentirò la necessità di raccontare tutto avrò anche abbastanza talento per farlo tipo omeriggio un amico di Bernard ha incontrato un soldato tedesco che gli ha chiesto una sigaretta è venuto fuori un dialogo da cui risultava che il soldato era austriaco un tempo professore a Parigi voglio conservare una frase del dialogo riferito da Bernard il soldato diceva in Germania ci sono più soldati uccisi dalla caserma che dal nemico quell'uomo che lavora in borsa diceva domenica mattina da Leo Krin dobbiamo pregare di tutto cuore che succeda qualcosa di buono finché conserviamo la disposizione verso questo qualcosa di buono infatti se il nostro odio ci fa degenerare in bestie come lo sono loro non servirà più a nulla i miei piedi ancora inabili mi preoccupano moltissimo spero che la mia vescica sarà guarita a quel punto altrimenti sarò certamente di peso quando saremo pigiati tutti quanti insieme e poi dovrò andare finalmente dal dentista tutte le cose indispensabili che sono state rimandate per una vita intera devono essere sbrigate con urgenza credo e lascio perdere anche questo frugare nella grammatica russa per i primi mesi ne saprò abbastanza per i miei allievi è meglio che finisca di leggere l'idiota non faccio più neppure riassunti di libri ci vuole troppo tempo e non potrò trascinarmi dietro tutta quella carta con la mente estrarrò dalle cose ciò che è essenziale e lo terrò in serbo per i momenti di necessità e potrò anche abituarmi meglio alla mia partenza e con diverse piccole azioni mi renderò sempre più conto di questo distacco di modo che l'ultima fine non giunga come un colpo troppo pesante liquidando lettere carte e vecchie cose che stanno in giro nei cassetti della mia scrivania penso però che miscia sarà giudicato inabile devo andare a dormire più presto altrimenti ho sonno di giorno e questo non va prima che l'isle parta per drente devo vedere di metterle mani sulla lettera del nostro soldato tedesco casher per conservarla come document human dopo la grandissima schiacciante disperazione del primo momento quella storia ha preso molte pieghe singolari la vita è così curiosa e sorprendente e infinitamente piena di sfumature a ogni curva del suo cammino si apre una vista del tutto diversa la maggior parte delle persone hanno nella propria testa delle idee stereotipate su questa vita dobbiamo nel nostro intimo liberarci di tutto di ogni idea esistente parola d'ordine sicurezza dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto ogni norma è appiglio convenzionale dobbiamo usare il gran salto nel cosmo e allora allora sì che la vita diventa infinitamente ricca e abbondante anche nei suoi più profondi dolori vorrei poter avere letto tutto rilke prima che arrivi il giorno in cui forse non potrò più leggere per molto tempo mi immedesimo molto intensamente nel piccolo gruppo di persone che ho conosciuto per caso da Werner e Liesl e che la prossima settimana sarà deportato per lavorare in Germania sotto la sorveglianza della polizia stanotte ho sognato che dovevo preparare la valigia era una notte nervosa soprattutto le scarpe mi facevano male come si doveva fare con la biancheria e il cibo per tre giorni e le coperte tutto in una valigia o in uno zaino però rimarrà ancora posto per la Bibbia in un angolino e se possibile per lo Stundenbuch il libro delle ore e per il briefe an einen jungen dichter di Rilke e mi piacerebbe tanto portare con me i vocabolarietti russi e l'idiota per non perdere l'esercizio della lingua questo mi può naturalmente succedere e sarà un caso molto curioso se io dichiaro alla nostra registrazione insegnante di lingua russa sarà un caso unico e le conseguenze non si possono prevedere facilmente dio sa per quali vani giri finirò ancora per andare in Russia una volta che abbiano messo le mani sulla mia conoscenza delle lingue e del resto le otto ecco ora si mette un coperchio sul chiasso di questa giornata e questa sera con tutta la pace e la concentrazione che sono in me è mia una rosa tea gialla sta sulla mia scrivania l'ora dell'amaro è passata esse chiedeva del tutto esausto come resistono i levi ogni sera io non resisto più mi sento a pezzi e ora lascio dietro di me tutte le dicerie e tutte le realtà ora si studia e si legge per tutta una sera e io come sto nessuna delle preoccupazioni e delle minacce di questa giornata mi è rimasta attaccata sto qui seduta alla mia scrivania così vergine e appena nata così disposta a studiare come se nel mondo non succedesse niente tutto mi è completamente caduto di dosso nulla ha lasciato una traccia mi sento così ricettiva come non mai la prossima settimana probabilmente tutti gli olandesi saranno chiamati al controllo di minuto in minuto desideri necessità e legami si staccano da me sono pronta a tutto a ogni luogo di questa terra nel quale Dio mi manderà sono pronta in ogni situazione e nella morte a testimoniare che questa vita è bella è piena di significato e che non è colpa di Dio ma nostra se le cose sono così come sono ora abbiamo ricevuto in noi tutte le possibilità per sviluppare i nostri talenti dovremmo ancora imparare a far buon uso di queste nostre possibilità è come se in ogni momento altri pesimi cadano di dosso come se tutti i confini che oggi ci sono tra persone e popoli non esistano più in certi momenti è proprio come se la vita mi fosse divenuta trasparente e così anche il cuore umano e io vedo e vedo e capisco sempre di più e dentro di me sono sempre sempre più in pace e c'è in me una fiducia in Dio che in un primo tempo quasi mi spaventava per la sua crescita veloce ma che sempre più diventa parte di me e ora al lavoro giovedì mattina nove e mezzo le parole come Dio e morte e dolore e eternità si devono dimenticare di nuovo si deve diventare un'altra volta così semplice senza parole come il grano che cresce o la pioggia che cade si deve semplicemente essere e io sono io già abbastanza avanti da poter dire sinceramente spero di andare al campo di lavoro per poter essere di appoggio alle ragazzine di 16 anni che ci vanno anche loro per rassicurare i genitori rimasti indietro non siate inquieti io vigilerò sui vostri figli quando dico che fuggire o nascondersi non ha il minimo senso che non ci sono scappatoie e che va il meglio rimanere con gli altri e cercare di essere per loro quel che ancora siamo in grado di essere sembra che io sia molto troppo rassegnata sembra che il mio atteggiamento sia del tutto diverso da come l'intendo io ancora non ho trovato il tono giusto per spiegare questo mio sentimento intatto e gioioso in cui sono compresi tutti i dolori e tutte le passioni parlo ancora con un tono filosofico e libresco come se mi fosse inventata una teoria consolatoria per rendermi più piacevole la vita per il momento farei meglio a tacere e a essere venerdì mattina una volta è un hitler un'altra è Ivan il terribile per quanto mi riguarda in un caso è la rassegnazione in un altro sono le guerre e la peste i terremoti e la carestia quel che conta in definitiva è come si porta sopporta e si risolve il dolore e se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima più tardi io penso e penso e mi rompo la testa e provo a risolvere le preoccupazioni minacciose di ogni giorno nel minor tempo possibile ho un groppo dentro che mi affatica il respiro devo fare i conti e darmi da fare e lasciar perdere lo studio per una parte della mattinata cammino un po' su e giù per la camera ho anche mal di pancia eccetera ed ecco che rispunta quella certezza più tardi se sarò sopravvissuta a tutto quanto scriverò delle piccole storie su questo tempo e saranno come rade pennellate su un ampio muto sfondo fatto di dio vita morte e dolore eternità talvolta le molte preoccupazioni ci saltano addosso come parassiti bene allora bisogna grattarsi un po' e si diventa anche più brutti ma uno deve pur toglierseli di dosso considererò il breve tempo in cui potrò rimanere qui come un regalo una vacanza in questi ultimi giorni sto percorrendo la vita come se mi portassi dentro una lastra fotografica che registra esattamente tutto fin nei minimi dettagli sento che ogni cosa mi entra dentro con grande nitidezza di contorni più tardi forse molto più tardi svilupperò e stamperò tutte quelle immagini quando avrò trovato il tono giusto per esprimere questo nuovo modo di sentire la vita tutto dovrebbe tacere finché questo nuovo tono non sia stato trovato ma mentre si parla il silenzio è piuttosto una scappatoia che è una soluzione si deve cominciare a cercarlo la transizione dal vecchio al nuovo tono la si deve poter seguire in tutti i suoi passaggi un giorno pesante molto pesante un destino di massa che si deve imparare a sopportare insieme con gli altri eliminando tutti gli infantilismi personali chiunque si voglia salvare deve pur sapere che se non ci va lui qualcun altro dovrà andare al suo posto come se importasse molto se si tratti proprio di me o piuttosto di un altro o di un altro ancora è diventato ormai un destino di massa e si deve essere ben chiari su questo punto un giorno molto pesante ma ogni volta so ritrovare me stessa in una preghiera e pregare mi sarà sempre possibile anche nello spazio più ristretto e come fosse un fagottino io mi lego sempre più strettamente sulla schiena e porto sempre più come una cosa mia quel pezzetto di destino che sono in grado di sopportare con questo fagottino già cammino per le strade dovrei impugnare questa sottile penna stilografica come se fosse un martello e le mie parole dovrebbero essere come tante martellate per raccontare il nostro destino è un pezzo di storia come ora e non è mai stata in passato non in questa forma totalitaria organizzata per grandi masse estesa all'Europa intera dovrà pur sopravvivere qualcuno che lo possa fare anch'io vorrei essere in futuro una piccola cronista la sua bocca tremante quando ha detto allora Adria e Dicchi non potranno più portarmi da mangiare 11 luglio 42 sabato mattina le 11 si dovrebbe parlare delle questioni più gravi e importanti di questa vita solo quando le parole ci vengono semplici e naturali come l'acqua che sgorga da una sorgente e se Dio non mi aiuterà più allora sarò io ad aiutare Dio su tutta la superficie terrestre si sta estendendo pian piano un unico grande campo di prigionia e non ci sarà quasi più nessuno che potrà rimanerne fuori è una fase che dobbiamo attraversare qui gli ebrai si raccontano delle belle storie dicono che in Germania ti murano vivi o li sterminano coi gas velenosi non è gran che saggio raccontarsi storie simili e poi se anche questo capitasse in una forma o nell'altra è per responsabilità nostra da ieri sera piove con una furia quasi infernale ho già votato un cassetto della mia scrivania ho ritrovato quella sua fotografia che avevo perso quasi un anno fa ma che sapevo avrei recuperato ed eccola lì e in fondo ha un cassetto disordinato è tipico per me io so che certe cose grandi o piccole si aggiustano anche e soprattutto se sono cose materiali non mi preoccupo mai per il domani per esempio so che tra poco dovrò andarmene di qui e non ho la più pallida idea di dove andrò a finire e poi anche le mie entrate sono ben scarse in questo momento ma per me stessa non mi preoccupo mai perché so che qualcosa succederà se si proiettano le proprie preoccupazioni sulle varie cose che devono accadere si impedisce a queste cose di svilupparsi in modo organico ho una fiducia così grande non nel senso che tutto andrà sempre bene nella mia vita esteriore ma nel senso che anche quando le cose mi andranno male io continuerò ad accettare questa vita come una cosa buona mi meraviglio di quanto io mi stia già orientando verso la prospettiva di un campo di lavoro ieri sera camminavo con lui lungo il canale avevo dei comodi sandali ai piedi ed un tratto mi è venuto da pensare devo portarmi anche questi sandali così potrò alternarli alle scarpe più pesanti che mi prende in questo momento una gioia così leggera quasi scherzosa ieri è stato un giorno pesante molto pesante ho dovuto soffrire molto dentro di me ma ho assorbito tutte queste cose che mi sono precipitate addosso e mi sento già in grado di sopportare qualcosa di più probabilmente è di lì che mi viene questa serenità questa pace interiore dalla coscienza di sapermela cavare da sola ogni volta dalla constatazione che il mio cuore non si inaridisce per l'amarezza che i momenti di più profonda tristezza e persino di disperazione mi lasciano tracce positive mi rendono più forte non mi faccio molte illusioni su come le cose stiano veramente e rinuncio persino alla pretesa di aiutare gli altri partirò sempre dal principio di aiutare Dio il più possibile e se questo mi riuscirà bene allora vuol dire che saprò esserci anche per gli altri ma su questo punto non dobbiamo farci delle illusioni eroiche mi chiedo che cosa farei effettivamente se mi portassi in tasca il foglio con l'ordine di partenza per la Germania e se dovessi partire tra una settimana supponiamo che quel foglio mi arrivi domani cosa farei comincerei col non dir niente a nessuno mi ritirerei nel cantuccio più silenzioso della casa e mi raccoglierei in me stessa cercando di radunare tutte le mie forze da ogni angolo di anima e corpo mi farei tagliare i capelli molto corti e butterei via il mio rossetto cercherai di finire di leggere le lettere di Rilke mi farei fare dei pantaloni e una giacchetta con quella stoffa che ho ancora per un mantello d'inverno naturalmente vorrei ancora vedere i miei genitori e racconterai loro molte cose di me cose consolanti e ogni minuto libero vorrei scrivere a lui all'uomo di cui so già che mi farà morire di nostalgia certe volte mi sembra di morire già adesso quando penso che dovrò lasciarlo e che non saprò più niente di lui tra qualche giorno andrò dal dentista per farmi otturare tutti quei denti bucati sarebbe proprio grottesco che mi venisse male di denti mi procurerò uno zaino e porterò con me lo stretto necessario poco ma tutto di buona qualità mi porterò una bibbia e quei libretti sottili i briefe an einen jungen dichter e in qualche angolino dello zaino riuscirò a far restare lo stunde in Buch non mi porto ritratti di persone care ma alle ampie pareti del mio io interiore voglio appendere le immagini dei molti visi e gesti che ho raccolto e quelle rimarranno sempre con me anche queste due mani vengono con me con le loro dita espressive che sono come giovani rami robusti spesso saranno congiunte in una preghiera e mi proteggeranno e staranno con me fino alla fine e così questi occhi scuri con loro sguardo buono dolce e indagatore e se i tratti del mio viso diventeranno brutti e sconvolti dalla sofferenza e dal lavoro eccessivi allora tutta la vita del mio spirito potrà concentrarsi negli occhi eccetera eccetera naturalmente si tratta di un semplice stato d'animo uno dei tanti che si provano in queste nuove circostanze ma è anche un pezzo di me stessa una possibilità che ho una parte di me che sta prendendo sempre più il sopravvento del resto è poi solo un essere umano già ora abituo il mio cuore ad andare avanti anche quando sarò separata da coloro senza cui non credo che potrai vivere il mio distacco esteriore aumenta di giorno in giorno per far posto a un sentimento interiore la volontà di continuare a vivere e a sentirsi legati per quanto lontani si possa essere uno dall'altro eppure quando cammino con lui la mano nella mano lungo il canale che ieri sera aveva un aspetto autunnale tempestoso o quando nella sua cameretta mi scaldo ai suoi gesti buoni e sinceri allora provo di nuovo questa speranza e questo desiderio così umani perché non potremmo rimanere insieme tutto il resto non importerebbe più niente allora io non voglio lasciarlo ma altre volte penso fra me forse è più facile pregare da lontano che veder soffrire da vicino in questo mondo sconvolto le comunicazioni dirette tra due persone passano ormai solo per l'anima esteriormente si è scaraventati lontano e i sentieri che ci collegano rimangono sepolti sotto le macerie così che in molti casi non potremmo mai più ritrovarli la prosecuzione è ininterrotta di un contatto di una vita in comune è possibile solo interiormente e non rimane forse la speranza di ritrovarci ancora su questa terra naturalmente io non so come reagirò quando mi toccherà lasciarlo per davvero in questo momento ancora nelle orecchie la sua voce di stamattina al telefono e stasera ceniamo alla stessa tavola e domattina facciamo una passeggiata poi pranziamo insieme da Liesl e Werner e di pomeriggio si farà musica per ora lui è sempre qui e forse nel profondo del mio cuore io non credo neppure che dovrò lasciare né lui né altre persone un essere umano è poi solo un essere umano in questa nuova situazione dovremo imparare un'altra volta a conoscere noi stessi molte persone mi rimproverano per la mia indifferenza e passività e dicono che mi arrendo così senza combattere dicono che chiunque possa sfuggire alle loro grinfie deve provare a farlo che questo è un dovere che devo far qualcosa per me ma questa somma non torna in questo momento ognuno si dà da fare per salvare se stesso ma un certo numero di persone un numero persino molto alto non deve partire comunque il buffo è che non mi sento nelle loro grinfie sia che io rimanga qui sia che io venga deportata trovo tutti questi ragionamenti così convenzionali e primitivi e non li sopporto più non mi sento nelle grinfie di nessuno mi sento soltanto nelle braccia di dio per dirla con enfasi e sia che ora io mi trovi qui a questa scrivania terribilmente cara e familiare o fra un mese in una nuda camera del ghetto o forse anche in un campo di lavoro sorvegliato dalle SS nelle braccia di dio credo che mi sentirò sempre forse mi potranno ridurre a pezzi fisicamente ma di più non mi potranno fare e forse cadrò in preda alla disperazione e soffrirò privazioni che non mi sono mai potuta immaginare neppure nelle mie più vane fantasie ma anche questa è poca cosa se paragonata a un'infinita vastità e fede in dio e capacità di vivere interiormente può anche darsi che io sottovaluti tutto quanto ogni giorno vivo nell'eventualità che la dura sorte toccata a molti a troppi tocchi anche alla mia piccola persona da un momento all'altro mi rendo conto di tutto fin ai minimi dettagli credo che nel mio confortarmi interiore con le cose io stia saldamente piantata sulla terra più dura della realtà più dura e la mia accettazione non è rassegnazione o mancanza di volontà c'è ancora spazio per l'elementare sdegno morale contro un regime che tratta così gli esseri umani ma le cose che accadono sono troppo grandi troppo con un'amarezza personale sarebbe una reazione così puerile non proporzionata alla fatalità di questi avvenimenti spesso la gente si agita quando dico non fa poi molta differenza se tocca partire a me o a un altro ciò che conta è che migliaia di persone debbano partire non è neppure che io voglio correre in braccio alla mia morte con un sorriso rassegnato è il senso dell'ineduttabile e della sua accettazione la coscienza che in ultima istanza non ci possono togliere nulla non è che io voglia partire ad ogni costo per una sorta di masochismo o che desideri essere strappata via dal fondamento stesso della mia esistenza ma dubito che mi sentirei bene se mi fosse risparmiato ciò che tanti devono invece subire mi si dice una persona come te ha il dovere di mettersi in salvo hai tanto da fare nella vita hai ancora tanto da dare quel poco o molto che ho da dare la posso dare comunque che sia qui in una piccola cerchia di amici o altrove in un campo di concentramento e mi sembra una curiosa sopravvalutazione di se stessi quella di ritenersi troppo preziosi per condividere con gli altri un destino di massa se Dio decide che io abbia tanto da fare bene allora lo farò dopo essere passata per tutte le esperienze per cui possono passare anche gli altri e il valore della mia persona risulterà appunto da come saprò comportarmi nella nuova situazione e se non potrò sopravvivere allora si vedrà chi sono da come morirò non si tratta più di tenersi fuori da una determinata situazione costi quel che costi ma di come ci si comporta e si continua a vivere in qualunque situazione le cose che devo ragionevolmente fare le farò i miei reni sono ancora infiammati e anche la mia viscica al piede non è cashier mi farò rilasciare un certificato medico se sarà possibile mi si raccomanda infatti di cercarmi ancora un posto una specie di impiego presso il consiglio ebraico la settimana scorsa sono stati autorizzati a impiegare 180 persone e ora i disperati vi si accalcano in massa proprio come un pezzo di regno che dopo un neufragio valla deriva sull'oceano infinito un relitto a cui tutti i naufreghi tentano ancora di aggrapparsi ma trovo assurdo il logico di prendere delle iniziative né sono il tipo che sfrutta le sue buone relazioni del resto sembra che vi si combinino parecchi intrighi e il risentimento contro quel singolare organo di mediazione cresce di ora in ora inoltre più tardi toccherà anche a loro è vero che gli inglesi a quel punto potrebbero essere sbarcati così dicono coloro che conservano una speranza politica ma credo che si debba rinunciare a qualunque aspettativa che punti sul mondo esterno che non si debba far calcoli sulla durata del tempo eccetera eccetera e ora apparecchio la tavola preghiera della domenica mattina mio dio sono tempi tanto angosciosi stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano ti prometto una cosa dio soltanto una piccola cosa cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani ma anche questo richiede una certa esperienza ogni giorno ha già la sua parte cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me ma a priori non posso promettere nulla una cosa però diventa sempre più evidente per me e cioè che tu non puoi aiutare noi ma che siamo noi a dover aiutare te e in questo modo aiutiamo noi stessi l'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi e anche l'unica che veramente conti è un piccolo pezzo di te in noi stessi mio dio e forse possiamo anche contribuire a dissepellirti dai cuori devastati di altri uomini sì mio dio sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali ma anch'esse fanno parte di questa vita io non chiamo in causa la tua responsabilità più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi e quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza tu non puoi aiutarci ma tocca a noi aiutare te difendere fino all'ultimo la tua casa in noi esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri forchette e cucchiai d'argento invece di salvare te mio dio e altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo dicono me non mi prenderanno dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia comincio a sentirmi un po' più tranquilla mio dio dopo questa conversazione con te discorrerò con te molto spesso d'ora innanzi e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi con me vivrai anche tempi magri mio dio tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia ma credimi io continuerò a lavorare per te e ad esserti fedele e non ti caccerò via del mio territorio per il dolore grande ed eroico ho abbastanza forza mio dio ma sono piuttosto le mille piccole preoccupazioni quotidiane a saltarmi addosso e a mordermi come altrettanti parassiti beh allora mi gratto disperatamente per un po' ripeto ogni giorno per oggi sei a posto le pareti protettive di una casa ospitale ti scivolano sulle spalle come un abito che hai portato spesso e che ti è diventato familiare anche di cibo se ne ha sufficienza per oggi e il tuo letto con le sue bianche lenzuole e le sue calde coperte è ancora lì pronto per la notte e dunque oggi non hai il diritto di perdere neanche un atomo della tua energia in piccole preoccupazioni materiali usa e impiega bene ogni minuto di questa giornata e rendila fruttuosa fanne un'altra salda pietra su cui possa ancora reggersi il nostro povero e angoscioso futuro il gesso mino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle tempeste di questi ultimi giorni i suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghele scure e melmose che si sono formate sul tetto basso del garage ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire indisturbato esuberante e tenero come sempre espande il suo profumo tutto intorno alla tua casa mio dio vedi come ti tratto bene non ti porto soltanto le mie lacrime e le mie paure ma ti porto persino in questa domenica mattina grigia e tempestosa un gelsomino profumato ti porterò tutti i fiori che incontro sul mio cammino e sono veramente tanti voglio che tu stia bene con me e tanto per fare un esempio se io mi trovassero inchiusa in una cella stretta e vedessi passare una nuvola davanti alla piccola inferriata allora ti porterai quella nuvola mio dio sempre che ne abbia ancora la forza non posso garantirti niente a priori ma le mie intenzioni sono ottime lo vedi bene e ora mi dedico a questa giornata mi troverò fra molta gente le tristi voci e le minacze mi assedieranno di nuovo assediano una fortezza imprendibile luglio martedì sera ognuno deve vivere con lo stile suo io non so farmi avanti per garantirmi quella che può sembrare la mia salvezza mi pare una cosa assurda e divento irrequieta e infelizia quella lettera in cui faccio domanda al consiglio ebraico scritta su insistenza di giap per un po' mi ha fatto perdere l'equilibrio lieto insieme serissimo che avevo oggi questo star tutti addosso a quell'unico pezzetto di legno che va alla deriva sull'oceano infinito dopo il naufragio questo salvare il salvabile spingersi a forza di gomiti provocare l'annegamento altrui tutto così indegno e poi questo spingere non mi piace io appartengo piuttosto a quel genere di persone che preferiscono galleggiare ancora un po' sull'oceano stesse sul dorso e con gli occhi rivolti al cielo finché con un gesto rassegnato e devoto vanno a fondo per sempre io non posso fare diversamente le mie battaglie le combatto dentro di me contro i miei propri demoni ma combattere in mezzo a migliaia di persone impaurite contro fanatici furiosi e gelidi che vogliono la nostra fine no questo non è proprio il mio genere non ho neppure paura non so mi sento così tranquilla talvolta mi sembra di trovarmi in alto sui merli del palazzo della storia e di far correre lo sguardo su territori lontani mi sento in grado di sopportare il pezzo di storia che stiamo vivendo senza soccombere so tutto quel che capita e la mia testa rimane lucida talvolta è come se sul mio cuore venisse sparso uno strato di cenere o come se sotto i miei occhi il mio viso apparisse o si dissolvesse e nei suoi lineamenti grigi i secoli si inabissassero uno dopo l'altro e tutto si disfacesse e il mio cuore lasciasse andare tutto sono solo brevi momenti dopo di che ritrovo ogni cosa e la mia testa ridiventa lucida e sono di nuovo in grado di sopportare benissimo questo pezzo di storia una volta che si comincia a camminare con dio si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un'unica lunga passeggiata come è singolare tutto ciò riesco a capire un pezzetto di storia e di umanità ma per ora preferisco non scrivere avrei l'impressione che ogni parola sbiadirebbe e invecchierebbe all'istante come se la parola nuova capace di sostituire quella vecchia abbia ancora da nascere se io fosse in grado di registrare molte cose che penso e che sento e che talvolta mi si chiariscono in un baleno cose che riguardano questa vita gli uomini e dio sono sicura che non ne potrebbe venire fuori qualcosa di molto bello continuerò ad aver pazienza e lascerò maturare ogni cosa dentro di me mi sembra che si esageri nel temere per il nostro povero corpo lo spirito viene dimenticato s'accartoccia si avvizzisce in qualche angolino viviamo in modo sbagliato senza dignità e anche senza coscienza storica con vero senso della storia si può anche soccobbere io non odio nessuno non sono amareggiata una volta che l'amore per tutti gli uomini comincia a svilupparsi in noi diventa infinito se sapessero come sento e come penso molte persone mi considererebbero una pazza che vive fuori della realtà invece vivo proprio nella realtà che ogni giorno porta con sé l'uomo occidentale non accetta il dolore come parte di questa vita per questo non riesce mai a cavarne fuori delle forze positive bisogna che cerchi quelle due o tre frasi che avevo già trascritto da una lettera di Rathenau ecco cosa mi mancherà qui basta che allunghi una mano e subito ritrovo le parole e i frammenti di cui il mio spirito ha bisogno in un determinato momento bisogna invece che abbia tutto in me stessa si deve anche essere capaci di vivere senza libri e senza niente esisterà pure un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro di me per congiungere le mani in una preghiera ora sono le undici e mezzo di sera while si allaccia allo zaino troppo troppo pesante per la sua gracile schiena e si avvia a piedi alla central stazione stanotte non si dovrebbe poter chiudere occhio si dovrebbe soltanto pregare mercoledì mattina io non devo aver pregato abbastanza bene stanotte quando ho letto il suo biglietto stamattina qualcosa si è spezzato qualcosa mi è traboccato dentro stavo occupandomi della tavola per la colazione e di colpo dovetti congiungere le mani e chinare profondamente il capo e lacrime che avevo tenute dentro a lungo mi non darono il cuore e in me c'è ancora così tanto amore compassione dolcezza e anche così tanta forza che dovrà pur servire a qualcosa dopo aver letto le sue parole ho vissuto un momento di una serietà e di un'intensità estreme sembra forse strano ma per me queste poche parole scarabocchiate con una matita sbiadita sono la prima lettera d'amore che ricevo ho valigie piene di cosiddette lettere d'amore uomini diversi mi hanno scritto tante parole appassionate e tenere imploranti e piene di desiderio parole con cui hanno cercato di riscaldare se se e me e spesso erano fuochi di paglia ma le sue parole di ieri tu ho il cuore grosso e quelle di stamattina cara voglio continuare a pregare sono il dono più prezioso che il mio cuore viziato abbia mai ricevuto di sera no non credo che andrò a fondo oggi pomeriggio ho passato un momento di grandissima disperazione e tristezza non per le cose che succedono ma semplicemente per me stessa al pensiero di lasciarlo solo non ero neppure triste per la nostalgia che sentirò di lui ma per quella che lui sentirà di me e solo un paio di giorni fa avevo pensato che non mi sarebbe più potuto succedere niente se avessi ricevuto l'ordine di partenza tanto ormai avevo già vissuto e sofferto anticipatamente ogni cosa oggi invece mi sono resa conto che tutto mi può pesare anche più di prima è stato molto duro sono stata un po' infedele mio Dio ma soltanto un po' ogni tanto questi momenti di disperazione quasi di temporanea estinzione fanno bene una pace ininterrotta sarebbe quasi sovrumana ora so di nuovo che saprò superare ogni momento di disperazione oggi pomeriggio non avrei potuto immaginare che stasera sarei stata asseduta così tranquilla e concentrata a questa scrivania tutto in me si è spento non sapevo più pensare coerentemente era una profonda terribile tristezza e poi le mille piccole preoccupazioni i piedi che ti fanno male dopo tutto è passato so che sarò spesso a pezzi che molte volte ancora stramazzerò distrutta su questa terra di Dio ma con la mia tenacia riuscirò sempre a rialzarmi anche se oggi pomeriggio ho attraversato una fase di indurimento e di ottundimento spirituale e ho visto a che cose mi potrei ridurre dopo essere vissuta per anni in una situazione disperata ora però la mia testa è limpida come non mai domani devo parlare con lui del nostro atteggiamento verso il nostro destino devo proprio mi hanno portato le lettere di Rilke 1907-14 e 1914-21 spero di fare in tempo a leggerle tutte e anche Schubert mi è arrivato è stata a Giopi a portarmi tutto questo e come un altro San Martino si è sfilata il suo golf di pura lana di pecora che ripara tanto bene dalla pioggia e dal freddo così ho già qualcosa da mettermi per il viaggio e chissà che non riesca a far stare tra le mie coperte i due volumi dell'idiota e il vocabolarietto Langenscheid sarei disposta a portarmi un po' meno da mangiare per farci stare quei libri meno coperte non è possibile già così catisco mortalmente il freddo oggi pomeriggio ho trovato lo zaino di Hans in corridoio l'ho provato di nascosto non era del tutto pieno ma anche così era troppo pesante per me del resto sono nelle mani di Dio e lo è anche il mio corpo con tutti i suoi piccoli dolori quando mi ritroverò a terra distrutta e stordita bisognerà che in qualche angolino di me stessa io sappia che mi rialzerò un'altra volta altrimenti sarò perduta vado per una strada e ho una guida per percorrerla ogni volta ritrovo la mia memoria e allora so meglio che mai come devo comportarmi o piuttosto so che lo saprò in ogni circostanza cara voglio continuare a pregare e voglio così bene anche oggi mi chiedo se non sia più facile pregare da lontano e continuare a vivere interiormente insieme con lui che vederlo soffrire da vicino sarà come sarà il mio unico rischio è che il mio cuore si spezzi per l'amore che provo per lui ora voglio ancora leggere un po' quando prego non prego mai per me stessa prego sempre per gli altri oppure dialogo in modo pazzo infantile e serissimo con la parte più profonda di me che per comodità io chiamo Dio non so trovo così infantile che si preghi per ottenere qualcosa per sé bisogna che domani gli chieda se prega mai per se stesso e allora vuol dire che lo farò anch'io mi sembra infantile anche pregare perché un altro stia bene per un altro si può solo pregare che riesca a sopportare le difficoltà della vita e se si prega per qualcuno gli si manda un po' della propria forza per tanti la peggior sofferenza è la totale impreparazione interiore per cui crollano miseramente già prima di aver visto un campo di lavoro secondo loro la nostra catastrofe è completa e definitiva l'inferno di Dante è davvero un'operetta frivola al confronto questo è inferno così aveva detto lui poco tempo fa molto semplicemente e molto oggettivamente certe volte la mia testa si sente urlare mughiare fischiare intorno e i cieli si stendono così bassi e minacciosi sopra di me eppure di tanto in tanto riaffiora quell'umore leggero e come danzante che non m'abbandona veramente mai e che non è un morismo macabro perlomeno non credo col passare del tempo mi sono pian piano preparata a questi momenti ora posso continuare a vivere indisturbata guardando con occhio limpido alle cose in questi ultimi anni mi sono solo occupata di belle lettere alla mia scrivania e queste cose potranno ora compensare un anno e mezzo che è stato come un'intera vita di dolore e di distruzione sono cresciute dentro di me e io con loro sono diventate una perenne riserva che mi aiuterà a vivere senza stentare troppo più tardi voglio ricordarmi una cosa per i miei momenti più difficili voglio tenerla sempre presente Dostoevsky trascorre quattro anni di galera in Siberia avendo la Bibbia come sua unica lettura non gli era permesso di star solo e anche l'igiene lasciava molto a desiderare 16 luglio le nove e mezzo di sera hai altri progetti per me mio Dio posso accettare io rimango comunque pronta domani mi troverò nell'inferno devo essere ben riposata per affrontare quel lavoro solo di oggi avrò da raccontare per un anno intero Jab e Lupit il vecchio amico che diceva non posso certo permettere che Etty sia trascinata nel drente io dicevo a Jab dopo che Leo de Wolf ci aveva di nuovo fatto risparmiare un'attesa di ore più tardi dovrò far molto per gli altri per ripagare tutto ciò non è lecito non è giusto che questo capiti alla nostra società Liesl ha detto con molto spirito sei appunto la vittima del favoritismo in quel corridoio in quella calca in quell'angoscia sono riuscita ancora a leggere alcune lettere di Rilke continuo a vivere a modo mio quell'angoscia mortale su tutti quei volti mio Dio quei volti ora vado a dormire spero di essere come un centro di tranquillità in quel manicomio mi alzerò presto per potermi concentrare mio Dio che progetti hai in serbo per me quest'ordine di partenza non mi era veramente entrato dentro che già dopo un paio d'ore non c'era più come è potuto succedere così in fretta S aveva detto oggi pomeriggio ho letto il tuo diario e dopo averlo letto sapevo che non ti sarebbe successo niente devo fare qualcosa per Lies e per Werner devo proprio non affrettatamente ma con attenzione e concentrazione magari mettergli una lettera in tasca è successo un miracolo e anche questo deve essere accettato e sopportato 19 luglio domenica sera le 10 meno 10 avrai tante cose da dirti mio Dio ma devo andare a dormire sono come narcotizzata e se non vado a letto alle 10 non sarò in grado di reggere un'altra giornata come questa per resto prima dovrò aver trovato una lingua completamente nuova per parlare di tutto ciò che ha toccato il mio cuore in questi ultimi giorni non ho affatto chiuso con noi due mio Dio né con questo mondo voglio vivere ancora a lungo e voglio condividere il destino riservato a tutti noi questi ultimi giorni mio Dio questi ultimi giorni è stanotte esse respira proprio come cammina ho detto sotto le coperte preghiamo insieme no non posso dire tutto quel che c'è stato in questi ultimi giorni e stanotte eppure sono una dei tuoi eletti il mio Dio perché mi concedi di prendere tanta parte a questa vita e perché mi hai dato abbastanza forza per sopportare tutto quanto e perché il mio cuore è anche lui in grado di sopportare sentimenti così grandi e così intensi stanotte alle due quando sono finalmente salita di sopra e mi sono inginocchiata nel mezzo della camera di Dicchi quasi nuda e completamente sciolta ho detto improvvisamente ho certo vissuto delle cose grandi quest'oggi e questa notte mio Dio ti ringrazio perché sono in grado di sopportare tutto e perché tu lasci che così poche cose mi passino accanto senza toccarmi e ora a letto 20 luglio lunedì sera le nove e mezzo senza pietà senza pietà ma tanto più misericordiosi dobbiamo essere noi nel nostro cuore la mia preghiera di stamattina presto non voleva dire nient'altro che questo mio Dio è un periodo troppo duro per persone fragili come me so che seguirà un periodo diverso un periodo di umanesimo vorrei tanto poter trasmettere ai tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa malgrado le mie esperienze quotidiane l'unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d'ora in noi stessi in qualche modo mi sento leggera senza alcuna amarezza e con tanta forza e amore vorrei tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi verranno di certo non sento forse che stanno crescendo in me ogni giorno stamattina ho pregato pressapoco così mi è venuto spontaneo di incinocchiarmi su quella dura stuoia di cocco del bagno e le lacrime mi scorrevano sul volto e credo che quella preghiera mi abbia dato forza per tutto il giorno ora leggo ancora una piccola novella continuerò a vivere a modo mio in tutte le circostanze anche se devo battere a macchina mille lettere al giorno dalle dieci di mattina alle sette di sera e se torno a casa alle otto con i piedi rotti dal camminare e devo ancora cenare riuscirò sempre a trovare un'ora rimarrò completamente fedele a me stessa e non mi rassegnerò né mi piegherò potrei forse reggere a questo lavoro se non attindessi ogni giorno a quella gran pace e chiarezza che sono in me sì mio dio ti sono molto fedele in ogni circostanza e non andrò a fondo e continuo a credere nel senso profondo di questa vita so come devo continuare a vivere e ci sono in me e in lui delle certezze così grandi ti sembrerà incomprensibile ma trovo la vita così bella e mi sento così felice non è meraviglioso non oserei dirlo a nessuno con così tante parole 21 luglio martedì sera le 7 oggi pomeriggio durante quella lunga camminata per tornare a casa quando le preoccupazioni volevano assalirmi un'altra volta e sembrava che non mi dessero più pace mi sono detta ad un tratto se tu affermi di credere in Dio devi anche essere coerente devi abbandonarti completamente e devi aver fiducia e non devi neppure preoccuparti per l'indomani poi mentre facevamo quattro passi lungo il canale e ti ringrazio mio Dio che questo sia ancora possibile mi varrebbe la pena di sgobbare tutto il giorno per stare cinque minuti con lui e se ha detto ah quelle preoccupazioni che abbiamo tutti allora ho ripetuto dobbiamo essere coerenti se abbiamo fiducia dobbiamo averla fino in fondo mi sembra di custodire un prezioso pezzo di vita con tutta la responsabilità che me ne viene mi sento responsabile per quel grande bel sentimento della vita che mi porto dentro devo cercare di mantenerlo intatto in questo tempo per poterlo trasmettere a un tempo migliore è l'unica cosa che conta e ne sono pienamente cosciente ci sono dei momenti in cui penso che dovrei rassegnarmi e soccombere ma ogni volta ritrovo quel senso di responsabilità nei confronti della vita che in me va veramente tenuto vivo ora leggo ancora alcune lettere di Rilke e poi molto presto a letto fino ad oggi la mia vita personale è stata infinitamente buona in mezzo alle petizioni urgenti che ho battuto a macchina in quell'ambiente che sta a metà tra l'inferno e un manicomio ho ancora letto un po' di Rilke e mi ha dato così tanto come se l'avessi letto nel ritiro della mia camera silenziosa ma almeno ho scoperto in me stessa il gesto con cui si accosta il grande al grande non per sparazzarci del suo peso che è grande in tutto ciò che è grande e infinito in tutto ciò che c'è di incomprensibile ma per poterlo ritrovare sempre in quel luogo elevato dove la vita continua a svolgersi indipendentemente dal nostro dolore e dal nostro smarrimento che sono così limitati al confronto volevo ancora dire questo credo di essere arrivata pian piano a quella semplicità che ho sempre desiderato 22 luglio le 8 di mattina mio Dio dammi la forza non solo spirituale ma anche fisica in un momento di debolezza ti voglio confessare sinceramente che se devo lasciare questa casa non so proprio che fare però non voglio preoccuparmi in anticipo e dunque toglimi il peso di queste preoccupazioni se dovessi portare anche quello oltre a tutto il resto dubito che sarai in grado di vivere non ho tanto stanca oggi in tutto il corpo non ho avuto coraggio per affrontare il lavoro di questa giornata non credo molto in questo lavoro se dovessi continuare a lungo credo che diventerei completamente fiacca e rassegnata eppure ti sono grata perché non mi hai permesso di rimanere seduta a questa tranquilla scrivania ma mi hai portato in mezzo al dolore e alle preoccupazioni di questo tempo un esilio con te in una stanza da studio ben protetta non sarebbe proprio tanto difficile ora invece è importante che io ti porti con me intatto attraverso tutte queste vicessitudini e che ti rimanga fedele così come ti ho sempre promesso camminando per le strade ho da riflettere molto sul tuo mondo riflettere non è la parola giusta è piuttosto un cercare di approfondire le cose con un nuovo organo o senso spesso ho la sensazione di vedere questo tempo in prospettiva come una fase della storia di cui conosco già l'inizio e la fine e che posso inquadrare nel tutto sono riconoscente di non provare nessun odio o amarezza ma di avere una così gran calma che non è rassegnazione è anche una sorta di comprensione per questo tempo per quanto strano ciò possa sembrare si deve poter capire questo tempo se si capiscono gli uomini è infatti opera nostra il presente è quello che è e come tale lo si deve poter capire malgrado lo sconcerto che si prova ogni tanto e in qualche modo io seguo la mia vita interiore che diventa sempre più semplice ed è la strecata di benevolenza e di fiducia 23 luglio dove di sera le 9 le mie rose rosse e gialle si sono completamente schiuse mentre ero là in quell'inferno hanno continuato silenziosamente a fiorire molti mi dicono come puoi pensare ancora ai fiori di questi tempi ieri sera dopo quella lunga camminata nella pioggia e con questa vescica sotto il piede sono ancora andata a cercare un carretto che vendesse fiori e così sono arrivata a casa con un gran mazzo di rose ed eccole lì reali quanto tutta la miseria vissuta in un intero giorno nella mia vita c'è posto per tante cose e ho così tanto posto mio Dio oggi mentre passavo per quei corridoi così affollati ho sentito improvvisamente un gran desiderio di inginocchiarmi sul pavimento di pietra in mezzo a tutta quella gente l'unico atto degno di un uomo che ci sia rimasto di questi tempi è quello di inginocchiarci davanti a Dio ogni giorno imparo qualcosa sugli uomini e mi rendo sempre più conto che non si può trovare aiuto negli altri che dobbiamo sempre più contare sulle nostre forze interiori il senso della vita non è soltanto la vita stessa aveva affermato S una volta in cui dicevamo che era importante non sbarrire questo significato spesso mi viene da dire c'è un gran marciume in quel posto ma oggi di un tratto ho pensato se dico sempre quella parola marciume esso finisce per propagarsi nell'atmosfera e non la rende certo migliore la cosa più deprimente è sapere che quasi mai nelle persone con cui lavoro l'orizzonte interiore si amplia per queste esperienze non soffrono neppure in profondità odiano e sono ciecamente ottimisti se si tratta della loro piccola persona e sono ancora ambiziosi per il loro piccolo impiego è una gran porcheria e ci sono dei momenti in cui mi perdo completamente di coraggio e vorrei abbandonare la testa sulla mia macchina da scrivere e dire non posso più andare avanti così ma poi vado avanti e imparo sempre qualcosa sugli uomini ora sono le dieci dovrei andare a dormire ma vorrei tanto leggere qualcosa sto ancora divinamente bene l'isla la piccola coraggiosa l'isla sta su fino alle tre di notte e confezione a borsette per una fabbrica e Werner non si è tolto i vestiti per 60 ore di seguito sono successe molte cose strane nella nostra vita mio dio da forza a tutti noi e soprattutto fa che lui stia di nuovo bene e non portarmelo via oggi di colpo ho paura che lui mi venga improvvisamente a mancare mio dio ho promesso che avrei confidato in te e ho di nuovo scacciato il mio timore e le mie preoccupazioni per lui sabato notte saremo insieme non posso essere abbastanza riconoscente che questo sia ancora possibile oggi è stata di nuovo una giornata molto pesante eppure sono riuscita a sopportarla ora vorrei tanto dire qualcosa di molto bello non so perché qualcosa sulle rose o sul mio amore per lui leggerò due poesie di rilca e poi a dormire sabato mi prendo un giorno libero lo strano è che non ho problemi fisici niente mal di testa mal di stomaco eccetera a volte c'è qualche piccola visaglia in questo senso ma allora mi ritiro nella mia pace interiore fin tanto che il sangue non mi scorre di nuovo regolarmente nelle vene i miei malanni dovevano avere una radice psicologica non è neppure una calma forzata come molti credono o un inizio di affaticamento se le stesse cose mi fossero capitate un anno fa sarei crollata dopo tre giorni o mi sarei suicidata o avrei preso degli atteggiamenti forzatamente vivaci ora invece c'è un tale equilibrio e pazienza e pace e senso di prospettiva e anche una qualche intuizione sui rapporti tra le cose non so cosa sia ma malgrado tutto sto molto bene mio dio sono troppo stanca per leggere adesso domattina mi alzerò presto e me ne starò un pochino a questa scrivania oggi mentre dicevamo che avremmo dovuto rimanere insieme ho di nuovo pensato ti vedo già adesso così malandato ti voglio tanto bene ma la cosa peggiore sarà vederti soffrire e stentare accanto a me preferirai pregare per te da lontano accetterò tutto come verrà mio dio non credo molto in un'aiuto dall'esterno né ci conto su inglesi o americani o una rivoluzione o dio sa cosa non ci si può attaccare a queste cose quel che viene è bene buonanotte 24 luglio venerdì mattina le sette e mezzo voglio studiare intensamente per un'ora prima che cominci questa giornata ne sento un gran bisogno e ho anche la concentrazione necessaria stamattina presto quando le preoccupazioni mi hanno assalita un'altra volta mi sono alzata mio dio allontanale da me non so che farò se gli toccherà di partire per un campo non so che strade percorrerò per lui una cosa è certa dobbiamo accettare tutto dentro di noi dobbiamo essere pronti a tutto e sapere che le cose ultime non possono esserci sottratte allora con quella pace interiore sapremo ben compiere i passi necessari non dobbiamo romperci la testa e avere timore ma pensare con calma e chiarezza nel momento in cui dovrò decidere saprò che cosa fare ecco le mie rose sono sempre lì porterò a quella mezza di burro sono molto stanca sono in grado di sopportare questo tempo pesante lo capisco persino un poco se sopravviverò a questo tempo e se allora dirò la vita è bella e ricca di significato bisognerà pur credermi se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita è stato inutile stasera usciamo insieme e ceniamo al caffè de paris sembra quasi grottesco l'isle diceva è certo una grazia che ci sia concesso di sopportare tutto questo l'isle è una grandonna è veramente una grandonna più tardi mi piacerebbe descriverla sì ce la caveremo 25 luglio sabato mattina le nove ho cominciato la giornata in modo stupido parlando della situazione come se esistessero parole adatte questo dono prezioso questo giorno libero che ho devo impiegarlo bene e non mettermi a parlare e a turbare le persone intorno a me stamattina voglio nutrire un pochino il mio spirito recalcitrante ho sempre più bisogno che mi digerisca le cose quest'ultima settimana è stata proprio una grande conferma di me stessa in quel manicomio io ascolto la mia voce interiore e tiro dritto per la mia strada circa 100 persone discutono in un piccolo ambiente le macchine da scrivere ticchettano in quel luogo io mi do le mie norme di comportamento e vado e vengo a parer mio in mezzo a quel caos e quella miseria vivo talmente con un ritmo mio che ogni istante mentre batto a macchina quelle lettere posso rituffarmi nelle cose che trovo importanti non è un isolarmi dal dolore che ho intorno non è neppure una forma di apatia sopporto e custodisco tutto dentro di me sopporto e custodisco tutto dentro di me ma tiro dritto per la mia strada ieri è stato un giorno pazzo un giorno in cui il mio umorismo quasi diabolico è tornato a galla in cui improvvisamente mi sono sentita di nuovo come un bambino birichino Dio fa solo che io non finisca nello stesso campo con i miei colleghi più tardi scriverò cento satire su di loro e poi in questa vita restano tante possibilità curiose ieri sera abbiamo mangiato un pesce passera fritto una cosa indimenticabile sia per il prezzo che per la qualità e oggi pomeriggio alle 5 mi trasferisco a casa sua e ci rimango fino a domattina leggeremo e scriveremo un po' e staremo insieme per una sera una notte e una colazione sì una cosa del genere è ancora possibile da ieri mi sento di nuovo così forte e lieta e così senza timore neppure per lui libera da ogni preoccupazione mi stanno venendo dei gran muscoli alle gambe a forza di camminare forse finirò per attraversare davvero la russia una volta o l'altra e se dice è il momento di mettere in pratica il detto ama i tuoi nemici e se lo diciamo noi bisogna pur credere che sia possibile voglio ancora copiare una cosa di rilke che ieri mi aveva colpita riguarda anche me come tante cose sue in me sparsi fra i miei libri una rosa gialla si è schiusa al massimo e mi fissa grande e spalancata queste due ore e mezzo che ho davanti mi sembrano quasi un anno di isolamento sono così riconoscente per queste poche ore e anche per la concentrazione che mi sta crescendo dentro 27 luglio 1942 bisogna essere sempre disposti a rivedere la propria vita a ricominciare tutto da capo in un luogo diverso sono viziata e indisciplinata forse voglio ancora godermi troppo la vita in tutte le esperienze che faccio nello stato d'animo in cui mi trovo da ieri sera non posso che dire a me stessa in fondo sei molto ingrata ci sono state tante cose buone in questo fine settimana tante cose che potrebbero nutrirmi per settimane anche se non dovessero toccarmi altro che disgrazie ho uno spirito ben poco collegiale verso quelle signorine d'attilografe trovo che il nostro lavoro è stupido e assurdo e cerco di schivarlo il più possibile sono così scontenta e triste e irrequieta stamattina presto come non lo ero da tempo e non si tratta in questo caso del grande dolore ma di piccole scontentezze personali e del mio disadattamento e sono tanto triste che tutte le cose buone e preziose di questo fine settimana siano morte e sepolte per col tenevo il libro di rilke sulle ginocchia e leggevo leggevo per davvero con la massima concentrazione ci ho trovato delle cose che avrebbero potuto bastarmi per parecchi giorni e le ho subito copiate più tardi nel piccolo spiazzo dietro il nostro ufficio ho trovato un bidone delle spazzature al sole mi sono seduta là e ho letto rilke e sabato sera l'anello della nostra relazione si è chiuso così semplicemente e così naturalmente come se di notte non mi avesse mai ricoperta altro che una coperta a fiori e poi ci sono sempre i canali lungo cui cammino e che imprimo sempre più in me stessa in modo da averli sempre con me e può una semplice ora di lavoro in più sia pure di lavoro stupido insopportabile privarti di tutto ciò e annullare ogni cosa le mie paure sono più profonde e credo che potrai anche rintracciarle ma ora non ho tempo tra poco camminerò di nuovo lungo tutti quei canali cercherò di tacere di dare ascolto a ciò che è realmente capitato dentro di me dovrò trasformarmi ancora molto oggi ancora una cosa credo proprio di avere come un regolatore interno un malumore mi avverte ogni volta che ho preso la strada sbagliata e se continuo a essere onesta e aperta se conservo la mia volontà di diventare quella che dovrò essere e di fare ciò che la mia coscienza mi prescrive di fare di questi tempi allora andrà tutto a posto credo che la mia vita pretenda molto da me e che mi riservi anche molto ma devo sapere ascoltare la mia voce interiore devo rimanere onesta e aperta e non sfuggire a quel sentimento 28 luglio martedì mattina le sette e mezzo lascerò che la catena di questa giornata si svolga anello dopo anello io stessa non ci metterò mano ma avrò fiducia lascerò a te le tue decisioni mio dio stamattina ho trovato uno stampato nella cassetta per le lettere e in quella busta ho intravisto un foglio bianco ero molto tranquilla ho pensato il mio ordine di partenza peccato ora non ho neanche più il tempo di preparare il mio zaino dopo un po' mi sono resa conto che le mie ginocchia tremavano era un modulo per il personale del consiglio ebraico per ora non ho neanche un numero di identificazione farò quei pochi passi che ritengo di dover fare magari dovrò aspettare a lungo mi porterò Jung e Rilke spero di poter lavorare molto oggi e se in futuro non sarò più in grado di ricordare tante immagini mi rimarranno sempre questi ultimi due anni e risplenderanno all'orizzonte della mia memoria come un bellissimo paese che una volta era la mia patria e che è sempre ancora mio la giornata di ieri mi ha dato tanto coraggio ho capito che Dio rinnova sempre le mie forze mille fili mi legano ancora qui dovrò strapparli ad uno ad uno e caricare tutto a bordo così non lascerò indietro niente quando dovrò partire porterò tutto dentro di me ci sono dei momenti in cui mi sento come un uccellino nascosto in una grande mano protettiva ieri il mio cuore era come un uccello preso in trappola ora è di nuovo libero e vola indisturbato dappertutto oggi c'è il sole preparo i miei panini e mi metto in cammino più tardi sarò il cronista delle nostre vicessitudini le comporrò in una lingua nuova e le conserverò in me stessa se non avrò la possibilità di scriverle diventerò apatica e rivivrò cadrò a terra e mi rialzerò e forse molto più tardi mi capiterà di avere intorno uno spazio tranquillo che sarà tutto mio e allora ci rimarrò anche un anno se sarà necessario fin tanto che la vita tornerà a zampillare e mi farranno le parole giuste per testimoniare ciò che dovrà essere testimoniato le 4 di pomeriggio è diventata una giornata molto diversa da come me l'ero immaginata le 8 e mezzo di sera a parte l'aspetto storico tanto per dirla freddamente è stato un giorno di bizzarria di dimenticanza del dovere e di sole ho camminato lungo i canali come se avessi marinato la scuola e sono stata accoccolata in un angolo della sua camera di fronte al suo letto ora ci sono di nuovo 5 rose tè nel vasetto di stagno c'è differenza fra temprato e indurito spesso non se ne tiene conto oggi credo di diventare ogni giorno più temprata a parte quell'indisciplinata vescica ma indurita non lo sarò mai tante cose cominciano a chiarirsi per esempio che non vorrei diventare sua moglie voglio darne atto molto spassionatamente e obiettivamente la differenza d'età è troppo grande in pochi anni ho già visto trasformarsi un uomo ora sta cambiando anche lui è un uomo vecchio a cui voglio bene infinitamente bene e con cui mi sentirò sempre legata ma sposarlo come direbbe un bravo borghese francamente non lo vorrai e proprio il fatto di dover percorrere la mia strada da sola mi fa sentire così forte nutrita di ora in ora dell'amore che provo per lui e per gli altri infinite coppie si formano all'ultimo momento per disperazione preferisco essere sola e per tutti naturalmente non si potrà mai più riparare al fatto che alcuni ebrei collaborino a far deportare tutti gli altri più tardi la storia dovrà pronunciarsi su questo punto rimane sempre il fatto che la vita è così interessante in ogni circostanza provo un bisogno quasi diabolico di osservare ciò che capita di vedere e sentire ed esserci anch'io di rubare alla vita tutti i suoi segreti di osservare freddamente le espressioni degli uomini nelle loro ultime convulsioni e poi mi ritrovo improvvisamente di fronte a me stessa e posso imparare molto dallo spettacolo offerto dalla mia anima di questi tempi e poi più tardi dovrò trovare le parole adatte per descrivere tutto quanto leggerò ancora i miei vecchi diari non credo più che li straccerò forse più tardi mi aiuteranno a riprendere contatto con me stessa abbiamo avuto tempo a sufficienza per prepararsi agli avvenimenti catastrofici di oggi due anni interi e proprio l'ultimo è stato l'anno decisivo l'anno più bello della mia vita sono certa che si sarà continuità tra questa vita e quella che ora verrà perché è un'altra vita che si svolge interiormente e lo scenario esteriore ha sempre meno importanza temprato distinguerlo da indurito 29 luglio mercoledì mattina le 8 domenico mattina ero accoccolata per terra in un angolo della sua stanza avevo addosso la mia vestaglia a righe vivaci e rammendavo delle calze a volte l'acqua è così limpida che si distingue ogni cosa sul fondo potresti dirlo in un modo ancora più stomachevole se la domanda è lecita volevo dire questo era proprio come se la vita mi apparisse altrettanto chiara e trasparente nei suoi mille dettagli nelle sue svolte e nei suoi movimenti come se avessi davanti un oceano e ne potessi distinguere il fondo guardando attraverso l'acqua trasparente come cristallo chissà se riuscirò a scrivere per davvero una volta o l'altra non sembra che lo creda molto o mi sbaglio forse passerà molto tempo prima che io sia capace di descrivere un momento simile un momento alto nella mia vita sei seduta per terra in un angolino della stanza dell'uomo amato rammendi delle calze e allo stesso tempo sei seduta sulla riva di un mare immenso e questo mare è così limpido e trasparente che puoi distinguerne il fondo a un certo momento tu senti la vita così ed è una cosa indimenticabile ma ora credo proprio che mi stia venendo l'influenza o qualcosa del genere non deve succedere è proibito per principio anche le mie gambette poco allenate sono molto stanche dopo le lunghe marce di ieri oggi devo procurarmi i documenti di identità per Werner mi pianterò in quella stanzetta al piano di sopra con la stessa cortese fermezza che ho mostrato ieri per me stessa è anche ora di andare dal dentista ci sarà molto lavoro oggi ora vado non si sa mai cosa ci posso portare un giorno del resto non importa non si deve dipendere da queste cose neppure di questi tempi esagero forse e se domani arrivasse il foglio bianco con l'ordine di partire per me pare che le deportazioni da Amsterdam siano sospese ora si comincia a Rotterdam assisti mio dio assisti gli ebrai di Rotterdam 15 settembre 1942 martedì mattina alle 10 e mezzo forse è stato tutto un po' troppo mio dio sono costretta a ricordarmi che un essere umano ha anche un corpo avevo creduto che il mio spirito e il mio cuore potessero sopportare tutto da soli ma il mio corpo si fa sentire e dice alt ora mi rendo conto di quanto tu mi abbia dato da portare mio dio tante cose belle e tante cose difficili e quelle difficili si sono trasformate in belle ogni volta che ero disposta a sopportarle e certe volte è stato più difficile sopportare le cose belle e grandi che quelle dolorose perché ne ero come sopraffatta pensare che un cuore umano possa provare così tanto mio dio possa soffrire e amare a tal punto ti sono così riconoscente perché hai scelto proprio il mio cuore di questi tempi per fargli sopportare tutto quanto forse è un bene che mi sia ammalata non ho ancora accettato questo fatto e mi sento un po' intontita e smarrita e abbandonata ma sto anche cercando in tutti i modi di mettere insieme un po' di pazienza tanto bene che per una situazione così nuova ci vorrà una pazienza del tutto nuova riprenderò la vecchia collaudata abitudine e di tanto in tanto discorrerò un pochino con me stessa su queste righine blu parlerò con te mio dio posso? col passare delle persone non mi resta altro che il desiderio di parlare con te amo così tanto gli altri perché amo in ognuno un pezzetto di te mio dio ti cerco in tutti gli uomini e spesso trovo in loro qualcosa di te e cerco di disseppellirti dal loro cuore mio dio ma ora avrò bisogno di molta pazienza e riflessione e sarà molto difficile la parte migliore più nobile del mio amico dell'uomo che ti era svegliato in me è già presso di te è solo rimasto un vecchio consunto infantile in quelle due camerette là dove ho vissuto le gioie più grandi e più profonde della mia vita ho sostato accanto al suo letto e mi sono trovata davanti ai tuoi massimi enigmi mio dio dammi ancora una vita intera per poter capire tutto quanto mentre scrivo queste cose sento che è un bene che io debba rimanere qui d'un tratto mi rendo conto di aver vissuto così intensamente in due mesi ho consumato le riserve di una vita intera forse ho esagerato la forza di vivere interiormente non ho esagerato se ora ascolto il tuo avvertimento di pomeriggio le tre ecco l'albero è sempre lì l'albero che potrebbe scrivere la mia biografia però non è più lo stesso albero o forse sono io che non sono più la stessa persona è a un metro dal mio letto e a un metro dal mio letto c'è la sua libreria basta che allunghi il braccio sinistro e ho in mano Dostoevsky o Shakespeare o Kierkegaard ma non lo farò ho un gran capogiro mi metti davanti ai tuoi massimi enigmi mio dio ti sono riconoscente per questo ho anche la forza di affrontarli di sapere che non c'è risposta bisogna saper sopportare i tuoi misteri dovrai proprio dormire per giorni e giorni dovrai lasciare andare tutto quanto il medico diceva ieri che ho una vita interiore troppo intensa che vivo troppo poco sulla terra anzi che vivo quasi ai confini col cielo che il mio fisico non può reggere a tutto ciò forse ha ragione quest'ultimo anno e mezzo mio dio e questi ultimi due mesi che da soli sono stati come una vita intera non ho forse avuto delle ore in cui ho detto se dovessi morire tra poco quest'ora mi è valsa una vita ho avuto spesso delle ore simili e perché poi non dovrai vivere in cielo il cielo esiste perché non ci si potrebbe vivere o piuttosto il cielo vive dentro di me devo pensare a un'espressione di una poesia di Rilke spazio interno del mondo ora devo dormire e lasciare andare tutto mi gira tanto la testa non c'è niente che funzioni nel mio corpo vorrei guarire presto ma dalle tue mani accetto tutto come viene mio dio so che è sempre un bene ho imparato che un peso può essere convertito in bene se lo si sa sopportare vedi ho ancora sempre lo stesso problema non so decidermi a smettere di scrivere all'ultimo momento vorrei ancora trovare la formula liberatoria la parola che esprima il mio ricco sovrabbondante sentimento della vita perché non mi hai fatta poeta mio dio ma sì mi hai fatta poeta aspetterò pazientemente che maturino le parole della mia doverosa testimonianza cioè che vivere nel tuo mondo è una cosa bella e buona malgrado quel che ci facciamo reciprocamente noi uomini il cuore pensante della baracca martedì notte luna una volta ho scritto che volevo leggere la tua vita fino all'ultima pagina provo una gioia così singolare per tutto quanto per come è stato e perché è stato certamente un bene altrimenti non potrai sentirmi così forte lieta e sicura ecco ora riposi nelle tue due camerette tu caro grande buono una volta ti ho scritto il mio cuore volerà sempre e da ogni luogo di questa terra verso di te come un uccello e sempre ti troverà e un'altra volta ho scritto nel diario di Tide sei diventato talmente parte del cielo che si incurva sopra di me che mi basta alzare gli occhi per esserti accanto e se anche mi trovassi in una cella sotterranea quel pezzo di cielo si stenderebbe dentro di me e il mio cuore volerebbe a lui come un uccello ed è per questo che tutto è così semplice sai straordinariamente semplice e bello e ricco di significato avrei ancora mille cose da chiederti e da imparare da te ora mi toccherà far tutto da sola sai mi sento così forte e sono certa che me la caverò sei tu che hai liberato le mie forze tu che mi hai insegnato a pronunciare con naturalezza il nome di Dio sei stato l'intermediario tra Dio e me e ora che te ne sei andato la mia strada porta direttamente a Dio e sento che è un bene ora sarò io intermediaria per tutti quelli che potrò raggiungere sono seduta nella mia scrivania vicino alla mia piccola lampada ti ho scritto così spesso da qui e anche ho scritto così spesso di te devo confessarti una cosa strana non ho mai visto una persona morta in questo mondo in cui migliaia di uomini muoiono ogni giorno io non ho mai visto un cadavere ti dedice è solo un piccolo soprabito lo so eppure mi sembra altamente significativo che proprio tu sia il primo morto che vedrò oggi si pastizia e si scherza con le cose grandi con le cose ultime di questa vita molti si rendono malati o continuano ad esserlo per paura di essere portati via molti addirittura si ammazzano sono riconoscente che la tua vita sia finita naturalmente che anche a te sia toccato un po' di dolore da portare ti te dice questo dolore gli è stato assegnato da dio e così gli è stato risparmiato quello che gli avrebbero inflitto gli uomini tu caro uomo viziato probabilmente non saresti stato in grado di sopportarlo io si che ne sono capace e in questo modo continuerò la tua vita e ti trasmetterò ad altri quando si è arrivati al punto di sentire la vita come una cosa bella e ricca di significato anche di questi tempi proprio di questi tempi allora è come se tutto ciò che avviene debba avvenire così e non altrimenti essere di nuovo seduta alla mia scrivania e domani non posso tornare a Westerbork e così sarò ancora una volta con tutti gli amici quando sotterreremo insieme i tuoi poveri resti mortali sai com'è queste cose devono pur succedere è una consuetudine esenica degli uomini ma saremo tutti quanti insieme e il tuo spirito sarà in mezzo a noi e ti decanterà per te se sapessi quanto sono felice di poter esserci anch'io sono ritornata proprio in tempo ho baciato ancora la tua bocca vizzita e morente tu hai preso ancora una volta la mia mano e l'hai portata alle tue labbra una volta hai detto quando sono entrata in camera tua la ragazza viaggiatrice un'altra volta hai detto ho dei sogni così strani ho sognato di essere battezzato da Cristo ho sossato con Tide accanto al tuo letto per un momento abbiamo creduto che tu stessi morendo e che i tuoi occhi si spegnessero Tide mi ha abbracciata io ho baciato la sua cara pura bocca e lei ha detto molto piano ci siamo trovate eravamo accanto al tuo letto come saresti stato felice se ci avessi vista in quel momento proprio noi due magari ci hai vista anche se sembrava che in quell'istante tu stessi morendo sono pure così riconoscente che le tue ultime parole siano state Ertha io spero quanto hai dovuto lottare per rimanere fedele ma la tua fedeltà ha vinto su tutto il resto proprio io te l'ho resa così difficile a volte lo so ma è da te che ho anche imparato cosa siano la fedeltà la lotta e la debolezza in te c'erano tutto il male e tutto il bene che possono esserci in un uomo i demoli le passioni la bontà e l'amore per gli uomini tutto era in te che sapevi tanto capire che sapevi cercare e trovare Dio hai cercato Dio dappertutto in ogni cuore umano che ti sia aperto quanti ce ne sono stati e dappertutto hai trovato un pezzetto di lui non hai mai rinunciato a questo potevi essere così impaziente nelle cose piccole ma in quelle grandi eri così paziente così infinitamente paziente è stata proprio Tide a venire a dirmelo stasera Tide con il suo viso luminoso e caro ci siamo sedute un momento in cucina il mio compagno d'armi a Westerbork e più tardi c'era Pahan nell'altra stanza e Tide ha messo le mani sul tuo pianoforte e ha cantato un breve canto in alto in alto mio cuore con gioia ora sono le due di notte e la casa è così silenziosa devo raccontarti una cosa strana credo che capirai alla parete è appeso un tuo ritratto vorrei farlo a pezzi e gettarlo via e così facendo avrai la sensazione di esserti più vicina tu e io non ci siamo mai chiamati per nome per molto tempo ci siamo dati del lei e solo più tardi molto più tardi mi hai dato del tu e il tuo tu è stato per me una delle parole più carezzevoli che mi siano mai state dette da un uomo e sai bene che ero abituato a sentirne tante firmavi sempre le tue lettere con un punto interrogativo e così facevo anch'io cominciavi sempre le tue lettere con il tuo caratteristico stia un po' a sentire la tua ultima lettera cominciava con carissima ma per me sei senza nome così senza nome come lo è il cielo e vorrai metter via tutti i tuoi ritratti e non guardarli mai più è sempre ancora troppa troppa materia voglio continuare a portarli in me senza nome e ti trasmetterò ad altri in un semplice tenero gesto che una volta non conoscevo mercoledì mattina le nove aspettando dal dottore spesso a Westerbork quando andavo in giro con questi chiassosi litigiosi e fin troppo attivi membri del consiglio ebraico mi veniva da pensare su lasciatemi essere un pezzetto della vostra anima lasciatemi essere la baracca in cui si raccoglie la parte migliore che esiste sicuramente in ognuno di voi io non ho bisogno di far così tanto io voglio solo esserci lasciatemi essere l'anima di questo corpo e prima o poi trovavo in ognuno di loro un gesto o uno sguardo più nobile di cui credo fossero appena coscienti e me ne sentivo i custode 16 settembre mercoledì le 3 di pomeriggio tornerò ancora una volta in quella strada tre strade un canale un ponticello mi separavano da lui è morto alle 7 un quarto di ieri proprio il giorno in cui scadeva il mio permesso ora vado ancora una volta da lui poco fa ero in bagno ho pensato adesso vado dal mio primo morto e la cosa in fondo non mi diceva nulla ho pensato devo fare qualcosa di solenne di straordinario e mi sono inginocchiata sulla stuoia di cocco del piccolo bagno ma poi ho pensato è convenzionale quanto siamo pieni di convenzioni di preconcetti sui comportamenti da tenere in determinate situazioni a volte inespettatamente qualcuno si inginocchia in un angolino di me stessa quando cammino per la strada o sto parlando con una persona e quel qualcuno che si inginocchia sono io ora su quel letto così familiare è distesa una salma quella coperta di creton e in fondo non ho nessun bisogno di tornare là tutto si compie da qualche parte in me stessa tutto in me ci sono vasti altipiani senza tempo né confini tutto si compie lì ora percorrerò di nuovo quelle poche strade quante volte le ho percorse anche con lui sempre immersi in dialoghi interessanti e fruttuosi e quante volte le percorrerò ancora ovunque mi troverò su quegli altipiani interiori della mia vita più profonda dovrei forse fare una faccia triste o solenne sono forse triste vorrei congiungere le mani e dire ragazzi sono così felice e riconoscente e trovo la vita così bella e ricca di significato proprio così e lo dico mentre sto accanto al letto del mio amico morto prematuramente e mentre io stessa posso essere deportata a ogni momento in una terra sconosciuta mio dio ti sono così riconoscente per tutto quanto continuerò a vivere con quella parte dell'uomo morto che vive in eterno e risveglierò alla vita ciò che è morto nei vivi e così non ci sarà nient'altro che vita un'unica grande vita mio dio Tide canterà ancora una volta per lui penso con gioia al momento in cui ascolterò la testimonianza luminosa della sua voce Job compagno d'armi sono in viaggio con te o piuttosto ti parlo di tanto in tanto e sai molto nei miei pensieri e sono così riconoscente di poterti trasmettere un poco di ciò che non posso fare a meno di trasmettere è così significativo che tu sia entrato nella mia vita non avrebbe potuto essere altrimenti ciao 17 settembre giovedì mattina alle 8 il sentimento che ho della vita è così intenso e grande sereno e riconoscente che non voglio neppur provare a esprimerlo in una parola sola in mezzo a una felicità così perfetta e piena mio dio probabilmente la definizione migliore sarebbe di nuovo la sua riposare in se stessi e forse sarebbe anche una definizione più completa di come io sento la vita io riposo in me stessa e questo me stessa la parte più profonda e ricca di me in cui riposo io la chiamo dio nel diario di Tide ho trovato spesso questa frase padre prendilo dolcemente fra le tue braccia è così che mi sento sempre e ininterrottamente come se stessi fra le tue braccia mio dio così protetta e sicura e impregnata ad eternità come se ogni mio respiro fosse eterno e la più piccola azione o parola avesse un vasto sfondo e un profondo significato esse mi aveva scritto in una delle sue prime lettere e se posso trasmettere qualcosa di questa forza sovrabbondante sono contento mio dio è un bene che tu abbia fatto fermare il mio corpo devo guarire completamente per fare ciò che devo ma forse anche questa è un'idea convenzionale lo spirito non dovrebbe forse continuare a lavorare e a essere creativo anche quando il corpo è malato e amare e hinein hörchen se stessi gli altri il contesto di questa vita e te hinein hörchen vorrei trovare una buona traduzione olandese di questa parola in fondo la mia vita è un ininterrotto ascoltar dentro me stessa gli altri dio e quando dico che ascolto dentro in realtà è dio che ascolta dentro di me la parte più essenziale e profonda di me che ascolta la parte più essenziale e profonda dell'altro dio a dio quanto sono grandi le necessità delle tue creature terrestri mio dio ti ringrazio perché lasci che tante persone vengono a me con le loro pene parlano tranquille e senza sospetti ed un tratto viene fuori tutta la loro pena e si scopre una povera creatura disperata che non sa come vivere e a quel punto cominciano i miei problemi non basta predicarti mio dio non basta di seppellirti dai loro cuori bisogna aprirti la via mio dio e per far questo bisogna essere un gran conoscitore dell'animo umano un esperto psicologo rapporti con padre e madre ricordi giovanili sogni sensi di colpa complessi di inferiorità insomma tutto quanto in ogni persona che viene da me io mi metto a esplorare con cautela i miei strumenti per aprirti la strada negli altri sono ancora ben limitati ma esistono già in qualche misura li migliorerò pian piano e con molta pazienza e ti ringrazio per questo dono di poter leggere negli altri a volte le persone sono per me come case con la porta aperta io entro e giro per corridoi e stanze ogni casa è arredata in modo un po' diverso ma in fondo è uguale alle altre di ognuna si dovrebbe fare una dimora consacrata a te mio dio ti prometto ti prometto che cercherò sempre di trovarti una casa e un ricovero in fondo è una buffa immagine io mi metto in cammino e cerco un tetto per te ti sono così tante case vuote te le offro come all'ospite più importante perdonami questa metafora non troppo sottile di sera le dieci e mezzo mio dio dammi pace e fammi superare ogni cosa c'è talmente tanto devo mettermi una buona volta a scrivere ma prima devo cominciare a vivere in modo disciplinato ora si spegne la luce nella baracca degli uomini ma se non hanno neppure la luce dove sei stato stasera piccolo compagno d'armi certe volte mi prende una gran tristezza ora non posso più uscire dalla mia baracca e trovarmi davanti alla grande brughiera passeggio un pochino per il campo e non passa molto tempo che da una parte o dall'altra spunta fuori il mio compagno d'armi con la sua faccia abbronzata e quella piega dritta e indagatrice tra gli occhi quando comincia a imbrunire sento da lontano le prime note della quinta di Beethoven vorrei poter dominare tutto questi due mesi tra il filo spinato che sono stati i mesi più intensi e più ricchi della mia vita è una tale conferma dei valori più importanti e più alti per me mi sono così affezionata a quel Westerbork e ne ho nostalgia e là quando mi addormentavo nella mia stretta cuccetta avevo nostalgia di quella scrivania a cui sono seduta qui ti sono così riconoscente mio Dio perché in ogni luogo mi rendi la vita così bella che ne ho nostalgia quando ne sono lontana però questo mi rende anche la vita pesante e difficile ecco ora sono le dieci e mezzo passate nella baracca si spegne la luce devo andare a dormire la paziente deve fare vita tranquilla così è scritto in quel certificato piuttosto impressionante devo anche mangiare riso e miele e altre delizie simili mi viene in mente quella donna dai capelli bianchi come la neve e dal nobile viso ovale che aveva un pacchetto di pane tostato nel suo tascapane era l'unica provvista che si portava nel suo viaggio in Polonia doveva seguire una dieta molto stretta era infinitamente cara e calma aveva una statura alta da ragazza un pomeriggio era seduta al sole con lei davanti alle baracche di transito le avevo dato un libro della biblioteca di Speer di Libe di Johanna Miller e le aveva fatto molto piacere più tardi aveva detto ad alcune ragazzine che si erano unite a noi ricordatevi bene che domattina presto quando partiremo ognuna di noi potrà piangere soltanto tre volte e una ragazzina aveva risposto non ho ancora ricevuto il mio tagliando per piangere sono circa le undici com'è trascorsa in fretta questa giornata sarà meglio che vada a dormire domani Tide si metterà il suo tagliar griso chiaro e canterà in alto il mio cuore con gioia nella sala del cimitero per la prima volta siederò in una vettura con le tendine nere avrei ancora tanto da scrivere per giorni e giorni concedimi pazienza mio Dio concedimi una pazienza del tutto nuova questa scrivania mi è ridiventata familiare e l'albero dietro la mia finestra non sembra che giri più avrà i tuoi progetti a permettermi di stare di nuovo seduta qui farò del mio meglio e ora per davvero buonanotte Giopi ho tanta paura che tu abbia vita difficile e vorrei tanto aiutarti là dove sei e ti aiuterò ciao domenica sera ti ringrazio ti ringrazio perché mi insegna a leggere sempre meglio so che prima o poi dovrò scegliere e sarà molto difficile se voglio veramente scrivere se voglio provare a registrare tutto ciò che in me chiede sempre più di essere messo in parole allora dovrò aspettarmi dagli altri ben più di quanto non faccia ora dovrò chiudere finalmente la mia porta e mettermi a lottare contro una materia non facilmente controllabile e sarà una battaglia dura e felice al tempo stesso dovrò ritirarmi da una piccola società per rivolgermi a una società più grande forse non si tratta neppure di questo forse è il puro estinto poetico il desiderio di materializzare qualcosa nella propria ricchezza d'immagine è un fatto talmente elementare che non c'è neppure bisogno di spiegarlo a volte mi domando se io non viva troppo istintivamente io vivo godo e consumo la vita al punto che non ne rimane più niente forse è necessario che un qualche resto rimanga perché si produca la tensione che induce a creare io parlo molto con le persone soprattutto ultimamente parlo sempre ancora in modo più espressivo e lucido di quanto non sappia scrivere a volte penso che non dovrei sprecare le mie energie a parlare che dovrei tirarmi indietro e proseguire una ricerca silenziosa sulla carta una parte di me lo vorrebbe un'altra non riesce ancora a decidersi e si disperde in parole con gli altri Max hai visto quella donna sordomuta all'ottavo mese di gravidanza col marito epilettico Max quante donne russe al loro nono mese sono cacciate in questo momento dalle loro case e afferrano ancora il fucile il mio cuore è una chiusa che ogni volta arresta un flusso ininterrotto di dolore giopi nella brughiera seduto sotto il gran cielo stellato mentre parlavamo della nostalgia io non ho nostalgia io mi sento a casa ho imparato tanto da quel discorso si è a casa si è a casa sotto il cielo si è a casa dovunque su questa terra se si porta tutto in noi stessi spesso mi sono sentita e ancora mi sento come una nave che ha preso a bordo un carico prezioso le funi vengono recise e ora la nave va libera di navigare dappertutto dobbiamo essere la nostra propria patria ci ho messo due sere per potergli confidare questa cosa così intima la cosa più intima che ci sia e volevo tanto dirgliela quasi per fargli un regalo e allora allora mi sono inginocchiata in quella gran brughiera e gli ho detto di Dio il dottore ha naturalmente torto una volta una cosa simile avrebbe potuto rendermi insicura ora ho imparato a guardare attraverso le persone e le parole con la mia intelligenza lei vive troppo con lo spirito lei non si lascia andare abbastanza lei non vive le cose elementari della vita avrei quasi voluto chiedergli dovrei forse curicarmi con lei su questo divano non sarebbe sembrata un'osservazione molto sottile ma il suo monologo andava in quella direzione e ancora lei non vive abbastanza nella realtà più tardi avevo pensato è un ragionamento sbagliato la realtà appunto la realtà è che in molti luoghi di questa terra ci sono uomini e donne che non possono stare insieme i uomini sono al fronte i campi le prigioni le separazioni questa è la realtà che si deve affrontare e ci si dovrebbe allora rinchiudere nei desideri inutili o commettere il peccato di Onan perché non si potrebbe trasformare quell'amore che non si può scaricare sull'uno o sull'altro sesso in una forza che torni a profitto della comunità degli uomini e che forse si potrebbe anche chiamare amore e se ci si adopera in questo senso non si poggia proprio sul terreno della realtà una realtà meno tangibile di un uomo e una donna in un letto ma non esistono forse altri tipi di realtà c'è qualcosa di infantile quasi di sotto sviluppato in un ometto attempato che di questi tempi mio dio proprio di questi tempi si mette a parlare di lasciarsi andare mi piacerebbe tanto sapere a che cosa pensasse veramente dopo la guerra due correnti attraverseranno il mondo una corrente di umanesimo e un'altra di odio allora ho saputo di nuovo che avrei preso posizione contro quell'odio 22 settembre bisogna vivere con se stessi come con un popolo intero allora si conoscono tutte le qualità degli uomini buone e cattive e se vogliamo perdonare agli altri dobbiamo prima perdonare a noi stessi i nostri difetti è forse la cosa più difficile come constato così spesso negli altri e un tempo anche in me ora non più sapersi perdonare per i propri difetti e per i propri errori il che significa anzitutto saperli generosamente accettare vorrei proprio vivere come i gigli del campo se sapessimo capire il tempo presente lo impareremmo da lui a vivere come un giglio del campo una volta ho scritto in uno dei miei diari vorrei poter tastare i contorni di questo tempo con la punta delle dita ero seduta alla mia scrivania allora e non sapevo bene come accostarmi alla vita perché non l'avevo ancora toccata dentro di me ho imparato a farlo mentre ero seduta qui poi ad un tratto sono stata scaraventata in un centro di dolore umano su uno dei tanti piccoli fronti di cui è disseminata l'Europa e là sui volti delle persone su migliaia di gesti piccole espressioni vite raccontate su tutto ciò ho improvvisamente cominciato a leggere questo tempo come un insieme compiuto e non solo questo tempo avevo imparato a leggere in me stessa e così ero in grado di leggere anche negli altri era proprio come se le mie dita sensibili sfiorassero i contorni di questo tempo e di questa vita com'è possibile che quel pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato dove si riversava e scorreva tanto dolore umano sia diventato un ricordo quasi dolce che il mio spirito non sia diventato più tetro in quel luogo ma più luminoso e sereno a Westerbork ho letto un tratto del nostro tempo che non mi sembra privo di significato ho amato tanto la vita quando ero seduta a questa scrivania ed ero circondata dai miei scrittori dai miei poeti e dai miei fiori e là tra le baracche popolate da uomini scacciati e perseguitati ho trovato la conferma di questo amore la vita in quelle baracche piene di correnti d'aria non contrastava affatto con la vita in questa camera protetta e tranquilla non sono mai stata tagliata fuori da una vita per così dire passata per me esisteva solo una grande significativa continuità come potrò descrivere tutto ciò e far sentire quanto la vita sia bella e degna di essere vissuta e giusta sì proprio giusta forse Dio mi concederà quelle poche semplici parole parole che siano anche colorite appassionate e serie ma soprattutto semplici come posso rappresentarlo con poche tenere leggere robuste pennellate il piccolo villaggio di baracche tra cielo e brughiera come posso far sì che anche altri leggano dentro a tutte quelle persone persone che devono essere decifrate come geroglifici tratto dopo tratto finché non ci si trova davanti a un unico grande e comprensibile insieme incorniciato da cielo e brughiera una cosa è certa non potrò mai scrivere le cose come la vita le ha scritte per me in caratteri viventi ho letto tutto con i miei occhi e con i miei sensi ma non saprò mai raccontarlo allo stesso modo potrei anche disperarmi per questo se non avessi imparato che dobbiamo accettare le nostre forze insufficienti però con queste forze dobbiamo veramente lavorare cammino accanto agli uomini come se fossero piantagioni e osservo quant'è cresciuta la pianta dell'umanità sento che questa casa comincia a scivolarmi giù dalle spalle ed è un bene che sia così il distacco si compie definitivamente e con molta cautela e malinconia ma anche con la certezza che è un bene e che non può essere diversamente lascio che tutto scivoli giorno dopo giorno e con una camicia indosso e una nello zaino come era già quella fiaba di Corman sull'uomo senza camicia un re cercava per tutto il reame la camicia del suo suddito più felice e quando ebbe trovato quell'uomo si scoprì che non aveva camicia e con quella minuscola bibbia forse posso portarmi anche i vocabolari russi e i racconti popolari di Tolstoi e forse forse ci sarà anche posto per un volumetto di lettere di Rilke c'è anche quel maglione di pura lana di pecora lavorato a mano da un'amica quante cose possiedo ancora dio mio e una persona come me vuole essere un giglio del campo dunque con quell'unica camicia nello zaino me ne vado incontro a un avvenire sconosciuto così si dice ma sotto i miei piedi girovaghi non c'è forse dappertutto la stessa terra e lo stesso cielo ora con la luna ora con il sole per non parlare di tutte le stelle non si stende forse sopra i miei occhi rapiti perché si dovrebbe parlare di un avvenire sconosciuto 25 settembre class non si combina niente con l'odio la realtà è ben diversa da come ce la costruiamo noi prendi quel nostro assistente lo vedo spesso nei miei pensieri la cosa che più colpisce in lui è il suo collo dritto e rigido odia i suoi persecutori con un odio che suppongo giustificato ma anche lui è un uomo crudele sarebbe un perfetto capo di un campo di concentramento osservavo spesso mentre stava all'ingresso quasi fosse là per acchiappare i suoi compagni ebrai scacciati non era mai uno spettacolo molto consolante mi ricordo ancora il modo con cui aveva dato a un bambino di tre anni che piangeva due sporchi pezzetti di liquirizia e li aveva buttati sulla tavola di legno dicendogli paternamente sta attento a non sporcarti il muso ripensandoci credo si trattasse di goffagine e di timidezza piuttosto che di malagrazia semplicemente non riusciva a trovare il tono giusto ma era anche uno dei giuristi più brillanti in Olanda e i suoi articoli così intelligenti erano formulati alla perfezione l'uomo che si era impiccato all'ospedale ricordandosi di cancellarlo dallo schedario ogni volta che lo vedevo girare tra la gente con quel collo dritto lo sguardo dispotico e la sua eterna pipetta mi veniva da pensare gli manca solo una frusta in mano mi starebbe magnificamente bene ma non ero risentita con lui mi interessava troppo in certi momenti mi faceva una pena terribile aveva una bocca così insoddisfatta o meglio così infelice era la bocca di un bambino di tre anni che non è riuscito ad imporsi a sua madre nel frattempo lui aveva passato la trentina era diventato un bel uomo noto giurista e padre di due figli ma quella bocca da bambino insoddisfatto di tre anni era rimasta tale e quale anche se naturalmente era diventata un po' più grossa col passar del tempo a guardarlo bene non era affatto attraente vedi class quell'uomo era pieno di odio per quelli che potremmo chiamare i nostri carnefici ma anche lui avrebbe potuto essere un perfetto carnefice e persecutore di uomini indifesi eppure mi faceva tanta pena riesci a capirci qualcosa non aveva mai contatti amichevoli con i suoi compagni e se questo succedeva agli altri lui li guardava di sottecchi con un'espressione così affamata potevo vederlo e osservarlo in continuazione in quel luogo si viveva senza muri più tardi un collega che lo conosceva da anni mi aveva raccontato alcuni particolari della sua vita nei primi giorni della guerra si era buttato in strada dal terzo piano ma non era riuscito ad ammazzarsi come doveva pur essere sua intenzione in seguito ci aveva riprovato questa volta sotto una macchina ma anche questo tentativo era fallito poi aveva trascorso qualche mese in un istituto per malattie mentali era paura tutta paura era un giurista così brillante e acuto e nelle discussioni accademiche aveva sempre l'ultima e decisiva parola ma nel momento decisivo era saltato giù dalla finestra sua moglie doveva camminare per casa in punta di piedi e lui faceva delle scenate ai figli atterriti mi faceva tanta tanta pena che vita è mai questa class volevo solo dire questo abbiamo ancora così tanto da fare con noi stessi che non dovremmo neppure arrivare al punto di odiare i nostri cosiddetti nemici siamo ancora abbastanza nemici fra noi e non ho neppure finito quando dico che anche fra noi esistono carnefici e persone malvage in fondo io non credo affatto nelle cosiddette persone malvage vorrei poter raggiungere le paure di quell'uomo e scoprirne la causa vorrei rintracciarlo nei suoi territori interiori class è l'unica cosa che possiamo fare di questi tempi allora class ha fatto un gesto stanco e scoraggiato e ha detto ma quel che vuoi tu richiede tanto tempo e ce l'abbiamo forse ho risposto ma a quel che vuoi tu si lavora da duemila anni nella nostra era cristiana senza contare le molte migliaia di anni in cui esisteva già l'umanità e che cosa pensi del risultato se la domanda è lecita e con la solita passione anche se cominciavo a trovarmi noiosa perché finisco sempre per ripetere le stesse cose ho detto è proprio l'unica possibilità che abbiamo class non vedo altre alternative ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri e convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale e class vecchio e arrabbiato militante di classe ha replicato sorpreso e sconcertato insieme sì ma ma questo sarebbe di nuovo cristianesimo e io divertita da tanto smarrimento ho risposto con molta flemma certo cristianesimo e perché poi no che io possa rimanere sana e forte quella baracca talvolta al chiaro di luna fatta da argento ed eternità come un giocattolino sfuggito alla mano distratta di dio 24 settembre almeno abbiamo una consolazione diceva Max col suo sogghigno un po' aspro e goffo laggiù la neve è talmente alta d'inverno che copre le finestrine delle baracche così farà buio anche di giorno si trovava persino spiritoso ma almeno avremo un buon calduccio non sarà mai sotto zero e nell'officina ci hanno messo due stufe continuava con entusiasmo quelli che ce le hanno portate raccontavano che si accendono così bene che scoppiano dopo la prima volta potremo condividere tante cose quest'inverno se sappiamo aiutarci reciprocamente a sopportare il freddo il buio e la fame e se capiremo che ci toccherà sopportare tutto ciò insieme con l'umanità intera anche con i nostri cosiddetti nemici e se ci sentiremo inseriti in un tutto e sapremo di essere uno dei tanti fronti sparsi per tutta la terra avremo una baracca di legno sotto il cielo con letti che provengono dalla linea Maginot tre cuccette una sull'altra e niente luce perché da Parisi continuano a non mandare quel cavo e quando anche ci fosse la luce manca comunque la carta per oscurare le finestre ho interrotto tutto nel bel mezzo ed è di nuovo sera oggi il mio corpo ci è comportato in modo odioso sotto la mia lampada d'acciaio c'è un ciclamino rosso-rosa stasera sono stata molto con esse ho sentito improvvisamente un principio di tristezza anche questo fa parte della vita eppure ti sono così riconoscente mio dio sono persino quasi fiera e tu non mi nasconda i tuoi ultimi i tuoi massimi enigmi potrò pensarci una vita intera ma stasera avevo di colpo tante cose da chiedergli anche su di lui tante cose che non mi erano chiare ora devo trovare le risposte da sola è una grande responsabilità ma devo dire che mi sento capace di assumerla strano che quando trillerà il telefono non sarà mai più la sua voce con quel mezzo imperioso mezzo tenero stia un po' a sentire sarà ben difficile di tanto in tanto da quanto tempo non ho più visto Tide il mio arricchimento di questi ultimi giorni gli uccelli del cielo e i gili del campo e Matteo 6.33 ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù domani un appuntamento con Rukohen al caffè de Paris sulla dama V Schelte Mapline c'erano cinque persone in camicia da notte e pantofole e comincia a fare così freddo hanno anche portato via una persona malata di cancro all'ultimo stadio e ieri sera hanno anche ucciso un ebreo nella Van Berle Strat cioè appena girato l'angolo da qui perché voleva fuggire tanti uomini vengono uccisi dappertutto mentre io sto scrivendo vicino al mio ciclamino rosso-rosa e alla lampada d'acciaio della mia scrivania intanto il mio brazzo sinistro riposa sulla piccola bibbia aperta ho mal di testa e mal di pancia e in fondo al mio cuore ci sono quei soleggiati giorni estivi nella brughiera e quel campo giallo di rupini che arrivava fino alla baracca di disinfestazione non è passato neppure un mese era il 27 agosto da quando Job mi aveva scritto eccomi di nuovo seduto con le gambe che penzolano fuori dalla finestra ad ascoltare l'immenso silenzio il campo di rupini ora senza i suoi colori esultanti è immerso nella luce confortante della luna tutto è di una solennità e di una pace che mi rendono muto e serio salto giù dalla finestra faccio pochi passi sulla sabbia soffice e guardo la luna e poi finisce quella lettera notturna scritta con la sua calligrafia compatta e fitta su una brutta carta capisco che si possa dire qui si può solo fare un gesto inginocchiarsi no non l'ho fatto non lo trovo necessario mi sono inginocchiato stando seduto sulla finestra e poi sono andato a dormire è così singolare che quell'uomo si è improvvisamente quasi silenziosamente comparso nella mia vita vivo e vivificante mentre il grande amico l'ostetrico della mia anima soffriva nel suo letto e ridiventava bambino in un momento difficile come questo mi chiedo che intenzioni hai nei miei confronti mio dio forse dipende dalle mie intenzioni verso di te improvvisamente tutte le pene notturne e le solitudini di un'umanità sofferente attraversano il mio piccolo cuore e lo fanno dolorare quante pene voglio prendere su di me quest'inverno più tardi viaggerò nei paesi del tuo mondo mio dio io lo sento in me questo istinto che passa ai confini che sa scoprire un fondo comune nelle varie creature in lotta fra loro su tutta la terra e vorrei parlare di questo fondo comune con voce sommessa e dolcissima insieme persuasiva e ininterrotta dammi le parole e dammi la forza ma prima voglio trovarmi al fronte tra gli uomini sofferenti e poi avrò bene il diritto di parlare ogni volta è come una piccola ondata di calore anche dopo i momenti più difficili la vita è davvero bella è un sentimento inspiegabile che non può fondarsi sulla realtà in cui viviamo ma non esistono forse altre realtà oltre a quella che si trova sui giornali e nei discorsi vuoti e infiammati di uomini intimoriti esiste anche la realtà del ciclamino rossorosa e del grande orizzonte che si può sempre scoprire dietro il chiasso e la confusione di questo tempo dammi un piccolo verso al giorno mio dio e se non potrò sempre scriverlo perché non ci sarà più carta e perché mancherà la luce allora lo dirò piano alla sera al tuo gran cielo ma dammi un piccolo verso di tanto in tanto 25 settembre le 11 di sera Tide mi ha raccontato di un'amica che dopo la morte del marito le aveva detto dio mi ha messo in una classe superiore i banchi sono ancora un po' troppo grandi e quando abbiamo parlato del fatto che lui non c'era più e che tutte e due stranamente non sentivamo nessun vuoto anzi una tale pienezza Tide si è stretta un momento nelle spalle mi ha detto con un sorriso coraggioso sì i banchi sono ancora un po' troppo grandi ogni tanto è un po' difficile Matteo 523 se tu dunque stai presentando la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello poi torna a presentare la tua offerta è già successo che i galeoni carichi di tesoro naufragassero nell'oceano l'umanità ha sempre provato a ripescare quei tesori sommersi nel mio cuore sono già naufragati tanti galeoni e per tutta la vita cercherò di riportare alla superficie una parte dei tesori che ora giacciono sul fondo non possiedo ancora gli strumenti adatti dovrò fabbricarli dal nulla trotterellavo accanto a Rue e dopo una lunga conversazione che toccava di nuovo tutte le questioni ultime mi sono improvvisamente fermata nel mezzo di quella stretta e banale Govert-Finkstra e gli ho detto e poi Rue io ho una qualità così infantile che ogni volta mi fa trovare bella la vita e che forse mi aiuta a sopportare tutto così bene Rue mi ha guardata pieno di aspettativa e io ho detto come se fosse la cosa più naturale del mondo non è forse così sì vedi io credo in Dio sembrava un po' sconcertato mi ha guardata in viso come se cercasse qualcosa di misterioso ma poi credo che fosse molto contento di me forse è per questo che mi sono sentita così raggiante e forte per il resto della giornata perché ho detto così di getto così semplicemente in mezzo a quel grigio quartiere popolare sì vedi io credo in Dio è un bene che io sia rimasta qui per qualche settimana tornerò laggiù rinnovata e rinvigorita non ho avuto un vero senso comunitario ho fatto troppo i miei comodi certo che avrei potuto andare a trovare il vecchio bottenheimer invece di sbrigarmela col pretesto che tanto non potevo fare niente per loro e così ci sono altre cose in cui ho mancato ho cercato troppo il mio piacere c'erano due occhi in cui guardavo troppo volentieri alla sera nella brughiera era molto bello ma ho mancato in tanti modi anche verso le ragazze della mia camerata di tanto in tanto buttavo loro qualche briciola di me stessa e poi scappavo di nuovo via non era ben fatto però sono riconoscente che sia stato così e sono anche riconoscente di poter riparare al male fatto credo che ritornerò laggiù più seria e concentrata e meno volta alla ricerca del mio piacere se si vuole influire moralmente sugli altri bisogna cominciare a prendere sul serio la propria morale io saltello qua e là con Dio come se fosse una cosa da nulla ma dovrei vivere conformemente non ci siamo ancora non ci siamo proprio ancora a volte mi comporto come se fosse già tutto risolto sono frivola e faccio i miei comodi spesso vivo le cose più da artista che da persona seria ho anche un lato bizzarro e capriccioso e avventuroso ma mentre me ne sto seduta a questa scrivania alla sera tardi sento che in me c'è anche una grande forza crescente serietà una forza che spinge e indirizza una tacita voce che mi dice cosa devo fare e che mi fa scrivere molto schiettamente ho mancato in tanti modi il mio vero lavoro deve ancora cominciare finora è stata soprattutto spielerai 26 settembre le nove e mezzo mio dio ti ringrazio perché ho potuto conoscere così pienamente una delle tue creature anima e corpo mio dio devo lasciarti più fare e non devo neppure metterti delle condizioni purché io stia bene anche se non sto bene la tua vita non continua forse ad andare avanti e nel modo migliore non posso certo avere delle pretese e non le avrò ed ecco che nel momento in cui ci ho rinunciato anche il mio mal di stomaco è migliorato parecchio stamattina presto ho sfogliato i miei diari mille ricordi mi sono venuti incontro è stato un anno intensamente ricco inoltre ogni giorno porta una nuova ricchezza e ti ringrazio perché mi hai concesso tanto spazio da poterla accogliere tutta mi rendo conto sempre di più che Rilke è stato uno dei miei grandi educatori in quest'ultimo anno 27 settembre che si possa essere un fuoco sfavillante tutte le parole ed espressioni adoperate sinora mi sembrano grigie pallide scolorite se paragonate all'intensa gioia di vivere all'amore e alla forza che si sprigionano ora da me il mio fratellino pianista ventunenne mi scrive da un manicomio nell'ennesimo anno di guerra Henry anch'io credo so che esiste un'altra vita credo persino che certe persone siano in grado di vederla e di viverla anticipatamente quello è un mondo in cui gli eterni sussurri mistici si sono fatti viva realtà e in cui gli oggetti e le parole comuni hanno acquistato un significato più alto è probabile che a guerra finita gli uomini saranno più ricettivi a quella realtà che l'umanità intera sarà compenetrata di un ordine superiore e se anche io distribuissi tutti i miei beni al sostentamento dei poveri e non avessi l'amore tutto questo non mi servirebbe a niente tu non hai più da soffrire uomo viziato io invece posso resistere bene a quel po' di freddo e di filo spinato e continuo a farti vivere faccio vivere la parte immortale di te è curioso come una persona si ritrovi poi sempre con qualcosa di materiale Tide mi ha dato il suo pettinino rosa in fondo non voglio neppure avere delle fotografie sue e forse non pronuncerò mai più il suo nome ma quel brutto pettinino rosa rotto con cui l'ho visto pettinare i suoi radicapelli per un anno e mezzo è ora nel mio portafoglio tra i miei documenti più importanti e sarei disperata se dovessi mai perderlo una persona è proprio uno strano essere 28 settembre Audi et alteram partem ascolta anche l'altra parte il bandito dal nome falso col gas svenefici e i mughetti e l'infermiera corrotta mi aveva proprio fatto impressione sentirmi dire da quell'internista galante dagli occhi malinconici lei ha una vita spirituale troppo intensa le fa male alla salute è troppo per la sua costituzione Giopi aveva sentito pensieroso quando gliel'avevo raccontato ho ruminato a lungo su queste parole e sono sempre più convinta del contrario è vero che vivo intensamente a volte mi sembra di vivere con un'intensità demoniaca ed estatica ma ogni giorno mi rinnovo alla sorgente originaria alla vita stessa e di tanto in tanto mi riposo in una preghiera e chi mi dice che vivo troppo intensamente non sa che ci si può ritirare in una preghiera come nella cella di un convento e che poi si prosegue con rinnovata pace ed energia credo che sia soprattutto la paura di sprecarsi a sottrarre alle persone le loro forze migliori se dopo un laborioso processo che è andato avanti giorno dopo giorno riusciamo ad aprirci un varco fino alle sorgenti originarie che abbiamo dentro di noi e che io chiamerò Dio e se poi facciamo in modo che questo varco rimanga sempre libero lavorando a noi stessi allora ci rinnoveremo in continuazione e non avremo più da preoccuparsi di dar fondo alle nostre forze non credo nelle determinazioni oggettive infinito a intrezzarsi di reciproche influenze umane dicono che sei morto troppo presto bene allora ci sarà un libro di psicologia in meno ma è entrato un po' più d'amore in questo mondo 29 settembre questo è un peccato contro lo spirito e si vendicherà ogni peccato contro lo spirito si vendica credo anche che ogni peccato contro l'amore per gli altri si vendichi nella persona stessa come nel mondo circostante voglio ricopiare ancora una volta Matteo 634 non siate dunque inquieti per il domani perché il domani avrà le sue inquietudini a ciascun giorno basta la sua pena bisogna combatterle come le pulci le tante piccole preoccupazioni per il futuro che divorano le nostre migliori forze creative ci organizziamo l'indomani nei nostri pensieri ma poi va tutto in modo diverso molto diverso a ciascun giorno basta la sua pena si devono fare le cose che vanno fatte e per il resto non ci si deve lasciar contagiare dalle innumerevoli paure e preoccupazioni meschine che sono altrettante emozioni di sfiducia nei confronti di Dio andrà tutto a posto con quel permesso di soggiorno e con quelle tessere è inutile che io ci rumini su è molto meglio che faccia un tema di russo in fondo il nostro unico dovere morale è quello di dissodare in noi stessi vaste aree di tranquillità di sempre maggior tranquillità fin tanto che si sia in grado di irraggiarla anche sugli altri e più pace c'è nelle persone più pace ci sarà in questo mondo agitato poco fa una piccola conversazione telefonica con Toos Giopi scrive di non mandare dei pacchi sta succedendo di tutto laggiù Hanen ha scritto una lettera a sua moglie troppo poco per capirci qualcosa e troppo per non preoccuparsene fa paura e poi anche dentro di me c'è qualcosa che non funziona più bene bisogna reagire bisogna sapersi isolare da quel chiasso sterile che si diffonde come una malattia contagiosa ma così posso di nuovo rendermi un po' conto di come stia tutta quella gente povere e aride vite e così si arriva a dire come ho sentito spesso non riesco più a leggere un libro non riesco più a concentrarmi oppura una volta avevo sempre la casa piena di fiori ma ora no ora non ne ho più voglia sono vite impoverite sono vite povere adesso so di nuovo che posizione prendere se solo si potesse far capire alla gente che si può lavorare alla propria pace interiore e continuare ad essere produttivi e fiduciosi dentro di noi malgrado le paure e le voci che circolano che possiamo costringersi a inginocchiarci nell'angolo più remoto e tranquillo del nostro essere e rimanerci fin tanto che su di noi non si stenda nient'altro che un purissimo cielo da ieri sera ho potuto di nuovo sperimentare su me stessa quanto la gente soffra è un bene doverselo ricordare e dover reagire ogni volta e poi continuare indisturbati a percorrere i vasti e sgombri paesaggi del proprio cuore ma non sono ancora a questo punto prima si va dal dentista e oggi pomeriggio sul kaisersgracht 30 settembre essere fedeli a tutto ciò che si è cominciato spontaneamente a volte fin troppo spontaneamente essere fedeli a un sentimento a ogni pensiero che ha cominciato a germogliare essere fedeli nel senso più largo del termine fedeli a se stesso a dio ai propri momenti migliori e dunque si è essersi al 100% il mio fare consisterà nell'essere soprattutto devo essere più fedele a quel che vorrei chiamare il mio talento creativo per modesto che sia ad ogni modo ci sono tante cose che vorrebbero essere dette e scritte da me e dovrei finalmente mettermici invece cerco in tutti i modi di scappare e in questo manco d'altra parte so che devo aspettare con pazienza che le mie parole crescano ma devo anche aiutarle è sempre così si vorrebbe scrivere subito qualcosa di straordinario e di geniale e ci si vergogna delle proprie sciocchezze ma se io ho un dovere nella vita in questo tempo in questo stadio della mia vita è proprio quello di scrivere annotare conservare le cose nel frattempo le digerirò comunque io leggo la vita come un tutto coerente so che sono in grado di leggerla e nella mia presunzione e pigrizia giovanili penso che tanto mi ricorderò ogni cosa e che più tardi saprò anche raccontarla ma dovrò pur crearmi dei piccoli punti di partenza io vivo la vita sino in fondo ma sento sempre più che ho delle responsabilità verso quelli che vorrei chiamare i miei talenti ma dove cominciare mio dio ci sono così tante cose non devi neppur pretendere di scrivere le cose così come le hai appena vissute con tanta intensità sarebbe un errore non si tratta di questo non so ancora come farò a dominare tutta questa materia so soltanto che dovrò fare tutto da sola e che ho abbastanza forza e pazienza per riuscirci devo anche essere fedele non posso più disperdermi come sabbia al vento io mi divido tra gli affetti le impressioni le persone e le emozioni che mi toccano devo rimanere fedele a tutti ma devo anche essere fedele al mio talento vivere tutto quanto non è più sufficiente ci vuole qualcosa in più credo di vedere sempre meglio gli abissi che inghiottano le forze creative e la gioia di vivere dell'uomo sono buche che ingoiano tutto e queste buche sono nella nostra stessa anima a ciascun giorno basta la sua pena inoltre l'uomo soffre soprattutto per la paura del dolore ed è la materia è sempre la materia che attira tutto lo spirito a sé e non viceversa vivi troppo con lo spirito e perché no perché non ho abbandonato immediatamente il mio corpo alle tue mani desiderose l'uomo è una strana creatura quanto vorrei scrivere da qualche parte in me c'è un'officina in cui dei titani riforgiano il mondo una volta avevo scritto disperata è proprio nella mia testolina nel mio cranio che dove essere spiegato il mondo ora lo penso ancora di tanto in tanto con una presunzione quasi diabolica riesco sempre più ad affrancare la mia forza creativa dalle necessità materiali dal pensiero della fame del freddo e dei pericoli ed è pur sempre un'idea non una realtà la realtà è qualcosa che bisogna prendere su di sé con tutto il suo dolore e con tutte le sue difficoltà e intanto che la si sopporta la nostra pazienza aumenta ma l'idea del dolore non il dolore vero che è fruttuoso e può rendere la vita preziosa quella va distrutta e se si distruggono i preconcetti che imprigionano la vita come inferriate allora si libera la vera vita e la vera forza che sono in noi e allora si avrà anche la forza di sopportare il dolore reale nella nostra vita e nella nostra umanità venerdì mattina a letto correrò questo rischio non sono del tutto onesta con me stessa dovrò ancora imparare questa lezione e sarà la lezione più difficile mio dio prendere su di me il dolore che mi imponi tu e non quello che mi sono scelta io in questi giorni io spendo tante parole per convincere me stessa e gli altri che devo tornare laggiù e che il mio stomaco non è poi così importante forse non lo è per davvero ma quando si ha bisogno di tante argomentazioni c'è qualcosa che non va infatti è così e ora posso ricominciare da capo a dir forte a me stessa ma sì certo in questi tempi capita a tutti di sentirsi fiacchi e con la testa che gira per qualche giorno ma quando passa passa e allora si continua come se niente fosse mi sembra mi sembra di aver solo bisogno di stendere la mano per tenere in pugno tutta l'Europa Russia compresa così piccolo chiaro familiare mi è diventato il tutto e così vicino anche in questo letto ricordatelo bene anche in questo letto anche se fossi costretta a rimanerci quieta e immobile per settimane intere ti prometto di vivere pienamente dovunque tu decida di farmi fermare ma vorrei tanto partire mercoledì anche se fosse solo per due settimane sì lo so che ci sono dei rischi ci sono sempre più SS nel campo e sempre più filo spinato tutto intorno le restrizioni aumentano e forse tra due settimane non potremo neppure più venire via anche questo è possibile ti senti di correre questo rischio il mio dottore mi ha forse ordinato di stare a letto era stupito invece che non fosse ancora ripartita per Westerbork ma che cosa c'entra il dottore se anche cento dottori mi dichiarassero in perfetta salute ma una voce interiore mi dicesse di non andarci bene allora non ci dovrai andare aspetterò ancora un pocenno mio dio nel frattempo mi dispongo a partire tratterò con te vuoi? posso partire mercoledì prossimo posso rimanere in quella brughiera per due settimane e se non dovessi star bene rimarrò qui a curarmi accetteresti una transazione simile? non credo eppure vorrei proprio partire mercoledì per tanti buoni motivi adesso sarà bene che dorma un po' anche se non ho affatto finito di parlare con te ma so bene che la mia pazienza più vera e più profonda mi ha abbandonata so anche che la ritroverò quando sarà necessario e la mia onestà rimarrà sempre con me ma ora è tutto molto difficile aspetterò fino a domenica e se non si tratterà di un semplice capogiro passezzero dovrò essere ragionevole e rimarrò qui mi prendo ancora tre giorni ma allora devo anche stare tranquilla ragazza mia non fare stupidaggini non consumare una vita intera in un paio di settimane le persone che vuoi raggiungere le raggiungerai comunque non sono quelle due settimane che contano non scherzare con la tua vita preziosa non provocare a bella posta gli dei che ti hanno organizzato meravigliosamente ogni cosa non distruggere il loro lavoro mi prendo ancora tre giorni più tardi ho la sensazione che la mia vita laggiù non sia ancora conclusa che non sia ancora diventata un insieme compiuto come un libro e quale libro in cui io sia rimasta a metà vorrei tanto continuare a leggere a volte quando ero laggiù mi pareva che tutta la mia vita antecedente fosse stata una preparazione alla mia vita in quella comunità eppure non avevo vissuto piuttosto appartata fino allora più tardi fiorire e dar frutti in qualunque terreno si sia piantati non potrebbe essere questa l'idea e non dobbiamo forse collaborare alla sua realizzazione credo che imparerò si dovrebbe prendere le distanze da tutti quei nomi che vanno bene per gli specialisti non è necessario sapere che si chiama emorragia dello stomaco ulcera dello stomaco o anemia per sapere cos'è probabilmente dovrò starmene coricata per un po' ma voglio accettarlo e mi invento dei bellissimi ragionamenti per dimostrare che non è una cosa grave e che posso partire mercoledì farò così mi prenderò ancora tre giorni e se poi mi sentirò sempre ancora prigioniera di questa corazza di debolezza rinuncerò ai miei progetti presuntuosi e se lunedì mi sentissi bene in quel caso andrò da Neuburg e gli dirò nel mio modo più accattivante già mi vedo con un sorriso in cui compare un nuovo dente di porcellana bordato d'oro dottore vengo a parlarle come a un amico ecco le cose stanno così ma vorrei tanto partire crede che potrei e so già che mi risponderà di sì perché sarò così persuasiva da fargli erodire gli farò rispondere quel che mi fa piacere di sentire è dunque così che vivono gli uomini usano gli altri per farsi convincere di qualcosa in cui in fondo non credono cercano negli altri uno strumento per coprire la propria voce interiore se ascoltassimo solo un po' di più questa voce se provassimo solo a farne risuonare una dentro di noi quanto meno caos ci sarebbe imparerò ad accettare la mia parte qualunque essa sia quante cose ho imparato stando a letto stamattina sono sempre piuttosto soddisfatta quando un progetto umano ragionevole si rivela pura vanità avremmo dovuto spoggiarsi eravamo sicuri che in due saremmo riusciti a sopportare le miserie di questo tempo ora nel più remoto angolino di quel grande cimitero fiorito di Zorkflid c'è un corpo consunto sotto una pietra mi piacerebbe vederla e io sono prigioniera della mia debolezza e devo starmene colicata in questa stanzetta che è mia già da quasi sei anni vanità delle vanità ma non era vano scoprire in me stessa che ero in grado di aprirmi completamente con qualcuno di legarmi e di condividere con lui le necessità del momento questa non era vanità e per il resto non mi ha forse sgombrato la strada che conduce direttamente a Dio dopo avermela aperta con le sue imperfette mani umane no mia cara non mi piace affatto come il tuo corpo si comporta sotto quelle coperte non essere mobili è proprio brutto e quanto era mobile mio Dio quanto ero persino stupita e incantata per come percorrevo le tue strade sconosciute con uno zaino sulle mie spalle poco esercitate era un tale miracolo all'improvviso mi si erano aperte delle porticine sul mondo delle porticine che avevo sempre creduto sbarrate e quanto si erano aperte ma ora sono malata sono proprio malata ti concedo ancora due giorni e mezzo in futuro voglio visitarli tutti uno per uno gli uomini che a migliaia sono finiti in quel pezzo di brughiera passando per le mie mani e se non li troverò troverò le loro tombe non potrò più rimanere tranquillamente seduta alla mia scrivania voglio andare per il mondo vedere coi miei occhi e sentire coi miei orecchi com'è andata a tutti coloro che abbiamo fatto partire a fine pomeriggio ho camminato un po' per la casa chissà forse andrà meglio del previsto forse è solo un po' di anemia che potrò sistemare anche laggiù con qualche flaconcino di medicina del resto una persona non deve essere miope e non deve puntare su scadenze troppo ravvicinate e così pare che il mio caso sia bloccato ho chiesto al notaio dalla gamba corta ora dovrei fare i salti dalla gioia vero? ma io non voglio affatto avere quei foglietti per cui gli ebrai si fanno reciprocamente a pezzi perché devono toccare proprio a me vorrei trovarmi in tutti i campi che sono sparsi per tutta l'Europa vorrei essere su tutti i fronti io non voglio per così dire stare al sicuro voglio esserci voglio che ci sia un po' di fratellanza tra tutti questi cosiddetti nemici dovunque io mi trovi voglio capire quel che capita e vorrei che tutti coloro che riuscirò a raggiungere so che sono in grado di raggiungerli fammi guarire mio Dio possano capire questi grandi avvenimenti come li capisco io sabato mattina le sei e mezzo in bagno comincio a soffrire di insonnia e questo non va stamattina all'alba sono saltata giù dal letto e mi sono inginocchiata alla finestra l'albero era immobile nell'alba grigia e silenziosa ho pregato mio Dio concedimi la pace grande e potente della tua natura se vuoi farmi soffrire dammi il dolore grande e pieno non le mille piccole preoccupazioni che consumano completamente dammi pace e fiducia fa che ogni mia giornata sia qualcosa di più che le mille preoccupazioni per la sopravvivenza quotidiana e tutte le nostre preoccupazioni per il cibo i vestiti il freddo la salute non sono forse altrettante emozioni di sfiducia nei tuoi confronti mio Dio e non ci castighi forse prontamente con l'insonnia con una vita che non è più una vita sono disposta a rimanere tranquillamente coricata per qualche giorno ma allora voglio essere un'unica grande preghiera un'unica grande pace devo portare nuovamente la mia pace con me la paziente deve fare vita tranquilla pensa tu alla mia pace mio Dio dovunque mi troverò potrebbe essere che non la sento più perché sto per compiere dei passi sbagliati forse non so sono una persona così socievole mio Dio non ho mai saputo quanto voglio stare fra gli uomini fra le loro paure voglio vedere tutto da me e capirlo e raccontarlo più tardi ma vorrei tanto star bene in questi giorni mi preoccupo troppo per la mia salute e questo è naturalmente sbagliato fa che in me ci sia la stessa grande immobilità che c'era nella tua alba grigia fa che la mia giornata sia qualcosa di più che le semplici preoccupazioni per il corpo alla fine io ricorro sempre allo stesso rimedio salto giù dal letto e mi inginocchio in un angolino nascosto della mia camera non voglio neppure forzarti la mano mio Dio fammi guarire in due giorni so che tutto deve crescere che è un lento processo ora sono circa le sei e mezzo mi laverò dalla testa ai piedi con acqua fredda e poi me ne starò coricata nel mio letto starò immobile e non scriverò niente in questo quaderno cercherò di stare semplicemente distesa e di essere tutta una preghiera da altre volte sono stata così male da credere che ci avrei messo delle settimane per uscirne fuori da altre volte sono stata così male da credere che ci avrei messo delle settimane per uscirne fuori e invece dopo pochi giorni era tutto passato ma in questo momento vivo male è un atteggiamento forzato se fosse possibile in qualche modo mi piacerebbe partire mercoledì so bene che ora non posso dare molto a una comunità di persone vorrei tanto stare un po' meglio ma non devo volere le cose devo lasciare che le cose si compiano in me ed è proprio ciò che non sto facendo che sia fatta non la mia ma la tua volontà un po' più tardi certo è il nostro totale annientamento ma sopportiamolo con grazia in me non c'è un poeta in me c'è un pezzetto di dio che potrebbe farsi poesia in un campo deve pur esserci un poeta che da poeta viva anche quella vita e la sappia cantare di notte mentre ero coricata nella mia cucchetta circondata da donne e ragazze che russavano piano o sognavano ad alta voce o piangevano silenziosamente o si giravano e rigiravano donne e ragazze che dicevano così spesso durante il giorno non vogliamo pensare non vogliamo sentire altrimenti diventiamo pazze a volte provavo un'infinita tenerezza me ne stavo sveglia e lasciavo che mi passassero davanti gli avvenimenti le fin troppe impressioni di un giorno fin troppo lungo e pensavo su lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca ora voglio esserlo un'altra volta vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di concentramento sono coricata qui con tanta pazienza e di nuovo calma e già mi sento assai meglio leggo le lettere di rilke i bergot e ogni sua parola è carica di significato per me avrei potuto scriverle io stessa se le avessi scritte io le avrei scritte così e non diversamente mi sento anche la forza di partire non penso più a far progetti e a correre rischi andrà come andrà e sarà per il meglio sabato poveriggio le 4 ora mi arrendo completamente già mi vedo partire mercoledì su queste gambette vacillanti una cosa proprio triste sono così riconoscente di poter stare coricata qui di poter essere tranquillamente malata e che mi si voglia curare prima devo guarire bene altrimenti sarò solo un peso per una compagnia credo proprio di essere un po' malata dalla testa ai piedi stretta in una corazza di debolezza e vertigine non devo proprio essere infantile o impaziente che fretta ho di condividere tutte le miserie degli altri dietro quel filo spinato e che cosa sono sei settimane in una vita intera il mio cranio è stretto in un cerchio di ferro e sul mio capo pesa un'intera città di rovine non voglio essere una foglia malata e avvizzita che si stacca dal tronco della comunità 3 ottobre sabato sera le 9 se vuoi proprio guarire devi vivere diversamente devi tacere per giorni interi e rinchiuderti in camera tua e non lasciare entrare nessuno è l'unico modo non va bene come ti comporti adesso forse diventerai ancora ragionevole si dovrebbe pregare giorno e notte per quelle migliaia non si dovrebbe stare neanche un minuto senza preghiera so che un giorno avrò il dono dell'eloquenza 4 ottobre domenica sera stamattina Tide oggi pomeriggio il professor Becker più tardi Giopi Smelic pranzato con Han capogiro debolezza mio Dio mi dai dei tesori da custodire fa che li custodisca e li amministri bene tutto questo parlare con gli amici mi fa male ora mi logora completamente non sono abbastanza forte per tirarmi indietro per trovare il giusto equilibrio tra il lato introverso e il lato estroverso di me stessa sarà un grosso compito i due lati sono equalmente forti in me mi piace aver contatto con le persone mi sembra che la mia intensa partecipazione porti alla luce la loro parte migliore e più profonda le persone si aprono davanti a me ognuna è come una storia raccontatami dalla vita stessa e i miei occhi incantati non hanno che da leggere la vita mi confida così tante storie vorrei raccontarle a mia volta renderle evidenti a coloro che non sono in grado di leggerle direttamente mio Dio mi hai concesso il dono di poter leggere mi concederesti anche quello di poter scrivere una volta tanto nel cuore della notte siamo rimasti soli Dio e io non c'è più nessun altro che mi possa aiutare ho delle responsabilità ma non me le prendo veramente scherzo ancora troppo e sono indisciplinata non mi sento affatto impoverita ma ricca e in pace siamo rimasti solo Dio e io 8 ottobre giovedì pomeriggio sono ammalata non ci posso far niente più tardi raccoglierò tutte le lacrime e le paure laggiù in fondo lo faccio già in questo letto forse è per questo che ho la febbre e il capogiro non voglio essere il cronista di orrori e neanche di fatti sensazionali ancora stamattina ho detto a Giopi eppure arrivo sempre alla stessa conclusione la vita è bella la vita è bella io credo in Dio e voglio stare proprio in mezzo ai cosiddetti orrori e dire ugualmente che la vita è bella e ora eccomi coricata in un angolino con febbre e capogiro e non posso far nulla poco fa mi sono svegliata con la gola secca ho affarrato il mio bicchiere ed ero così riconoscente per quel sorso d'acqua ho pensato se solo potessi andare in giro fra quelle migliaia di uomini ammassati laggiù e potessi offrire un sorso d'acqua ad alcuni di loro ogni volta mi dico su non è poi così grave sta tranquilla non è così grave sta tranquilla quando capitava che una donna o un bambino affamato si mettessero a piangere dietro uno dei nostri tavoli di registrazione mi mettevo dietro di loro quasi a proteggerli le mie braccia incrociate sul petto sorridevo un pochino e dentro di me dicevo a quell'esserino rannicchiato e smarrito tutte queste cose non sono poi così gravi non sono proprio così gravi rimanevo lì e cero si poteva far altro a volte mi sedevo vicino a qualcuno passavo un braccio intorno a una spalla non dicevo molto e guardavo le persone in faccia nulla mi era nuovo non una di quelle espressioni di dolore umano tutto mi pareva così familiare come se sapessi e avessi già vissuto ogni cosa certi mi dicono hai dei nervi d'acciaio a resistere non credo di avere dei nervi d'acciaio credo anzi di avere dei nervi piuttosto sensibili però sono in grado di resistere ho il coraggio di guardare in faccia ogni dolore e alla fine di ogni giornata mi dicevo sempre voglio tanto bene agli uomini non provavo mai amarezza per quel che veniva fatto loro sempre invece amore per come degli uomini fossero capaci di sopportare il dolore ne fossero capaci per impreparati che fossero dentro di sé mi viene in mente quel biondo max dalla testa rasata su cui i capelli ricominciavano a crescere e dagli occhi azzurri e dolci e sognanti era stato così maltrattato ad Amersfoort e non aveva più potuto essere deportato ed era rimasto indietro in un ospedale una sera ci aveva raccontato per filo e per segno i maltrattamenti subiti in futuro ci sarà chi pubblicherà tutti questi dettagli e probabilmente sarà necessario per tramandare la storia di questo tempo nella sua compiutezza io non ne sento il bisogno indomani a quel punto è improvvisamente comparso papà e c'è stata una grande agitazione mia suave monachina e don chisottismo e signore rendimi più desiderosa di capire che di essere capita ora sono le undici di mattina giopi dovrebbe essere arrivato a Westerbork mi sembra di esserci anch'io stamattina devo di nuovo lottare contro tanta impazienza e scoraggiamento sono preoccupata per il mal di schiena e per quel senso di pesantezza alle gambe che vorrebbero tanto viaggiare per il mondo ma non ne sono ancora in grado anche questo si farà non si deve essere così materialisti e mentre me ne sto coricata qui non viaggio forse per il mondo in me scorrono i larghi fiumi e si innalzano le grandi montagne dietro agli arbusti della mia irrequietezza e dei miei smarrimenti si stendono le vaste pianure della mia calma e del mio abbandono tutti i personaggi sono in me ho tanto posto ora in me c'è la terra e c'è anche il cielo capisco benissimo che gli uomini abbiano potuto inventare qualcosa come l'inferno il mio inferno non lo vivrò mai più l'ho già sperimentato una volta ed è bastato per una vita intera ma posso vivere molto intensamente quello degli altri così deve essere del resto altrimenti potrei diventare troppo autosufficiente e per quanto possa sembrare paradossale quando si punta troppo sull'unione fisica quando si investono tutte le proprie energie nel desiderio della persona amata in fondo le si fa torto perché allora non rimangono più forze per essere veramente con lei rileggerò Sant'Agostino è così austero e così ardente è così appassionato si abbandona così completamente nelle sue lettere d'amore a Dio in fondo quelle a Dio sono le uniche lettere d'amore che si dovrebbero scrivere sono presuntuose a dire che possiedo troppo amore per darlo a una persona sola l'idea che per tutta la vita si debba amare sempre e soltanto una persona mi sembra così infantile può impoverire e inaridire parecchio chissà se la gente imparerà che l'amore per la persona reca assai più felicità e buoni frutti che l'amore per se stesso e che questo priva di rinfe vitali la comunità degli uomini congiungo le mani in un gesto che mi è divenuto caro e attraverso il buio ti dico cose sciocche e serie e imploro una benedizione sulla tua bella testa sincera in una parola sola si direbbe che prego buonanotte mio caro sabato mattina credo di poter sopportare e accettare ogni cosa di questa vita e di questo tempo e quando la burrasca sarà troppo forte e non saprò più come uscirne mi rimarranno sempre due mani congiunte e un ginocchio piegato è un gesto che a noi ebrai non è stato tramandato di generazione in generazione ho dovuto impararlo a fatica è l'eredità più preziosa che io abbia ricevuto dall'uomo di cui ho già dimenticato il nome ma la cui parte migliore continua a vivere in me com'è strana la mia storia la storia della ragazza che non sapeva inginocchiarsi o con una variante della ragazza che aveva imparato a pregare è il mio gesto più intimo ancora più intimo dei gesti che ho per un uomo non si può certo riversare tutto il proprio amore su una persona sola 12 ottobre 42 le mie impressioni sono sparse come stelle sfavillanti sullo scuro velluto della memoria l'età dell'anima è diversa da quella registrata all'anagrafe credo che l'anima abbia una determinata età fin dalla nascita e che questa età non cambi più si può nascere con un'anima che ha 12 anni si può anche nascere con un'anima che ne ha mille esistono ragazzini 12 anni in cui si sente un'anima simile credo che l'anima sia la parte più inconscia dell'uomo soprattutto in occidente penso che un orientale viva la propria anima molto di più l'occidentale non sa bene che farsene e se ne vergogna come di una cosa immorale l'anima è diversa da ciò che noi chiamiamo sentimento ci sono persone che hanno molto sentimento ma poca anima ieri ho chiesto a Maria a proposito di una persona è intelligente si ha risposto lei ma solo col cervello esse diceva sempre di Tide ha l'intelligenza dell'anima quando ci capitava di parlare della nostra grande differenza d'età esse diceva sempre chi mi dice che la sua anima non sia più vecchia della mia a volte torno ad accendermi completamente quando come ora l'amicizia e le persone che ci sono state in quest'ultimo anno risorgono in tutta la loro grandezza e mi colmano di riconoscenza ora sono quel che si dice malata e anemica e più o meno obbligata a stare a letto eppure ogni minuto è pieno di ricchezza cosa succederà quando starò di nuovo bene devo ogni volta esultare ed acclamarti mio Dio ti sono così riconoscente perché mi hai concesso una vita simile un'anima è fatta di fuoco e di cristalli di rocca è una cosa molto severa e dura in senso vetero testamentario ma è anche dolce come il gesto delicato con cui la punta delle sue dita sfiorava le mie ciglia di sera e poi ci sono momenti in cui la vita è dura e così scoraggiante allora sono agitata irrequieta e stanca al tempo stesso oggi pomeriggio ho avuto momenti molto creativi e ora una spossatezza come se avessi sparso il mio seme non potrò far altro che starmene immobile sotto le coperte e aspettare con pazienza che questo scoraggiamento questo senso di dispersione in tante direzioni mi passino una volta facevo pazzie in situazioni simili mi mettevo a bere con gli amici e pensavo al suicidio o leggevo tutta la notte in cento libri diversi bisogna anche accettare i momenti non creativi più li si accetta onestamente più essi passano in fretta si deve avere il coraggio di fermarsi di essere talvolta vuoti e scoraggiati buonanotte caro spino delle dune l'indomani mattina presto faccio roteare una matitina come se fosse una false ma non riesco a falciare le molte screscenze del mio spirito ci sono persone che mi porto dentro come boccioli e che lascio sbocciare ce ne sono altre che mi porto dentro come ulcere finché si aprono e suppurano Franz Wibernach non conosco una buona traduzione olandese di questa parola sono distesa qui da ieri sera e intanto comincio ad assorbire una piccola parte del grande dolore che deve essere assorbito su tutta la terra comincio a mettere al coperto un po' del dolore che patiremo quest'inverno non si può farlo in una volta sola oggi sarà una giornata molto pesante rimarrò a letto con calma e anticiperò una piccola parte dei duri giorni che verranno quando soffro per gli uomini indifesi non soffro forse per il lato indifeso di me stessa ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l'ho distribuito agli uomini perché no erano così affamati e da tanto tempo finisco sempre per tornare a Rilke è così strano Rilke era un uomo fragile e ha scritto una gran parte della sua opera fra le mura di castelli ospitali e magari sarebbe stato distrutto dalle circostanze in cui ci troviamo a vivere noi ma non è proprio questo un segno di buona economia il fatto che in circostanze tranquille e favorevoli artisti sensibili possano cercare indisturbati la forma più giusta e più bella per le loro intuizioni più profonde e che poi in tempi più agitati e debilitanti queste stesse forme possano offrire appoggio e protezione agli uomini smarriti ai turbamenti e ai problemi che non trovano forma o soluzione perché ogni energia è consumata dalle necessità quotidiane in tempi difficili si tende a disprezzare le acquisizioni spirituali di artisti vissuti in epoche cosiddette più facili ma essere artista non è di per sé abbastanza difficile e si dice tanto cosa ce ne facciamo è un atteggiamento comprensibile ma miope e rende infinitamente poveri si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite lettera da Westerbork 3 luglio 43 Westerbork Giopi class miei chiari amici dalla mia cuccetta che è la terza in alto voglio ancora presto scatenare una vera orgia di lettere tra pochi giorni verrà messo un limite a tutto il nostro scrivere io diventerò ufficialmente residente nel campo e potrò spedire solo una lettera ogni due settimane e dovrò consegnarla aperta e ci sono ancora alcune cosarelle di cui voglio parlare con voi ho davvero scritto una lettera così scoraggiata quasi non riesco a crederci è vero che ci sono dei momenti in cui uno crede di non poter proprio andare avanti ma si va poi sempre avanti anche questo si impara col tempo però il paesaggio che abbiamo intorno appare improvvisamente mutato il cielo diventa basso e nero il nostro modo di sentire la vita subisce dei grandi mutamenti e il nostro cuore diventa completamente grigio e millenario ma non è sempre così un essere umano è una cosa ben singolare la miseria che regna qui è davvero indescrivibile nelle grandi bracche si vive come topi in una fogna si vedono languire molti bambini ma si vedono anche molti bambini sani una notte della settimana scorsa è transitato qui un convoglio di prigionieri visi trasparenti e pallidi come la cera non ho mai visto tanta stanchezza e sfinimento su un volto a Westerbork dovevano passare per così dire attraverso la chiusa registrazione e ancora una volta registrazione perquisizione da parte di allampanati dnsb quarantena una piccola via crucis di ore ed ore alla mattina presto sono stati ammassati in vagoni merci vuoti il loro treno è stato ancora sigillato con tavole di legno qui in Olanda altro ritardo poi tre giorni di viaggio a est materassi di carta per terra per i malati per gli altri vagoni completamente spogli con un barile nel mezzo e circa 70 persone in un vagone chiuso ci si può portare solo un tascapane mi chiedo quanti di loro arriveranno vivi e i miei genitori si preparano a un viaggio simile a meno che Barneveld non diventi inaspettatamente una possibilità completa a meno che Barneveld non diventi inaspettatamente una possibilità concreta poco tempo fa ho passeggiato un po' con papà nel deserto sabbioso e polveroso è infinitamente caro è una bella rassegnazione diceva con molta grazia e con molta calma quasi disfuggita in fondo vorrei andare in Polonia il più presto possibile così avrò finito prima e sarò morto in tre giorni non ha più senso continuare questa esistenza disumana e perché poi quel che tocca migliaia di altri uomini non potrebbe toccare pure a me più tardi abbiamo riso sul paesaggio intonato sulla nostra situazione a volte è proprio come un deserto malgrado i fiori violetti di rupini e di coronarie e certi uccelli graziosi che somigliano a gabbiani gli ebrei nel deserto è un paesaggio che conosciamo bene e così un piccolo papà tanto amabile può pesare parecchio e si perde la speranza ma sono solo stati d'animo può essere anche diverso e allora ridiamo insieme e ci meravigliamo di tante cose incontriamo molti parenti che non abbiamo visto da anni giuristi un bibliotecario eccetera che spingono carriole piene di sabbia e indossano tutte goffe e malconce ci guardiamo un momento e non diciamo molto un giovane triste ufficiale della gendarmeria mi ha detto una notte in cui doveva partire uno di quei convogli in una notte simile io perdo due chili e mezzo e non devo far altro che sentire vedere e tacere per lo stesso motivo non scrivo molto neanch'io ma ho perso il filo volevo solo dire questo la miseria che c'è qui è veramente terribile eppure alla sera tardi quando il giorno si è inabissato dietro di noi mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato e allora dal mio cuore si innalza sempre una voce non ci posso far niente è così è una forza elementare e questa voce dice la vita è una cosa splendida e grande più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo a ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere e se sopravviveremo infatti a questo tempo corpo e anima ma soprattutto anima senza amarezza senza odio allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola finita la guerra forse io sono una donna ambiziosa vorrei dire anch'io una piccola parolina parli di suicidio e di madri e figli certo che posso capire queste cose ma trovo che è un argomento malsano c'è un limite a tutte le sofferenze forse a un essere umano non tocca sopportare più di quanto non possa oltrepassato quel limite muore da sé ogni tanto qui muore qualcuno perché il suo spirito è a pezzi e non riesce più a capire in genere sono persone giovani le persone anziane sono piantate in un terreno più solido e accettano il loro destino con dignità e rassegnazione sì qui si vede una gran varietà di persone e si osserva il loro atteggiamento verso le questioni più ardue le questioni ultime proverò a descrivervi come mi sento ma non so se questa metafora è giusta quando un ragno tesse la sua tela non lancia forse fili principali davanti a sé e ci si arrampica poi sopra la strada principale della mia vita è tracciata per un lungo tratto davanti a me e arriva già in un altro mondo è proprio come se tutte le cose che succedono e succederanno qui siano già in qualche modo date per scontate dentro di me ne ho già vissute e assorbite e partecipo alla costruzione di una società futura la vita qui non consuma troppo le mie forze più profonde fisicamente si va forse un po' giù e spesso si è immensamente tristi ma il nostro nucleo interiore diventa sempre più forte vorrei che fosse così anche per voi e per tutti i miei amici è necessario dobbiamo ancora condividere molte esperienze e molto lavoro tutti insieme perciò vi raccomando rimanete al vostro posto di guardia se ne avete già uno dentro di voi e per favore non rattristatevi né disperatevi per me non c'è motivo i levi hanno delle difficoltà ma appartengono anche loro a quel genere di persone che se la cavano e che hanno molte riserve interiori malgrado la loro debole costituzione i bambini sono a volte molto sporchi l'igiene è il problema più grave qui un'altra volta vi scriverò di loro vi accludo due righe che avevo cominciato per papà e mamma ma che non ho più avuto bisogno di spedire forse ci troverete qualcosa che vi interessa avrei anche un desiderio se non sono indiscreta un cuscino per esempio un vecchio cuscino di un divano quella paglia è proprio un po' dura alla lunga ma dalla provincia si possono spedire solo dei pacchetti formato lettera di non più di due chili forse un cuscino pesa di più forse se passate da Pahan a Amsterdam siategli molto vicini vi prego e portategli anche questa lettera potreste spedirlo da là per il resto il mio unico desiderio è che stiate bene e che siate lieti scrivetemi ogni tanto due righe innocenti con molto molto affetto Etti 10 luglio 43 Maria ciao da diecimila sono partiti da questo luogo vestiti e svestiti vecchi e giovani malati e sani e io sono ancora in grado di vivere e lavorare ed essere lieta ora anche i miei genitori dovranno partire se non questa settimana per virtù di un qualche miracolo certamente la prossima e io devo imparare ad accettare anche questo miscia vuol partire con loro e mi sembra che debba farlo perderà la testa se li vedrà partire io non lo farò non posso è più facile pregare per qualcuno da lontano che vederlo soffrire da vicino e dunque anche questa è viltà la gente non vuol riconoscere che a un certo punto non si può più fare ma soltanto essere e accettare ho cominciato ad accettare già da molto tempo ma accettare si può solo per se stessi e non per gli altri ed è per questo che sto passando un momento terribilmente difficile qui la mamma e miscia vogliono sempre fare ancora qualcosa e mettere il mondo sotto sopra e io sono del tutto impotente di fronte al loro atteggiamento io non posso fare nulla non l'ho mai potuto io posso solo prendere le cose su di me e soffrire in questo sta la mia forza ed è una grande forza ma per me stessa non per gli altri papà e mamma sono stati respinti a Barnefeld l'abbiamo saputo ieri devono tenersi pronti per partire col convoglio di martedì miscia vuole andare dal comandante e dirgli che è un assassino dovremo tenerlo d'occhio in questi giorni papà è apparentemente molto tranquillo ma sarebbe stato distrutto in pochi giorni se fosse rimasto nella grande baracca e se non gli avessi trovato un posto all'ospedale dove la vita sta pure diventando più o meno invivibile per lui è completamente indifeso e non è in grado di cavarsela anche le mie preghiere non sono come dovrebbero so bene che si deve pregare per gli altri nel senso che trovino la forza di sopportare ogni cosa invece io dico sempre signore fa che duri il meno possibile e così sono paralizzata in tutte le mie azioni da un lato vorrei preparare i loro bagagli nel modo migliore dall'altro so che glieli porteranno via ne siamo sempre più sicuri e dunque perché darsi ancora tutta questa pena qui a Westerbork ho un buon amico avrebbero dovuto deportarlo la settimana scorsa quando sono andata da lui era dritto come una candela il viso calmo lo zaino pronto accanto al suo letto non abbiamo parlato della sua partenza mi ha detto diverse cose che aveva scritto e abbiamo ancora filosofato per un po' non ci siamo resi le cose difficili col nostro dolore per l'imminente distacco abbiamo riso e ci siamo detti che ci saremmo rivisti eravamo ambedue in grado di sopportare il nostro destino ed è proprio questa la cosa che fa disperare qui la maggior parte delle persone non è in grado di sopportare il proprio destino e lo scarica sulle spalle altrui e sotto quel peso non sotto il proprio si potrebbe anche soccombere io mi sento all'altezza del mio destino ma non mi sento in grado di sopportare quello dei miei genitori questa è l'ultima lettera che posso scrivere per ora oggi pomeriggio dobbiamo consegnare i nostri documenti di identità e diventiamo ufficialmente residenti nel campo perciò dovrai avere un po' di pazienza con le mie notizie forse riuscirò a contrabbandare una lettera prima o poi le tue due lettere sono arrivate ciao Maria amichetta mia Etty ma so bene che non posso parlare così a quelle giovani donne coi loro piccini che probabilmente andranno dritto all'inferno su uno di quei nudi treni merci e naturalmente mi risponderebbero hai un bel dire tu che non hai figli ma questo non c'entra proprio per niente c'è una frase della Bibbia che mi dà sempre forza credo che sia all'incirca così se tu mi ami devi abbandonare i tuoi genitori ieri sera mentre dovevo di nuovo lottare duramente per non essere paralizzata dalla compassione per i miei genitori ho visto anche questo non bisogna lasciarsi consumare dal dolore e dalle preoccupazioni per la famiglia al punto da non provare più interesse e amore per il prossimo sono sempre più convinta che l'amore per il prossimo per qualsiasi creatura a somiglianza di Dio debba stare più in alto dell'amore per i parenti non fraintendetemi vi prego si dice che sia contro natura e mi rendo conto che fatico ancora troppo a scrivere di queste cose mentre sono così semplici nella vita stasera vado con Mechanicus a trovare Ann Marie e il suo ospite di sempre il capo delle bracche che ha una cameretta tutta per sé ce ne staremo seduti in quella che per Westerbork è una grossa stanza con una bassa e grande finestra aperta e dietro quella finestra la brughiera così vasta e ondeggiante come il mare l'anno scorso vi scrivevo sempre da quel posto Ann Marie ci farà certamente del caffè e il nostro ospite ci racconterà come si viveva una volta nel campo è qui già da cinque anni e più tardi Philip ne ricaverà delle piccole storie io frugherò nei miei barattolini per vedere se trovo qualcosetta da mangiare con il caffè e chissà forse Ann Marie avrà fatto di nuovo un budino l'altra volta c'era quel tuo indimenticabile budino di mandorle Letie oggi ha fatto caldo sarà una bella sera estiva davanti a quella finestra aperta e a quella brughiera più tardi Philip ed io andremo a cercare Giopi e come un pacifico terzetto passeggeremo intorno alla grande tenda beduina grigia che si innalza su un largo spiazzo sabbioso una volta quella tenda serviva per la disinfestazione dai pidocchi ora ospita su pelletti rirubate alle case degli ebrei che finiranno come offerte in Germania o andranno ad arricchire la casa del comandante dietro quella tenda il sole dà spettacolo ogni sera con un tramonto diverso quanti paesaggi ospita questo campo nella brughiera del Drente credo che il mondo sia bello dappertutto anche nei luoghi che nei libretti di geografia sono descritti come desolati e aridi e monotoni del resto la maggior parte dei libri non vale nulla e dovremmo riscriverli la mia lettera quindicinale l'ho scritta a Tide ma mi è stato permesso di scriverla da una parte sola del foglio cari miei come avete fatto a procurarvi quella mezza libra di burro era una cosa principesca mi sono spaventata tanto era enorme perdonatemi questa fine materialista ora sono le sei e mezzo e devo andare a prendere la piccola razione di cibo per la famiglia vi saluto tutti con molto molto affetto Etty in futuro quando la mia casa non sarà più un gecidio di ferro in un luogo circondato dal filo spinato voglio avere una lampadina sopra il mio letto così di notte ci sarà luce ogni volta che lo vorrò spesso nel mio dormiveglia turbinano pensieri e piccoli racconti vuoti e trasparenti come bolle di sapone vorrei poterli catturare su un pezzo di carta quando mi sveglio alla mattina mi sento come dentro un bozzolo è un ricco risveglio sai ma poi comincia a volte una piccola passione pensieri e immagini si agitano intorno a me sono così tangibili e vogliono essere messi sulla carta ma non c'è nessun posto in cui si possa stare seduti con calma certe volte passo delle ore a cercarlo una volta nel cuore della notte una gatta randagia è entrata nella baracca e abbiamo messo una cappelliera sul gabinetto e là ha avuto i suoi piccoli certe volte mi sento come un gatto randagio senza cappelliera stanotte è nato il figlio di Giopi si chiama Benjamin e dorme nel cassetto di un armadio vicino a mio padre hanno messo un malato di mente sai se qui tu non hai una grande forza interiore se non guardi alle apparenze come a pittoreschi accessori che non intaccano il grande splendore non mi viene in mente un'altra parola che può essere una parte inalienabile della tua anima allora è proprio una situazione disperata è così così triste vedere tutte quelle persone abbandonate a se stesse che perdono il loro ultimo asciugamano che si arrabattano con scatoline scodelle di cibo picchieri pane muffito e biancheria sporca sopra sotto e di fianco alle loro cucette e sono infelici perché altre persone sono spesso sgarbate urlano loro ma che a loro volta urlano con gli altri e non se ne rendono conto bambinetti lasciati soli dai genitori deportati che trascurati dalle madri degli altri bambini già sono in pena per i propri pulcini che hanno la diarrea e ogni sorta di malattie grandi e piccole mentre prima erano sempre stati bene dovresti vedere la disperazione apatica e folle di quelle povere madri sedute accanto al giaciglio dei loro figlioletti che piangono e che non vogliono crescere ho messo insieme questa paginetta in dieci posti diversi dietro il tavolino del telegrafo nella baracca dove noi lavoriamo su una carriola vicino a dove lavorano e marie al caldo per ore in mezzo a ragazzini del popolo che urlano senza riguardo e che in questo momento lei non sopporta più ieri le ho asciugato le non poche lacrime ma non farle capire niente che ve l'ho scritto questi scarabocchi per te sono anche per svip poi durante la conferenza di un professore di sociologia piuttosto logorroico poi stamattina su un pezzettino di duna ventosa sotto il cielo ogni volta ci aggiungo una parola e ora mi trovo nella sala mensa tra mezzi di cartone dell'ospedale l'ho scoperto poco fa forse potrò ritirarmi qui di tanto in tanto domattina Giopi va ad Amsterdam per la prima volta in questi mesi provo una stretta al cuore ben disciplinato perché la barriera rimane sempre ancora chiusa per me ma a ognuno il suo momento quasi tutte le persone che sono qui sono molto più povere del necessario perché registrano la loro nostalgia degli amici e della famiglia come una perdita nel libro dei conti della vita mentre il fatto stesso che un cuore è in grado di desiderare e di amare così tanto dovrebbe essere contato fra i beni più preziosi santo il dio credevo di aver trovato un posticino tranquillo ed ecco che si sta riempendo di gente col camice che porta dentro sbattacchianti pentoloni di vari cibi mescolati insieme e personale dell'ospedale che si siede ai tavoli di legno per mangiare è solo mezzogiorno andrò a cercarmi un altro posticino un piccolo tentativo filosofico a sera inoltrata con gli occhi che mi si chiudono per il sonno certe volte si sente dire tu volgi proprio tutto in bene trovo che è un'espressione così priva di coraggio le cose sono dappertutto completamente buone e al tempo stesso completamente cattive così si bilanciano dappertutto e sempre io non ho mai la sensazione che devo volgere qualcosa in bene tutto è sempre completamente un bene così com'è ogni situazione per quanto penosa è qualcosa di assoluto e contiene in sé il bene come il male volevo solo dire questo l'espressione volgere qualcosa è in bene in fondo mi disgusta e così pure l'espressione tirare fuori il meglio da ogni situazione mi piacerebbe poterti spiegare bene perché se tu sapessi che sono potrai proprio dormire per due settimane di fila ora porterò questa lettera a Giopi domattina lo accompagnerò al piccolo edificio della gendarmeria e lui andrà ad Amsterdam e io tornerò fra le bracche vi saluto miei cari Etty 18 agosto Tideke questa volta non volevo quasi scrivere perché mi sentivo terribilmente stanca e perché credevo di non aver più niente da dire ma certo che ho molto da dire però preferisco che i miei pensieri fluiscano liberamente verso di voi tanto so che li captate oggi pomeriggio mentre riposavo nella mia cucetta mi è venuto da scrivere queste cose nel mio diario ora le mando a te mi hai resa così ricca mio Dio lasciami anche dispensare agli altri a piene mani la mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te mio Dio un unico grande colloquio da volte quando me ne sto in un angolino nel campo i miei piedi piantati sulla tua terra i miei occhi rivolti al cielo le lacrime mi scorrono sulla faccia lacrime che sgorgono da una profonda emozione e riconoscenza anche di sera quando sono coricata nel mio letto e riposo in te mio Dio lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia e questa è la mia preghiera sono molto molto stanca già da diversi giorni ma anche questo passerà tutto avviene secondo un ritmo più profondo che si dovrebbe insegnare ad ascoltare è la cosa più importante che si può imparare in questa vita io non combatto contro di te mio Dio tutta la mia vita è un grande colloquio con te forse non diventerò mai una grande artista come in fondo vorrai ma mi sento già fin troppo al sicuro in te mio Dio a volte vorrei incidere nelle piccole massime e storie appassionate ma mi ritrovo prontamente con una parola sola Dio e questa parola contiene tutto e allora non ho più bisogno di dire quelle altre cose e la mia forza creativa si traduce in colloqui interiori con te e le ondate del mio cuore sono diventate qui più lunghe mosse e insieme tranquille e mi sembra che la mia ricchezza interiore cresca ancora da qualche tempo Jules si libra nel cielo di questa brughiera è una cosa inesplicabile è un nutrimento quotidiano accadono proprio dei miracoli in una vita umana la mia è una catena di miracoli interiori fa bene poterlo di nuovo dire a qualcuno la tua fotografia si trova nello stundenbuch di Rilke insieme a quella di Jules tutte e due stanno sotto il mio guanciale insieme con la mia piccola Bibbia anche la tua lettera con le citazioni è arrivata si scrivi ancora sta bene cara etti domenica mattina 21 agosto 43 nel reparto maternità c'è un bebè di nove mesi una piccola bambina qualcosa di molto bello e dolce e con gli occhi celesti è arrivata qui diversi mesi fa come Esfal caso penale la polizia l'aveva scovata in una clinica nessuno sa chi o dove siano i genitori per ora la tengono nel reparto maternità le infermiere si sono affezionate a questo giocattolino ma volevo dire questo nei primi tempi quella neonata non poteva essere portata fuori tutti gli altri bebè stavano all'aria aperta nelle loro carrozzelle ma lei doveva rimanere dentro era pur sempre una esfal l'ho chiesto a tre infermiere diverse qui io vado sempre a sbattere contro dei fatti che mi paiono inverosimili ma che ogni volta mi vengono confermati nella mia baracca ospedale ho incontrato una ragazzina gracile denutrita di 12 anni nello stesso modo simpatico ingenuo in cui un altro bimbo ti racconta delle tabelline che impara a scuola mi ha detto sì io vengo dalla baracca di punizione io sono un caso penale un bimbetto di tre anni e mezzo aveva rotto un vetro con un bastone e quando suo padre gli aveva fatto una terribile sfuriata ero scoppiato in un pianto di rotto e aveva detto adesso mi mettono nel numero 51 la prigione e devo partire da solo sul treno dei prisionieri è sconcertante come i bambini parlano tra loro ho sentito un ragazzino dire a un altro no sai il marchio da 120.000 non è proprio il migliore ma se tu sei per metà ariano e per metà portoghese allora sì che va bene Anne Marie ha sentito una madre dire al suo bambino nella brughiera e se adesso non finisci da bravo il tuo budino partirai senza la mamma stamattina la donna che ha la cucetta sopra quella della mamma ha fatto cadere una bottiglia d'acqua che le ha inondato il letto una cosa del genere diventa qui una calamità naturale di cui vi potete difficilmente immaginare la portata fuori di qui si potrebbe paragonare a una casa devastata da un'inondazione cominciò ad amare questa mensa d'ospedale è proprio come una capanna indiana una bassa baracca di legno grezzo tavoli e panche idem piccole finestre che sbattono e per il resto niente fuori si vede un'arida striscia di sabbia con erba incolta limitata da una specie di diga sabbiosa tirata su dal canale davanti a questa diga serpeggia un binario abbandonato durante la settimana uomini seminudi abbronzati vi si divertono su quei vagoncini qui non si vede la brughiera che invece si vede da ogni altro angolo di questo paesino sperduto dietro il filo spinato c'è una pianura ondulata di bassi arbusti sembrano piccoli abeti questo tratto di paesaggio spietatamente arido la rozza capanna di tronchi i mucchi di sabbia il piccolo canale maleodorante ma non può pensare un terreno da cercatori d'oro al Klondike di fronte a me seduto a rozzo tavolo di legno Mechanicus mordicchia la sua penna stilografica di tanto in tanto alziamo lo sguardo dai nostri foglietti scarabocchiati e ci guardiamo in faccia lui registra fedelmente con una precisione quasi burocratica tutto quel che capita qui è troppo dice a un tratto io so scrivere un pochino ma qui mi trovo davanti a un abisso o davanti a una montagna è troppo comincia a venire gente e borghesi con i logori abiti confezionati e marchiati e siedono a mangiare cavoli rapa da scodelle smaltate 6-7 settembre 43 cari signor Wegeriff Hans Maria Tide e tutti voi che conosco un po' meno bene non sarà facile darvi queste notizie è successo improvvisamente così inaspettatamente strano che sia ancora una sorpresa dal momento che eravamo tutti pronti da tempo e così è stato lei era pronta e a me è anche partita Dalaia si era saputo solo nella tarda giornata di lunedì che la richiesta desonero di Mischa era stata respinta e che anche lui sarebbe dovuto partire con il convoglio del 7 settembre insieme con la sua famiglia perché già questo non si sa quasi mai in un primo tempo avevamo sperato e creduto che le cose sarebbero andate per un altro verso e che l'ordine di partenza avrebbe dovuto comunque essere revocato peretti e poi proprio oggi avevamo ottenuto che gli ex impiegati del consiglio ebraico 60 persone in tutto non sarebbero dovuti partire per il momento ben presto si era visto che per Mischa e per i genitori c'era poco da fare mentre tutte le possibilità rimanevano aperte peretti così ci siamo innanzitutto preoccupati di preparare velocemente i bagagli di tre persone sì l'avevamo presa bene e sapeva già da tempo che prima o poi questo doveva succedere e la settimana prossima tutti i genitori di quelli che hanno il marchio rosso sarebbero comunque dovuti partire senza eccezioni Mischa aveva già deciso di partire con i suoi genitori e per loro era pronto a sacrificare tutti i suoi privilegi personali ora tutto questo succede con una settimana di anticipo un po' bruscamente è vero ma in fondo si trattava solo di una differenza di tempo ma peretti era un colpo dal momento che non voleva viaggiare con i suoi genitori e che preferiva abbandonarsi a questa nuova esperienza libera dal peso di legami familiari per lei è stato come un colpo in testa e per un momento l'ha messa letteralmente a terra un'ora dopo però si era già ripresa e si è adattata con ammirevole rapidità alla nuova situazione ci siamo recati insieme alla baracca numero 62 e per ore abbiamo scelto impaccato tirato fuori e ripartito ogni sorta di abiti e di viveri il padre di Etti tradiva il proprio nervosismo con battute umoristiche che ogni volta mandavano in bestia Mischa perché trovava che non prendeva le cose abbastanza sul serio Mischa non riusciva a capire perché il rinvio che pareva sicuro fosse stato improvvisamente annullato e voleva mandarmi in continuazione da conoscenze più o meno importanti non capiva che un ordine della house non può essere contraddetto qui e che in casi di questo genere è inutile darsi da fare però era tranquillo e prendeva le cose in modo ragionevole certo che gli pesava parecchio dover lasciare qui tutta la sua musica sono riuscito ancora a infilare quattro spartiti arrotolati nel suo zaino il resto anche il pacco di provviste che è appena arrivato riempie ora una valigia che sarà rispedita ad Amsterdam nella prima occasione mamma a cattiva come sempre vadava ogni cosa e mostrava una calma ammirevole spesso nelle notti in cui doveva partire un convoglio tutta la famiglia era rimasta sveglia per il trambusto che quei preparativi creano in una grande baracca questa volta invece dormivano pacificamente quando alle tre Etti ed io siamo passati a vedere se si poteva continuare a preparare i bagagli così siamo tornati a informarci sulle possibilità di un rinvio per Etti e solo allora con nostro grande stupore abbiamo capito che queste possibilità erano minime nel frattempo intanto che Etti si occupava dei suoi genitori e di suo fratello le amiche della sua baracca le avevano fatto i bagagli alla perfezione fin dai minimi dettagli dopo che la direzione del consiglio ebraico aveva dichiarato che non si poteva fare niente per Etti abbiamo ancora provato a scrivere al primo ufficiale di servizio chiedendogli di intervenire forse dunque si potrà ottenere qualcosa al treno ma allora tutto deve essere pronto per la partenza e i suoi genitori e Mischa si sono avviati al treno per primi poi ho portato al treno su una carriola uno zaino ricolmo e un cestino da viaggio a cui erano appesi una scodella e un bicchiere ed ecco Etti sulla banchina che aveva descritto nel suo modo indimenticabile solo 14 giorni fa parlando allegramente ridendo una parola gentile per tutti quelli che incontrava piena di umorismo scintillante anche se forse un pochino malinconico proprio la nostra Etti come tutti voi la conoscete ho con me i miei diari la mia piccola Bibbia la mia grammatica russa e Tolstoi e non so quante altre cose uno dei nostri capi è andato ancora un momento a salutarla e a dirle di avere fatto il possibile ma tutto era stato inutile Etti lo ha ringraziato di aver fatto comunque tutto il possibile e mi ha pregato di raccontarvi ogni cosa e che lei e i suoi erano partiti così bene ed eccomi qua certo un po' triste per qualcosa che si è perduto eppure no perché un'amicizia come la sua non è mai perduta c'è e rimane è quanto ho scritto su un pezzetto di carta e l'ho messo in mano all'ultimo momento l'ho persa di vista e ho girato per un po' nelle vicinanze ho cercato di trovare ancora qualcuno che potesse intervenire è stato tutto inutile vedo la mamma papà H e Miscia salire nel vagone numero uno Etti finisce nel vagone numero dodici dopo essere passata a salutare una sua buona conoscenza nel vagone quattordici che all'ultimo momento viene fatta scendere in treno parte un fischio acuto e i mille abilitati alla deportazione si mettono in moto ancora una visione fuggevole di Miscia che saluta con la mano da una fessura del vagone merci numero uno poi un allegro ciao di Etti dal vagone numero dodici e sono partiti è partita ci sentiamo derubati ma non restiamo a mani vuote e ci rivedremo presto è stato un giorno pesante per tutti per Koiman per Mech per tutti quelli che a lungo erano stati in stretto contatto con lei la vicinanza fisica di una persona è ben diversa dalla sua prossimità spirituale si sente un vuoto all'inizio ma si va avanti mentre scrivo queste cose tutto va avanti e anche lei va avanti sempre più avanti verso l'est dove aveva tanto desiderato di viaggiare e credo che fosse anche un po' contenta di fare questa esperienza di dover vivere pienamente il destino che ci ha riservato e la rivedremo su questo punto noi tutti i suoi amici più stretti a Westerbork siamo d'accordo dopo la sua partenza ho ancora parlato con la sua piccola russa e con diversi altri suoi protege e il loro stato d'animo diceva più che abbastanza sull'amore fedele e leale che Etty ha dato a queste persone perdonate questo povero resoconto voi che siete stati così viziati da racconti migliori e tanto ben scritti so che diversi interrogativi rimarranno aperti e soprattutto questo si poteva evitare ma posso escluderlo evidentemente doveva andare così cercherò di mandarvi alcuni libri di Etty non appena se ne presenterà l'occasione vorrei anche spedire la sua macchina da scrivere a Maria Etty me l'aveva detto proprio questa settimana ma non so se sarà possibile di tanto in tanto vi manderò notizie accludo un paio di lettere che sono arrivate per Etty e che sono state aperte dalla censura rispeditele per favore al mittente fatevi coraggio ritorneremo tutti un giorno persone come Etty sanno cavarsela nelle situazioni più difficili vi penso molto Giopi Richower Grazie 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 Grazie